Buongiorno e benvenuti a tutti. Si inizia. Benvenuti a Terra Operaliena, seconda edizione. Sono Giuseppe Oliva, presidente dell'Associazione Culturale Misteri Hunters. Vi presento un po' la giornata, facendo un brevissimo discorso e poi un po' di slide per avviare il discorso della giornata. Ghett diceva che nel regno delle idee tutto dipende dall'entusiasmo. Nel mondo reale tutto si basa sulla perseveranza. I nostri inizi sono stati infatti così, entusiasmo, questione ed idee. Poi abbiamo avuto lo scontro con la realtà, la diffidenza di molti e la difficoltà da affrontare, soprattutto in questa terra dove restare vivi, per restare vivi, necessità di tirare fuori la sana testardaggine e la voglia di non mollare mai. Sono passati infatti sei anni dalla nostra nascita e tante sono state le scoperte, studiate, acquisite e imparate. Tante le persone che hanno incrociato, incontrato e condiviso la nostra strada, contribuendo così alla nostra crescita. Ad ogni convegno, ad ogni incontro la nostra famiglia cresce e con piacevole ed orgoglioso stupore notiamo ogni volta in quanti avete fame di conoscenza, fame di vedere oltre. Tutti noi guardiamo, ma in pochi abbiamo la capacità reale di vedere. L'obiettivo di questo incontro non è la sfilata di grandi menti autori, ma la voglia di incuriosire e rispondere a menti vigili. Sizzicare e insinuare col sano dubbio nella mente che la storia non bisogna subirla ma rileggerla e se necessario riscriverla. Oggi siamo qui a Rente, anche se non vi rendete conto, consciamente questa sala oggi diventerà una macchina del tempo, che ci accompagnerà viaggiando attraverso la storia, attraverso civiltà antiche scomparse, riportandoci indietro alla fine e prepararci a quello che speriamo sarà la nostra prima e completa pubblicazione. Una collana che chiameremo Orbis Nexum, che terrà diversi temi. E vi renderete conto voi stessi, che coinvolge non solo antiche civiltà, ma anche la nostra Calabria. Perché proprio questa terra impregnata di testimonianze e prove di storia antica sarà finalmente l'esempio di una svolta finale. In questa terra la storia non è solo passata lasciando dietro termine e traccia di ricordi, ma ha scritto intere pagine, ora nascoste, che attendono solo di essere riportate la luce da mente brillante e colte. Siamo letti dunque di valerci del lavoro alla presentazione di questi relatori, che raccontandoci di civiltà antiche e lontane ci faranno percepire che poi così lontane non sono da noi. A tal proposito, ho fatto un brevissimo filmato che presentiamo e spero che apprezzerete. E penso che spiegherà meglio di queste mie parole quello che vogliamo dire, quello che faremo e quello che ascolterete oggi. Grazie. 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 Grazie a tutti, ringraziamo tutti i presenti per la partecipazione e i conferenzieri qui al tavolo dei lavori. Ringraziamo l'Hotello Europa, ovviamente, che ci ospita come ogni anno per questo evento, Terra Opera Aliena, seconda edizione. Riproporremo chiaramente questo evento ogni anno perché è un appuntamento ormai fisso, è un simposio fra l'altro unico nel panorama, almeno del meridione. Per quanto riguarda la nostra associazione, nell'ambito degli interessi e delle finalità statutarie, che potrete visionare sul nostro nuovissimo sito www.misteriunders.it, c'è l'intenzione, oltre alla cura dell'organizzazione di questi esclusivi simposi, anche di valorizzare il nostro territorio, soprattutto portando all'attenzione tematiche nuove e argomentazioni storiche spesso non valorizzate, per poter arricchire ed ampliare le conoscenze su aspetti storici poco noti della nostra regione e del Sud Italia. A tal proposito, abbiamo intenzione di integrare i contenuti già editi sui nostri canali con delle pubblicazioni di prossima uscita, relative appunto agli scopi suddetti. La prima pubblicazione in assoluto, a mia cura per l'Associazione Culturale Misteri Hunters, tratterà del megalitismo calabrese, con particolare riferimento ai meni delle sere vibonesi, comparandoli poi e confrontandoli con il vasto complesso megalitico mediterraneo, ricco di tempi rituali, di mura ciclopiche, di simbologie e riferimenti architettonici assolutamente sorprendenti. A questo seguiranno altre pubblicazioni a creare una collana di informazioni e riferimenti su riflessioni poco conosciute. Allora, il titolo del simposio, Terra Opera Aliena, non è stato scelto a caso. Potrebbe apparire come un titolo spettacolarizzante o pop, in cui si parla solo di alieni cattivi, di ischi volanti, di marziani, che scorrazzano nei cieli in cerca di essere umani o bestiame da rapirie prima dell'ennesima pirotecnica invasione. In realtà, se ci soffermiamo sul termine alieno e la sua etimologia, scopriamo che il suo significato ha poco di hollywoodiano e non è limitato all'iconografia moderna data dalla letteratura, dal cinema o in genere dalla cultura sci-fi. L'aggettivo deriva dal latino alienus, che significa altrui, di altri, o che appartiene ad altri, o meglio, soggetto estraneo all'ambiente di riferimento. Bene, la nostra intenzione, nella titolazione del simposio, è quella di recuperare il significato originario del termine. Terra opera aliena, quindi, potrebbe essere inteso come terra opera di altri, oppure terra opera che appartiene ad altri. Attraverso questo incontro stiamo raccogliendo indizi, fonti storiche, opportunamente approfondite e verificate dagli studiosi coinvolti, in ambiti disciplinari diversi, tali da poter rimarcare e corroborare la validità delle ipotesi legate al coinvolgimento obiettivo e concreto di altri, o altro, nel corso delle vicende umane, agli albori delle antiche civiltà. La concreta possibilità di queste ipotesi, da sempre ed ufficialmente accantonata come pura fantasia in alcuni ambienti, arrivano dalle traduzioni letterali dei testi sacri, dal confronto tra le fonti e reperti, dalle sovrapposizioni, similitudini e rappresentazioni artistiche, e cause ed effetti identici di determinate tradizioni in culture diverse. Appaiono sempre coinvolti gli stessi soggetti, estrani all'ambiente di riferimento. Questi soggetti, spogliati dalle ovvie aure misticheggianti e mitiche, date dalla loro improvvisa dipartita nel passato, utili poi alle invenzioni delle religioni moderne e dei vincoli architipali delle discipline socio-antropologiche, che assegnano loro solo un ruolo di mero transfert della struttura sociale di riferimento, sembrano aver avuto ruoli reali e conseguenze fisiche tra le comunità del passato. Se ammettiamo quindi la possibilità, secondo la famosa formula del facciamo finta che, che gli eventi narrati nei cosiddetti testi sacri e mitologici siano in realtà cronache di eventi realmente accaduti, che hanno prodotto effetti simili in contesti diversi, allora forse potremmo tentare in un mosaico di informazioni coerenti di assegnare una sorta di linearità alla storia, illuminando i suoi punti oscuri. Una linearità che non deve per forza essere gradevole o addirittura salvifica, come erroneamente qualcuno in ambiti New Age tenta di spacciare più o meno sfacciatamente, bensì esclusivamente e squisitamente oggettiva. L'origine precisa di questi altri è a tutt'oggi sconosciuta, è ovviamente frutto di congetture e ipotesi diverse, fuori da ricinti della fede e dello scientismo. Soggetti che provengono da altri pianeti simili al nostro, oppure da piani dimensionali diversi, o addirittura esseri umani provenienti dal futuro, i temi della giornata non riguardano affatto questi ultimi aspetti, di dare risposta univoca a queste ipotesi. Assolutamente no. Ci concentreremo invece sulle fonti storiche, che narrano delle azioni, dei comportamenti, delle vicende, ma anche dei mezzi utilizzati da questi soggetti definiti altri. Tentare di liberarsi dalle catene in una grotta, in cui si scorgono ombre minacciose, per capirne l'origine, e lo scopo è più che mai oggi una priorità. Platone insegna. Lascio ora, ovviamente, la parola, e vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza, ai nostri illustri amici e studiosi, qui accanto. In particolare, lascerò la parola a Massimo Barbetta, che ovviamente vi prego di lasciare spazio, soprattutto ai conferenzieri, e poi traslare eventualmente le domande alla fine di ogni intervento, per un tempo ragionevole. Quindi vi ringrazio e spero che vi piaccia. Grazie. Grazie per l'invito, questa bellissima associazione che ha interessato così tante persone. Io mi interesso delle conoscenze astronomiche dell'antico Egitto come passo successivo dopo aver, diciamo, affrontato con abbastanza interesse le conoscenze astronomiche delle antiche civiltà, quelle sumere-babilonesi, quelle greche, quelle ebraiche. E, diciamo, mi sono interessato perché c'era un qualche cosa di enigmatico, di misterioso in molte concezioni e in molti pensieri. Non era, diciamo, assolutamente facile gli egittologi che si sono occupati insieme agli archiastronomi, che sono gli studiosi, appunto, delle conoscenze astronomiche degli antichi, hanno avuto qualche difficoltà a essere dirimenti e chiari come cercano di essere sempre, perché l'astronomia egizia non è facile, è molto diversa dalla nostra astronomia che ha fonti greche e di matrice babilonese e quindi hanno avuto delle difficoltà. L'hanno dato la palla cosiddetta agli archiastronomi che avevano delle conoscenze in condivisione, però mancando loro il substrato culturale egizio, anche questi hanno avuto delle difficoltà. Una chiave di lettura sicuramente molto interessante per interpretare meglio l'astronomia egizia è stata quella di interfacciarla, in questo caso assolutamente in forma inedita, con alcuni aspetti della teologia egizia, cioè di manifestazioni connesse con il Diorà, la massima divinità dell'antico Egitto che governava e su cui tutti riconoscevano la sua autorità. Ebbene, interfacciando alcune strane descrizioni che sono presenti nei testi della letteratura egizia, cioè i testi delle piramidi trovati storiate all'interno delle piramidi della Quinta e della Sesta Dinastia, i testi dei sarcofagi, il libro dei morti e soprattutto il libro di ciò che c'è nel Duat e il libro delle dodici ore del Duat, sono venuti dei riferimenti abbastanza interessanti e del tutto innovativi. E c'è stata la possibilità di trovare una chiave interpretativa che creasse un ponte di passaggio tra l'astronomia e la teologia. La civiltà egizia, noi sappiamo in generale che per quanto ricca di fascino e di mistero e quindi in possesso di conoscenze molto avanzate per l'epoca, aveva in certi ambiti delle conoscenze come per esempio vediamo dalla diapositiva connesse al tema del tempo sicuramente molto innovative, molto moderne e molto attuali. In questo caso vediamo il concetto del tempo chiaramente inteso non in senso meteorologico ma in senso cronologico. Ebbene gli antichi egizi avevano tre termini per identificare il tempo. Il primo di questi è il cosiddetto tempo circolare connesso per esempio al ciclo delle stagioni connesso con gli ambiti della fertilità per cui alla primavera seguiva l'estate seguiva l'autunno e così capitava ogni anno. Avevano poi un secondo termine che era invece connesso con il tempo lineare in cui lo ieri era diverso dall'oggi e sarà diverso dal domani. Tutti i concetti che chiaramente abbiamo anche noi. Ma nei riquadri rossi vediamo un concetto che abbina i due termini precedenti. Noi vediamo che il primo è il concetto di CET. Allora diciamo che in generale le traduzioni sono di una forma diciamo egitologica relativamente precoce perché vediamo che in tutti e due i casi si abbinava il concetto di un tempo estremamente lungo connesso con l'eternità. Successive valutazioni hanno ampliato questo concetto nella funzione che vi avevo detto. Uno è il tempo circolare l'altro è il tempo lineare. Ma vediamo che questa è la la bocca cioè ha il significato della preposizione per verso in direzione di e siccome i due termini sono quelli di prima abbiamo una correlazione sintattica in cui un tempo si correla con l'altro cioè il tempo circolare va verso in direzione probabilmente in funzione bionivoca cioè da una parte dall'altra e dall'altra verso la precedente appunto collocandole reciprocamente. Quindi l'abbinamento del tempo circolare con un tempo lineare da un qualche cosa che è sicuramente inaspettato che è il tempo a spirale. E questo è un concetto che è abbinato anche all'astrofisica perché se noi abbiamo in fisica e in astrofisica un vettore lineare abbinato al concetto di jet tempo lineare e un vettore circolare abbinato al tempo ciclico abbiamo la cosiddetta forma per esempio auroboros tipico della tradizione lenistica che comprende il concetto di serpente che si morde la coda quasi a un ritorno di un tempo cosmico che si avvolge sempre su se stesso. Ebbene se noi prendiamo un punto di inizio lo septepi il famoso primo tempo corrispondente all'età dell'oro della tradizione greca noi abbiamo un punto di inizio e l'applicazione quindi della combinazione del jetel nehe che è tempo lineare più tempo ciclico dal tempo a spirale. Una spirale che come vediamo in questo esempio tratto da una valutazione di David Rager non ha una fine e quindi si protende fino all'infinito. Se fai tu grazie. Ma nel lessico del geroglifici della lingua egizia abbiamo dei concetti legati alla valutazione del tempo estremamente diciamo diversificati direi quasi in una funzione non solo incredibile dal punto di vista dell'epoca ma direi quasi incredibile dal punto di vista anche attuale. Questo è la divinità He, il dio cosiddetto dei milioni di anni. Solo che nel loro lessico avevano dei coefficienti di moltiplicazione in questo caso le fen il girino la rana ha un valore di moltiplicazione di centomila quindi se noi abbiniamo il concetto di un milione per centomila otteniamo la cifra di centomiliardi di anni ma non è finita perché se noi abbiniamo questo che è lo shenu cioè quella che è la struttura del cartiglio degli antichi faraoni che quindi si ponevano all'interno del tempo in una dimensione estremamente prolungata nel tempo questo coefficiente di valutazione ha dieci milioni e se noi abbiamo un milione per dieci milioni di anni otteniamo diecimila miliardi di anni ma non è ancora finita perché se li abbiniamo tutti e due il girino centomila e lo shenu dieci milioni otteniamo mille miliardi che abbinato al coefficiente principale di moltiplicazione di un milione di anni ottiene questa cifra che è pazzesca un miliardo di miliardi di anni e questo è un qualche cosa che è spalorditivo anche per la nostra civiltà perché quando noi siamo abituati nelle nostre condizioni di pensare a una data superiore ai mille mille cinquecento anni cominciamo a dire sì vabbè chi c'era mille cinquecento anni fa va bene lo possiamo correlare sui cinque mila anni lo correliamo un po' meno diecimila anni ancora meno per cui quello che quando si dice i milioni di anni connessi all'epoca dei dinosauri anche per noi diventa un qualche cosa di perso nella nebulosità di una datazione non precisa questo a maggior ragione se noi pensiamo che la vita media della popolazione dell'antico Egitto in tutta la sua lunga storia non superi i cinquantacinque e sessant'anni quindi la domanda sorge spontanea diceva qualcuno qualche tempo fa ma cosa se ne facevano persone che avevano una durata media di cinquantacinque e sessant'anni di avere una concezione di tempo così incredibile che già una persona del ventunesimo secolo ha delle oggettive difficoltà potremmo pensare di abbinarla in un senso diciamo così cronologico come data di unizio dell'universo l'astrofisica ci dice che il Big Bang data della creazione dell'universo è datata a 13 miliardi e 752 milioni di anni anche se ci sono delle revisioni di un certo livello ultimamente sulla data precisa qui ci sono bene tre gruppi di cifre che superano largamente questa data e allora risorge la domanda spontanea o si parla di multiversi quindi di più universi oppure questo dato deve essere valutato in un contesto spaziale non più cronologico e questo concetto dello spazio e del tempo che inteso come due facce della stessa medaglia era estremamente diffuso nel folklore e nel pensiero dell'antica città andiamo pure avanti questa cosa che uno potrebbe pensare quella data di prima come un qualcosa di estemporaneo era estremamente diffuso nelle superlettili e negli oggetti ritrovati all'interno delle tombe egizie questo qui è uno specchio lineo ritrovato nella tomba di Tutankhamon dove vediamo il girino la rana e fen lo shenu e la struttura di prima e noi conosciamo Nebkeperurah Tutankhamon cioè si era rappresentato se stesso nella forma del dio dei miliardi di miliardi di anni una situazione diciamo di un concetto molto misterioso e vedremo molti enigmi molto misteri nel corso di questa trattazione è sicuramente il concetto del serpente Mehen che ha un valore cosmogonico cosmologico articolato ed estremamente complesso e gli stessi egittologi ci dicono che di forme e di caratteristiche del serpente Mehen ce n'erano tre tutte interdipendenti una dall'altra questa è la prima il serpente Mehen ben inteso è questo serpente che ha delle spire la cui testa finisce qui e nel riquadro rosso troviamo il suo nome che cosa faceva? beh è abbastanza chiaro dalla posizione che ha perché questa è la barca di Ra con la prua alta tipica di una navigazione nel mare quindi inteso come lo spazio profondo perché il cielo era visto come un mare due divinità minori non ci interessa come si chiamano e questo è lo stesso di Orà all'interno di questa cabina durante il viaggio nel Duat il mondo infero il mondo delle anime per le prime sei ore la barca di Ra non aveva una protezione dalla settima alla dodicesima ora il serpente Mehen si pone come una protezione esterna alla barca questo perché? perché il viaggio all'interno del Duat era pericoloso per la barca di Ra perché doveva sostenere potenziali attacchi dal serpente Apophis che ne poteva minacciare l'incolumità e il proseguimento del viaggio quindi una funzione potrebbe essere quella di protezione però siccome è sistemato all'interno di questa cabina sembra quasi che abbia la funzione di uno scudo protettore e siccome si sta parlando dichiaratamente di un viaggio nel cielo all'interno del Duat perché il mondo infero anche se normalmente per un equivoco nato quando la civiltà tolemaica si è interfacciata con quella egizia che abbinava il Duat a un mondo diciamo interpretato come sottoterra in realtà era nella parte sottoterra ma del cielo e questo ha tramandato un equivoco che diciamo si è prolungato nei poemi classici greci l'Elia dell'Odissea in quello latino nell'Eneide fino alla Divina Commedia di Dante in cui il Duat cioè il mondo degli inferi è sottoterra per gli egizi era sotto la parte visibile dell'orizzonte quindi sottoterra ma nel cielo da un certo punto succede che lo stesso serpente Mehen a volte una forma molto più lineare senza queste spire queste spire venivano inteso non in questa raffigurazione a volte venivano dette che ognuna di queste misurava 520 km in taluni testi quindi era molto grande molto esteso però se noi pensiamo al serpente di Apophis come un qualche cosa di concreto di fisico raggi gamma radiazione ultravioletta raggi X ci voleva una protezione ci vuole ancora adesso noi per esempio pensiamo alle mattonelle dello shuttle che quando rientra in atmosfera deve avere un'integrità di struttura perché altrimenti l'atmosfera arroventa manca la protezione alcuni shuttle sono saltati in aria perché gli mancava lo scudo deflettore e quindi questo potrebbe essere in un senso concreto e materiale la funzione del serpente ma è anche perché in talune circostanze di raffigurazioni in una forma più semplice questa cabina non c'è e il serpente stesso che con un diciamo andamento lineare assicura la protezione e noi abbiamo visto che uno dei concetti di tempo è un concetto lineare e vediamo il primo collegamento Mehen uno tempo lineare davanti possiamo vedere la seconda raffigurazione del serpente Mehen completamente diversa dalla prima è all'interno di questa struttura fatto a cerchio ha quest'andamento serpiginoso questo è tratto dal secondo sarcofago della tomba di Tutankhamen e presenta una scrittura completamente criptata già perché gli egiziani quando dovevano trattare di testi particolarmente delicati di cui dovevano conservare il segreto usavano una scrittura criptata quindi non solo con dei giroglifici cosiddetti non senso se non se ne conosceva la chiave aveva la coda che finiva nella sua bocca e la freccia indica il suo nome scritto con caratteri criptati identifichiamo il primo simbolo che è un'oca o un'anatra sa il secondo quello centrale lo stoppino h e il terzo è il simbolo della n in forma criptata quindi pur essendo e su questo gli egittologi sono sicurissimi che questa è un'altra raffigurazione del serpente mehen lì c'è scritto sahen di queste qui vediamo la parte alta dobbiamo immaginarci che ce ne fosse una vediamo il punto da immaginare tutto lo sviluppo del corvo all'altezza dei piedi c'era un secondo circolo di questo tipo e alcuni studiosi egittologi hanno proposto che fossero raffigurazioni di due oceani e il Randall Clark che ha studiato il mito e il simbolo dell'antico Egitto ci parla di circoli serpentiformi striscianti questo ha molto l'aspetto come detto in precedenza del serpente uroboros della tradizione gnostica ellenistica alessandrina quindi estremamente tarda ma alcuni si spingono anche a dire non io che quest'assetto con il simbolo di nascondere i capelli e del movimento di spostamento fossero la raffigurazione di una galassia perché quella di sotto era una seconda galassia due galassie in qualche modo correlate tra loro avanti questa è la terza raffigurazione del serpente mehen quella di prima con l'assetto circolare ci ricorda appunto il tempo circolare questa è una tavola da gioco ritrovata questa aveva solo una funzione ornamentale in cui vediamo un serpente che si avvolge a spirale con la coda su in alto si arrotola in senso anti-orario in molte spire la testa è qui al centro e veniva è stato trovato in tombe dell'antico regno e del periodo predinastico quindi siamo estremamente antichi in epoche perse nella notte dei tempi perché successivamente queste conoscenze e questo abbinamento a questo gioco si è perso nel corso del tempo in altre circostanze il mehen non aveva quest'assetto con le spire tridimensionali aveva delle caselle piatte già perché il mehen era un gioco era un gioco da tavolo che è stato trovato all'interno delle tombe e ci sono state anche delle raffigurazioni si usava una specie di segnaposto fatto con dei leoni o delle leonesse accovacciate molto simili peraltro a quello che è l'odierno si fa per dire gioco dell'oca perché se noi guardiamo e qui troviamo dei collegamenti interessanti indicato dalla freccia rossa troviamo una testa d'oca e vi posso dire che più o meno in questo punto qui sempre nel bordo della spessura dello spessore del disco stesso c'era una zampa d'oca quindi l'intero animale stilizzato la parte apicale la testa e la parte distale la zampa cosa veniva fatto a chi partecipava a questo gioco si tirava un dado venivano fatte avanzare delle pedine fatte a forma di leonesse accovacciato come una sfinge per esempio o come il leone hacker i due leoni hackero che sono i custodi del mondo infero del mondo che si entra nel mondo delle anime si doveva partire dal bordo esterno e con lanci successivi ripeto molto simili al gioco dell'oca ma qui siamo 3500 a.C. pensate quanto è antico il gioco dell'oca soprattutto con tutti i significati nascosti incredibili del gioco dell'oca recente si doveva arrivare fino alla testa e poi si doveva tornare indietro chi vinceva aveva la possibilità di proseguire il viaggio ma c'erano implicazioni astronomiche perché di questo sistema di Mehen che guarda caso è fatto a spirale come c'era il tempo a spirale tre manifestazioni del tempo tre manifestazioni di questo serpente veniva descritto come un qualche cosa quindi di assetto figurativo non diciamo concreto in cui ci si andava dentro non solo si parlava anche del bruciante respiro di Mehen quasi che mettesse dall'alito un qualche cosa di caldo di termicamente molto evidente ma era correlato con un viaggio che consentiva di andare verso le stelle verso pianeti lontani e in qualche circostanza veniva detto addirittura verso le stelle che non tramontano che qui adesso vi darò un briciolo di spiegazione perché gli egizi dividevano il cielo in tre fasce sovrapposte veniva anche descritto che alla fine di questo viaggio in cui il faraone accompagnava e in cui veniva scombussolato in un certo senso in cui subiva dei muoti anche diciamo di scossoni di vibrazioni qualche volta ovviamente veniva anche capovolto veniva chiesto in antichi testi li leggiamo ed è abbastanza divertente che quando tornava gli riveniva chiesto beh come è andato questo viaggio non è stato mica facile però sono arrivato ce l'ho fatta ed è passato dentro il serpente Mehen chiaramente non un serpente di questo tipo di cui il gioco ribadiva l'utilizzo alcuni dicevano per esempio che si giocava a volte con il Mehen con la morte se si riusciva e ci sono anche dei film mi ricordo il settimo sigillo di Bergman in cui c'è questa epica un po' spettrale partita con la morte in cui se si vinceva si guadagnava una vita migliore nel Duat se si perdeva erano un po' più guai seri quindi perché diciamo anzi in un'altra circostanza veniva detto che il farone stesso quando passava all'interno di questo condotto vedeva una luce davanti una luce in fondo e il buio in cui era immerso al centro quindi descrizioni molto complesse molto articolate che sembra difficile pensare che fossero solo un prodotto della fantasia abbiamo detto un significato astronomico e c'è una testa d'oca possiamo correlare in qualche modo l'oca a un punto del cielo a un qualche luogo del cielo che ci potesse dare un aiuto avanti questo è un disegno autografo fatto da uno dei più importanti egittologi inglesi che è il Petrie attualmente considera William Flinders Matthew Petrie che è considerato come una specie di eroe nazionale in Inghilterra ancora adesso lui era egittologo non era un un artista un pittore e quindi l'ha fatto di suo pugno vediamo una raffigurazione di certe costellazioni riconosciamo Sahu Orione con le quattro stelle Rigel Betelgeuse Bellatrix Saif e le stelle della cintura Alnitaka Alnilame Mintaka poi ci spostiamo li leggiamo Jous per chi è lontano non riesce a leggere bene sono Machel lui è inglese quindi è chiaro che scrive in inglese questo è il toro Bull questo è Aldebaran le iadi nella formazione e lui le chiama Sor questa cosa è molto interessante perché Pitri che oltre che essere un principale egittologo ha lavorato anche molto a Gerusalemme e guarda caso Toro in la costellazione del Toro in ebraico si pronuncia Shor e lui scrive Sor ma la stella Aldebaran in geroglifico si pronuncia Sar quindi è come se avesse fatto una specie di interfacciamento tra le conoscenze ebraiche e le conoscenze egizie qui abbiamo le pleiadi chiamate thousands cioè migliaia perché il nome geroglifico per le pleiadi è kau che vuol dire mille al singolare con la u del plurale diventa le migliaia e poi abbiamo questa figura un egittologo tedesco di cui tra poco vedremo un documento per me estremamente importante rivelatore che è Heinrich Bruch aveva fatto un'analisi di tutte le principali costellazioni della fascia zodiacale e aveva detto che A.P.D. A.P.D. col determinativo di oca o quantomeno di uccello infatti lui scrive Der Vogel l'uccello e ci mette Gans punto interrogativo oca lui è tedesco lui pensava che fosse un oca non era assolutamente certo quello che diventa certo in Pitri è che lui non perde tempo per dire signori è un oca e allora il Mehen poteva essere in qualche modo correlato a questo punto del cielo ma guardiamo questa immagine sulla parte dell'ala sempre sul disegno di Pitri vediamo cinque stelle che io ho unito per il momento non capirete molto dovremo andare un po' avanti nella ricerca una due tre quattro e cinque grossolanamente una formazione a z le ritroveremo avanti questa è un'immagine molto bella per me a meno tratta dal libro dei morti dove vediamo una raffigurazione della barca di Ra con la prua a sinistra e la poppa a destra dove ci sono i remi e il dio Ra poggiato sopra la barca stessa questo qui è il geroglifico del cielo e questa strana struttura che ha le stesse caratteristiche del colore del cielo è fatta come un uscio ed è totalmente tappezzata di stelle sono 29 o 29 e mezzo 29 e 30 e la prua è tremendamente vicina a quella formazione a uscio sembra quasi che nel prosiego del movimento ci finisca dentro ma questa cosa è fatta come un uscio ed è letteralmente piena di stelle a 5 punte piccole regolari in 5 file cioè 7 file 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 file come chiamiamo inglese stelle star come chiamiamo soglia barco gate lo uniamo insieme star gate porta porta delle stelle è un caso se andiamo avanti cominceremo ad avere qualche dubbio avanti questa è una diciamo diapositiva un pochino complessa che evoca una delle strutture di una delle 12 ore in cui era composto il duat il mondo infero troviamo una frase geroglifica che dice sempre riferito alla barca di Ra si avvicina alla porta nel riquadro rosso troviamo il termine sbect porta ci passa attraverso secondo sbect e gli dei che sono con lui sono contenti di ciò la prosecuzione del viaggio avviene attraverso questo condotto a gomito molto stretto letteralmente tappezzato continuativamente di questa formazione a fiamme il simbolo del calore ed è stigmatizzata ulteriormente perché il percorso è segnato sia in andata che in ritorno dal serpente cobra che lascia uscire un fluido quasi fossero dei sassolini come potremmo dire quasi Arianna che all'interno del labirinto insieme a Teseo segna il percorso per poterlo ritrovare ma questa è molto correlata anche a quello che è il respiro ardente di Mehen perché quello è un cobra e Mehen è un cobra quindi vediamo un qualche cosa di estremamente tortuoso ed estremamente sottolineato dal geroglifico di caldo qui dentro faceva caldo avanti questa è una frase che diciamo mi ha cambiato la vita nel corso di questa relazione e di queste ricerche io stesso ho sempre pensato ma possibile che gli egittologi chi per essi non hanno mai trovato nulla che parlasse di una porta delle stelle di un varco che immettesse in un altro mondo in un altro universo ho incontrato 4-5 anni fa una mia compagna d'asilo che erano vent'anni che non la vedevo e gli chiedo cosa hai fatto ho studiato tedesco mi dice lei io insegno tedesco e sono 13 anni che ho vissuto a Düsseldorf io avrei un testo scritto in corsivo tedesco di quest'autore Heinrich Bruch che è quello di prima dove c'era Der Vogel cioè l'uccello scritto in questa data che se siete distanti è il 1883 questo testo si chiama Iscrizioni Astronomiche dico mi puoi aiutare? sì sì 3-4 pagine per volta me lo traduce stiamo quasi in conclusione e io dico vabbè vediamo un po' se si trova qualcosa lei legge questa cosa io dico cosa? ma c'è scritto questo? lei dice sì e io ma non ci posso credere era quello che cercavo da sempre e a quel punto lì devo aver fatto la figura dello sciocco perché dopo aver detto non ci posso credere ero così entusiasta che gli ho chiesto me lo rileggi di nuovo? e la terza volta ve l'ho lasciato nella parte alta quella molto piccola scritta in tedesco e chiaramente leggiamo l'italiano dice alcune cose quelle sottolineate in rosso sono sottolineate in rosso da Bruce stesso le altre sono sottolineate in verde dove c'è l'accennio e i geroglifici le demiu leggo sempre per le figlie lontane che hanno difficoltà o città dei decani prima di proseguire vediamo cosa sono i decani perché se no uno non capisce allora gli antichi egizi dividevano il cielo in tre zone parallele tra loro sulla falsa riga di come dividevano i sumero-babilonesi in cui dividevano la parte alta dedicata ad Enlil la parte intermedia dedicata ad Anu e la parte bassa dedicata ad Enchiea loro tenevano diciamo le costellazioni le dividevano in stelle circumpolari che loro chiamavano le infaticabili perché non finivano mai sotto la linea dell'orizzonte erano sempre visibili tutto l'anno la seconda fascia delle costellazioni zodiacali che sono tutte diverse dalle nostre ma per dargli una conformazione ariete, toro, gemelli, cancro in quella zona lì e una fascia inferiore che per noi di adesso frutto delle conoscenze babilonesi, greche non ha praticamente nessun significato non così per gli egizi perché erano pazzescamente interessati a questa zona che andava dall'orizzonte visuale fino alla fascia zodiacale hanno diviso questa volta celeste in settori paralleli delle fettine di 8-10 gradi 12 di altezza e 8-10-12 gradi di larghezza hanno dato un nome a ciascuna di loro e siccome si parla di 360 gradi un intero angolo giro sono 36 i decani sono 36 gli hanno dato un nome gli hanno dato negli elenchi una divinità protettrice e hanno messo in certe circostanze delle annotazioni su alcuni di questi decani che andremo a vedere che per loro erano veramente molto rilevanti e connessi con la divinità quindi le demio città dei decani quindi si parla di città all'interno di queste porzioni di cielo che non sono dappertutto perché lo vedremo poi su 36 decani 33-34 sono insignificanti per loro gli hanno dato un nome ma non ci sono annotazioni su 2-3 cambia tutto perché lì si imbrittano in condizioni di far capire che c'è una strettissima correlazione con la divinità molto facilmente intesa come il luogo da cui venivano gli dei i decani si riferiscono evidentemente alle stazioni degli stessi nel cielo astronomico lo stesso compare spesso nelle iscrizioni come un territorio delimitato geograficamente sottolineato da lui costituito da terre ho messo anche la forma tedesca circondato da mari attraversato da fiumi e canali ora se i fiumi sono naturali già sui canali ho qualche problema perché i canali molto spesso anche nell'ambito comune sono abbinati a un assetto di regolamentazione idrologica di un complesso idrografico più complesso coperto da città Stetten abbinato appunto al concetto di De Miu case che è questa su in alto in realtà non sono solo case perché con quel simbolo identificano anche edifici templi quindi in generale costruzioni coperto da città a tutti i quali cioè a tutta questa sfizia di cose permettono l'entrata portali particolari il tedesco besondere cioè particolari torre porta e usa il termine expect quello di prima che era costituito che avevo fatto vedere prima nel circoletto rosso l'entrata è consentita cominciamo a dire che forse qualcosa l'hanno scoperto anche gli egittologi avanti ma come andavano eventualmente come si strutturavano questi passaggi per farlo bisogna andare a leggere la parte conclusiva di quello che è il libro dell'amduat il libro di ciò che c'è nel mondo infero dove ci sono molte descrizioni un 25% nell'undicesima ora su 12 e il 75% la maggior parte nella dodicesima e ultima ora cioè quando si arrivava alla fine del duat capitava di trovare descrizioni di questo tipo ed ecco cosa vediamo quello che è sottolineato nel riquadro verde corrisponde al testo idem per quello blu tutto il resto corrisponde al rosso per il momento il termine CERT lo lascio per seguire lo schema metodologico di Mauro Villino lo lascio non tradotto perché bisogna un po' capire bene e lo troviamo i CERT segreti questo termine sceta vuol dire semplicemente non visti nascosti invisibili hanno una funzione per la nascita di questo grande dio e qui cominciamo a capirne l'uso questa è la preposizione per al fine di e quindi lo troviamo là questo vuol dire andare questo è il suffisso che vuol dire causare il fatto che lui vada quindi il movimento è passivo questi canali non li sfrutta direttamente lui in forma attiva sfrutta il fatto che ci siano per ottenere lo spostamento e questo è un qualche cosa che fa pensare perché se la massima divinità dell'antico Egitto ha bisogno di qualcos'altro di qualcuno che faccia qualcosa per ottenere che lui si sposti fa pensare che forse non è quell'assetto così onnipotente che si poteva pensare o che forse questa struttura era preesistente e il Diorà se ne serviva conoscendole padroneggiando la struttura e la tecnologia automaticamente dopo che abbiamo detto per farlo andare viene scritto dentro il Nu l'abisso cosmico delle acque dopo che ha fatto il movimento lo troveremo molte volte ripetuto si ferma e passa all'interno dell'utero della Dea del Cielo la freccia è questa è scritta in scrittura retrogra diciamo una cablatura leggera per rispetto comprensibile perché non sono geroglifici criptati in questo caso il simbolo della Dea del Cielo della Volta Celeste è ribaltato e lo troveremo avanti avanti che cos'è Kert? vediamolo perché le sfumature di significato sono niente male in un caso viene detto buco o cerchio nel duat poi viene usato il termine caverna il termine caverna che potrebbe essere fuorviante è usato in uno specifico contesto questo contesto è il decorso sotterraneo del Nilo presso la prima cataratta sede delle sue mitiche sorgenti quindi è un decorso protetto di un condotto potremmo dire una tubatura in cui decorre dell'acqua presumibilmente con una certa velocità di flusso altri termini cavità dentro un vaso se noi pensiamo ai tipici vasi egizi dal collo estremamente legato noi abbiamo che è la lunghezza la dimensione principale predeterminata oppure grondaia perché le grondaia magari non di metallo ma all'interno scavate nella pietra si servivano anche loro per lo scolo delle acque questi sono termini ebraici che richiamano foneticamente e strutturalmente il termine kert una notazione il fatto che ci sia la e per poterlo pronunciare è un qualche cosa che è una convenzione degli egittologi perché formalmente non si sa com'era la vocalizzazione noi sappiamo che era q r r t però non posso dire kert perché dice questo come parla c'è un problema devo in qualche modo metterci qualcosa gli egittologi hanno deciso di mettere delle e ma altri egittologi la e la mettono anche dopo l'ultima o tra le due r è una convenzione per convenzione abbiamo deciso che è kert questi termini ebraici questo vuol dire kur e si parla di scavare un pozzo per l'acqua o comunque una fila fibra di ragnatelo o pellicola il termine kur vuol dire girare quindi un decorso tortuoso il termine ker sempre q e r queste sono cose che diciamo collegate alla vocalizzazione che dice essere nel profondo essere in fondo nel pozzo quindi prima lo scavano poi stando al pozzo si parla di un pozzo tant'è vero che un importante egittologo moderno che è il Robertson ci dice che addirittura il kert era un sistema per portare l'acqua del nu di questo abisso cosmico perso nella profondità dello spazio sulla terra era un pensato come un corridoio un condotto un cunicolo molto concretamente e concretamente sviluppato avanti ma come si strutturava come serviva questo dobbiamo andare sul papiro di Leiden dodicesima ora del duat siamo alla fine del percorso del duat sta per iniziare un qualche cosa dove finisce il duat stesso e ci si apre l'orizzonte verso lo spazio profondo viene detto sta ferma chiaramente si sta parlando sempre di là sta ferma la maestà di questo grande dio dentro la civetta ha espressione dello stato in luogo è dentro questo kert e viene usato la parte posteriore del leone a identificazione della abbinato con l'oscurità dell'estremo limite delle impenetrabili oscurità siamo giunti al limite dello spazio conosciuto ma il viaggio non si ferma il viaggio procede oltre perché nella seconda strofa troviamo la nascita di questo grande dio nelle forme del dio che pri il dio delle manifestazioni verso ma qui è cambiato qualcosa perché là c'era la civetta stato in luogo dentro qui esprime verso in direzione di moto a luogo prima era fermo adesso si sposta proseguiamo terza parte il dio nu lasciamo par dei minu che non c'entra il dio dell'abisso profondo siamo arrivati a destinazione stazione conclusiva ma ci sono le due dee ulteriori prima la dea e dopo il dio che sono il dio dell'eternità il dio del tempo siamo arrivati alla fine dello spazio e del tempo capolinea il concetto dell'abisso cosmico è abbinato al concetto dell'eternità e di nuovo verso la bocca in direzione di questo kert per la nascita di questo grande dio subito dopo viene detto quando si sposta egli dentro duat subito dopo egli è fermo dentro la barca madet movimento fermo si arresta e poi va in un'altro diciamo manifestazione di spazio appare egli dentro le cosce di nut verso le acque celesti le cosce della dea del cielo concettualmente abbinato al concetto di utero della dea del cielo avanti ma gli egizi fanno di più perché oltre a descrivercelo come testo ce lo fanno vedere e ce lo fanno vedere in un modo che definire geniale dal punto di vista della costruzione adesso ve la illustrerò è paragonabile alle un effetto speciale di un film di fantascienza tipo contact o tipo stargate senso di procedura dei geroglifici da destra verso sinistra la barca in questo caso viene trainata da queste sette figure adesso vedremo cosa c'è scritto nel riquadro rosso poi esamineremo quello che c'è scritto in queste delle 14 figure nel riquadro rosso e ci concentreremo poi sulla parte centrale avanti parte di destra quello che è sottolineato nel riquadro verde corrisponde alla frase verde quello nel riquadro rosso corrisponde alla frase rossa i progenitori e uso il termine muio avanzano grazie a questo dio quando egli passa attraverso il kert di nu e nel rosso vediamo q r r t abbinato al concetto di nu avanti che cos'è muio è una parola che deriva dal termine seme ma abbinato anche come flusso spermatico vita tant'è vero che il termine m u i u col tema determinativo delle acque cosmiche vuol dire progenitore coloro che portano il seme avanti vediamo la parte sinistra stesso concetto esercitano il tiro alla fune queste 14 idee dal corpo di cobra e dal busto di donna e piano piano la corda si arrotola la spirale per far capire che c'è proprio un movimento la stanno tirando su da dove adesso lo vedremo e viene scritto sempre nel riquadro brù avanza egli verso il kert di nu in realtà non è esattamente lo stesso di prima perché manca la t e questo potrebbe essere una variante lessicale o dire che si sta passando in un altro corridoio condotto e cunicolo scritto impercettibilmente diversamente avanti questa è la parte centrale molto bella noi vediamo che il pavimento su cui era la barca stessa descrive questa curva finisce in questo punto prosegue qui quando arriva a questo punto si rialza e questo capita in concomitanza con queste figure cellulare questo qua come anche l'altro che è il suo gemello ha un nome AKR Aker è uno dei due leoni Akeru che custodiscono l'entrata del mondo infero ma normalmente c'è tutto questo spazio tra la parte posteriore che peraltro non vediamo perché dobbiamo pensare che dovrebbe finire qui come questa dovrebbe finire qui non compare ma compare qualcos'altro perché queste figure che sono immerse nell'acqua fino qui hanno un nome e vediamo scritto MUIU i progenitori ma questa volta è abbinato al determinativo dello spazio profondo sono altri progenitori perché in questo momento non siamo più dove eravamo prima siamo entrati nell'abisso cosmico siamo entrati a destinazione e questa cosa ci fa vedere incredibilmente come se noi avessimo seguito il decorso come capita nei film Stargate e Contact dentro questo corridoio condotto e ci viene fatto vedere dove va in un certo senso questa figura che ha apparentemente una funzione di rendere omaggio sembra anche che ne rallenti la caduta d'altro canto questa stessa figura sembra che gli rendi omaggio renda omaggio ma questa è la poppa e sembra invece che ne agivoli la risalita in qualsiasi immagine noi vediamo che la parte posteriore adesso ve la farò vedere di questi leoni è presente questo è un unicum ci viene fatto vedere cosa succede quando si va dall'altra parte di un kert e come si torna indietro avanti ecco come vengono raffigurati qui sono seduti ma immaginiamoci che siano anche in piedi la parte posteriore dei leoni c'è era là che non c'era l'immagine precedente è tratto dal libro della terra della tomba di Ramses VI vediamo in alto il geroglifico di cielo e questo qui è il solo all'orizzonte a Ket questa è la raffigurazione standard degli Acheru là è un'eccezione molto interessante ma un'eccezione avanti questi sono quattro decani quattro porzioni di cielo che abbiamo visto essere sotto la linea delle costellazioni perché ve li ho messi perché ci sono delle cose molto interessanti e molto strane prima di tutto rapidamente voi vedete come si chiamano il simbolo delle anfore legate tra loro che è questo Kent compare solo nelle tombe dei faraoni perché in edifici costruiti da faraoni pubblici tipo Ramses e il Rameseo o in suppellettili o oggetti comuni questo simbolo è sostituito dal simbolo del naso che ha lo stesso valore fonetico e vuol dire ciò che si ha davanti come il naso ce l'hai davanti al naso ma questo simbolo ha anche la valenza di ciò che sta prima tant'è vero che gli inglesi hanno detto ma è come il nostro before ciò che sta prima e ciò che sta davanti quindi l'utilizzo di una preposizione molto simile alla preposizione inglese riservata esclusivamente nelle tombe dei faraoni noi non lo consideriamo come valore di preposizione questa qui her la faccia vuol dire sopra questo qui ker vuol dire sotto questo qui c'è la faccia e il cuore sopra il cuore per il cuore gli egizi erano nella parte centrale quindi semplicemente che vuol dire sopra Kent nel mezzo di Kent e sotto Kent poi c'è Kod secondo la scuola egitologica tedesca o Ked secondo la scuola egitologica inglese cosa vuol dire Ked o Kod vuol dire modello vuol dire progetto vuol dire forma e abbinabile anche a colui che fa il progetto che fa la forma e che crea quindi se potessimo quasi dire che è un qualcosa che ha a che fare con la creazione forse non sbaglieremmo di molto ma la cosa strana che fa pensare è che non è sempre stato così il numero uno il numero due il numero tre a cui se ne aggiunge anche un altro che sarebbe i due figli di qui ma qui non ci stava non ci sono sempre stati nell'astronomia egizia compaiono nel nuovo regno perché fino per tutto il periodo dell'antico regno e del medio regno era solo questo quello che c'era perché certe tradizioni venivano confermate oralmente nel periodo ramesside evidentemente è comparsa la necessità di mettere per iscritto certe conoscenze e certi interessi per certi luoghi particolari perché dovevano essere ampliati perché se no forse qualcosa si perdeva e ne hanno messe tre prima e uno dopo quando ce n'era uno nell'antico regno e nel medio regno diventano cinque avanti e qui cominciamo il nostro viaggio molto succinto nelle tombe dei faraoni tomba di Ramses nono vediamo qualcosa che ci fa pensare un po' strano senso di lettura dei geroglifici da sinistra verso destra noi vediamo questo nella parte alta quello lì corrisponde adesso scusa ti dovrò far fare torniamo un attimo indietro il numero uno avanti è situato a sinistra del riquadro rosso torniamo indietro il numero tre avanti è situato nel riquadro verde alla destra del riquadro rosso quello che c'è nel riquadro rosso che guarda caso è un riquadro rosso come questo desta qualche stranezza che gli egittologi hanno cercato in qualche modo di coprire perché non sapevano perché questo innanzitutto perché c'è un riquadro rosso perché abbiamo detto che il senso di lettura dei geroglifici è da sinistra verso destra ma quelle cose questi due riquadri nel riquadro rosso non tengono in considerazione la lettura da sinistra verso destra ma fanno diverso perché si leggono da destra verso sinistra questa cosa in un testo egizio è qualche cosa di molto strano e molto inconsueto perché posso partire da un testo e scrivere dall'alto verso il basso benissimo da destra verso sinistra ma tutto da destra verso sinistra da sinistra verso destra tutto in questo caso no cosa c'è scritto qui? questo è il simbolo di utero la dea del cielo delle acque cosmiche Kat Nunt ma l'abbiamo già trovato questo utero della dea del cielo quando eravamo la descrizione della dodicesima ora del Duat e qui lo troviamo istoriato in una specifica zona di cielo e cominciamo a dire ma non è che qualcosa sui testi teologici si sposa anche con qualcosa dei testi astronomici ma che cos'è questa cosa che è scritta al contrario come d'altro canto quell'altra avanti questa è una riproduzione il più possibile fedele a quello che è il riquadro cosa notiamo? che è la stessa con un asse di simmetria inverso questo si legge così questo si legge di qua come se fossero se qui ci fosse uno specchio che crea un asse di simmetria perché metterlo? vuol dire che questo Kent Kerr sotto Kent era rilevante aveva qualche cosa se per loro facevano questo potrebbe eventualmente riferirsi ai due leoni a Kero riflessi dorso contro dorso poteva esserci una correlazione o forse con qualche altra divinità interessante avanti sempre nella stessa tomba vediamo che il senso di lettura dei geroglifici che qui utero della Dea del Cielo delle Acque Cosmiche è ribadito qui utero delle Acque Cosmiche della Dea del Cielo letto così quest'altro era letto così perché? che significato aveva? era una semplice sottolineatura o in uno dei due le regole grammaticali e sintattiche venivano meno perché si parlava di qualcos'altro ma un'altra cosa notiamo questa qui è la silhouette del faraone incinocchiato che rende omaggio a degli dei eh no eh gli dei non ci sono rende omaggio a una porzione di cielo questa porzione di cielo ma noi guardiamo anche questa immagine perché questa è un'immagine che è molto conosciuta questa triplice formazione a goccia che occupa tutti e tre i decani con l'addizione utero della Dea del Cielo delle Acque Cosmiche con una stella molto grande ci spostiamo dall'altra parte e vediamo quattro stelle che sono alte circa la metà e otto stelle che sono alte circa un quarto una raffigurazione da effetto Doppler le stelle grandi sono vicine e le stelle piccole sono lontane forse avanti ma quando poi si completava il viaggio e si andava nel nu nell'abisso cosmico la barca di Ra veniva raffigurata in questo modo una struttura rigida fatta a un muro un eterno zig zag che è tipico della raffigurazione delle acque con questa che è una raffigurazione appunto del dio dell'abisso leggiamo la frase si muovono queste braccia all'interno delle acque anche se apparentemente sembrano ferme c'è un movimento sostiene egli gli altri perfetto questa è la stessa barca il dio scarabeo la prua sta da questo lato la poppa sta da questo qui vediamo un settile corridoio che fa capire che si può andare in questo spazio in questo piccolo corridoio in questo canale ma siamo veramente fuori dal duat siamo sicuri di questo me la puoi girare sotto sopra questa è la stessa immagine di prima parlerò un po' come Yoda in guerre stellari per leggere queste iscrizioni la dea Nut questa è accoglie egli il disco dirà Osiride questo è circonda egli il suo duat il duat di cui venivano date delle dimensioni 120 a tero di un'unità di misura in larghezza e 308 o 480 a tero in larghezza potremmo dire una distanza di 700 chilometri per 2500 3.000 chilometri quindi non tanto piccolo questa immagine estratta dal sarcofago di Setiprimo ad Abidos quindi questo viene detto che è Osiride questa formazione e questo qui dentro c'è il duat quello che abbiamo incontrato su un viaggio lunghissimo disperso per 12 ore l'immagine successiva si spegne e il duat è solo qui dentro ma quanto viaggio abbiamo fatto quanto ci siamo spostati per far sì che il duat diventasse così piccolo ma c'è qualcosa di ulteriormente strano perché questo simbolo si legge da destra verso sinistra rispetto a questi e questo simbolo cioè il nome della Dea Nut si legge al contrario ribaltamento localizzato dei geroglifici perché non lo sappiamo sottolineatura può essere o far capire che si sta parlando di un altro spazio-tempo e con delle regole diverse avanti quando si arrivava alla fine del duat gli egizi lo raffiguravano come un muro questa granulatura è proprio come se fosse un muro di cinta solido concreto e non si passava oltre a meno che di non avere un pass e questo pass è fornito da questo dio indicato dalla freccia rossa che è il dio Shu dio Shu abbinato all'atmosfera abbinato al fuoco abbinato all'aria il dio Shu messo dentro questo muro apre con le sue mani così larghe un passaggio in questo denso muro e consente al dio sole di transitare oltre il muro e di continuare così il suo viaggio verso lo spazio profondo avanti ma questo è di nuovo il dio Shu sapete forse le leggende se non le sapete ve le dico subito connesse con il dio Shu ha una funzione molto rilevante con la vita perché in origine l'accontano le leggende il dio della terra Geb sdraiato per terra aveva la dea del cielo Nut completamente spiaccicato sopra di lui non riusciva a muoversi non c'era vita perché mancava l'aria il dio Shu interviene alza l'addome della dea del cielo crea immette l'aria e rende la vita possibile quindi il dio Shu ha una funzione co-creatrice per l'universo e l'abitazione sulla terra tomba di Ramses IV vediamo qualcosa di interessante manca il dio Geb e lui tocca l'addome della dea in un punto anzi per la verità con le due mani in due punti me la puoi ingrandire ci spostiamo prima su questo lato ecco allora il pollice è poggiato sopra la linea del confine dell'addome della dea vi chiedo il dito indice tocca l'addome della dea? no bene ci spostiamo dall'altro lato altra mano pollice contro il confine per prendere posizione il dio indice tocca l'addome della dea? sì non solo la tocca perché il fatto che ci fa venire in mente è che è il medio che la tocca l'indice addirittura sembra che entri ancora un pochino di più dentro questo vuol dire che il dio che abbiamo visto nell'immagine precedente apre un barco per consentire al dio sole che passi attraverso il muro che delimita il confine del duat riesca a fare trovare il passaggio ma il dio Schuh guarda caso tocca uno due tre quattro cinque sei sette l'ottavo spazio noi Gebauer Parker che sono gli autori di questo quadro di questa immagine non mettono i nomi degli decani perché qui dentro ci sono i decani avanti questa è un'immagine invece fatta da Champollion dello stesso soggetto che è molto più preciso perché lui i decani li mette e cosa c'è? la freccia dove si indica molto chiaramente quanto entra dentro l'indice della mano di Schuh dentro l'addome della dea del cielo è corollato nei pressi di sotto Champ cioè Champ Kerr ancora quello ma non un'invasione ma cosa avevano con questo Champ Kerr avanti una frase tratta dei testi delle piramidi ci può venire in aiuto perché ci viene detto nella formula 802 la tua mano afferra il duat non troppo lontano dalla costellazione di Sahurione che è qui ora qualsiasi cosa che serve per afferrare deve servirsi della punta delle dita e far passare il pollice e fare presa fa presa con la punta delle dita in quel punto è un caso avanti e questo è il luogo del cielo la mappa che era cara agli egizi ma non solo era cara agli ebrei ed era cara ai sumiro babilonesi ci sono tre costellazioni complete Ariete Toro e Orione in verde troviamo l'equatore galattico via Lattea tre costellazioni parziali la parte superiore di Eridano il fiume celeste la parte superiore di Cetus Balena e la parte occidentale dei pesci connesse a un luogo d'acqua guarda caso Eridano che è un fiume Cetus Balena che è un mostro mitico abbinabile o no al leviatano degli ebrei e soprattutto i pesci tutt'oggi sono diciamo correlati concretamente all'acqua avanti qui siamo una estrapolazione di due immagini quando c'è il Ramses VI sui bordi esterni in posizione in piedi adorante per rendere omaggio in una sala della tomba di Ramses stesso e qui invece il faraone appare incinocchiato mentre offre un'offerta con dei vasetti a delle divinità che abbiamo visto istoriato decine se non centinaia di volte sui templi e sulle tombe dell'antico Egitto il problema è che alla sinistra di questo non c'è nulla nulla solo un pezzo di cielo tra l'altro il decorso dei geroglifici della tomba va così quindi questi lo stesso faraone in una sala che delimita ed è in posizione in piedi quindi in posizione di minore omaggio mentre qui è inginocchiato se ne infischia della procedura che fa sì che alcuni di questi luoghi dovrebbero essere protetti da divinità che hanno quest'andamento gli volge alle spalle è come se noi per esempio entrassimo in chiesa scusate il paragone un po' irriverente di schiena grave diciamo atteggiamento di mancanza di rispetto a meno che quel qualcosa che ho davanti diventa più importante di quel qualcosa che ho dietro avanti un importante contributo per capire un pochino meglio è quando l'astronomia egizia si interfaccia con la dominazione tolemaica che aveva conoscenze babilonesi ed ellenistiche e dice cominciamo a ragionare un po' meglio perché questi sono i pesci questo è l'ariete e quello è il toro ah ora ci capiamo nella parte bassa i nostri decani chi è questo indicato dalla freccia verde si vede che è poggiato sotto il bocciolo di loto e il loto presso tutte le popolazioni egizi arabi un po' anche ebrei e soprattutto il mondo indiano ha una funzione cosmologica di creazione questo qui invece siamo entrambi sotto la costellazione dell'ariete è costituito da una divinità un po' mumiforme un po' statica che ha in mano uno diciamo scetro was molto lungo in una struttura che viene definita anaus a tempietto molto piccolo chi è costruito? gli stessi egizi ci vengono in aiuto avanti basta leggere stessa figura di prima e leggiamo il suo nome P-T-H P-T-A il dio creatore del basso Egitto quello dell'alto Egitto era K-Num questo cosa vuol dire? che la creazione abbinata al basso Egitto questo è lo zodiaco quello precedente è lo zodiaco di Esne-A era in qualche modo correlata a un luogo dell'ariete sotto in prossimità del suo versante occidentale in direzione del toro avanti zodiaco rettangolare di Dendera ce ne sono due l'ariete e il toro due figure come prima quasi simmetriche bocciolo di loto e questo è Arpocrates Orpacred Orus il giovane che aveva una funzione similare anche se non completamente uguale allo stesso Ra creatrice, formatrice qui addirittura ce ne sono due e questo qui lo possiamo identificare da questo simbolo anche se questo siamo nel periodo tolemaico e non sapevano più tanto la grammatica egizia e di nuovo Kent Kerr sempre quello avanti zodiaco circolare di Dendera un pezzo dei pesci l'ariete, il toro e un pezzo di Orione di nuovo la stessa figura Orus il giovane sul simbolo del loto simbolo di creazione avanti ma certe conoscenze e questo è sbalorditivo sono arrivate fino al periodo romano quando l'Egitto dopo la battaglia di Azio del 31 avanti Cristo perde la sua indipendenza e diventa un protettorato romano qui siamo in questa tomba di questo dignitario che si chiama Petosiris che ha voluto farsi nella sua tomba istoriare una tomba che assomigliasse a quella precedente allo zodiaco circolare di Dendera siamo nel 50 dopo Cristo ma certe tecniche pittoriche non sono più quelle di una volta e il disegno lascia un po' a desiderare e un po' grezzo e tra l'altro in parte è anche rovinato dall'usura del pezzo troviamo delle costellazioni capricorno acquario pesci ariete toro gemelli e ma ne ha saltato una lui ha saltato quella indicata dal signor F forse una donna sembra bionda forse un uomo giovane mi ingrandisci questa? andiamo giù bassi? tiriamo giù 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 no no ma scusa abbassata abbassata per ingrandirla ancora di più ingrandita ancora? ok cosa porta sulla testa questa signora o questo giovane? prego l'occhio di Ra o l'occhio di Horus che funzione ha l'occhio di Horus o l'occhio di Ra? innanzitutto l'occhio in generale nella grammatica geroglifica è correlato al fare per indicare mi fai questo ci mettono l'occhio ma l'occhio di Ra o di Horus ha prettamente una funzione creatrice tant'è vero che ci sono dei miti che correlano le parole con i giochi di parole che piacciono tanto agli antichi egizi le remit le lacrime con il remt l'umanità le lacrime sono il prodotto che danno vita all'umanità dell'occhio di Horus e allora è una tredicesima costellazione? no nessuno ha mai messo una tredicesima costellazione tra la rieta e il toro ma lì in mezzo tra rieta e toro c'è l'occhio di Horus l'occhio che crea avanti la stessa immagine dove vediamo meglio le costellazioni che abbiamo visto prima al contrario la rieta e il toro sono poste in concomitanza con le due teste di queste figure questa tipo serpente questa di tipo un coccodrillo lungo e che si incrociano quasi fossero una specie di uroboros bocca contro bocca con un'anima centrale ma guarda caso che combinazione a brevissima distanza da questo avanti questa è un frammento di una clessidra usata dal faraone Neco ventiseiesima dinastia che ci fa vedere due cose interessanti innanzitutto il simbolo del naso Kent che ha lo stesso valore ma siccome le anfore erano solo dei faraoni in oggetti che venivano visti da tutti si doveva mettere per proteggersi il segreto si doveva mettere il simbolo del naso questo è il nostro Kerr quindi questo è Kent Kerr sempre quello dannatamente quello vediamo cosa c'è scritto qui questo è il simbolo di città dei Miu quello che ci aveva fatto vedere l'egittologo tedesco in precedenza la città dei trecento utero del dio del cielo in questa parte Kent Kerr avanti di nuovo ma non l'aveva già fatta vedere questa perché dovremo vedere adesso una serie di altre cose molto interessate sono gli stessi di prima vi prego di osservare la sequenza uno due tre quattro facciamo un salto nella tomba di Seti I avanti una delle meglio conservate dell'antica Egitto questi quattro decani nella tomba di Seti I vengono messi in questo modo pazzesco per definizione gli antichi egizi quando iniziavano a scrivere non scrivevano dal basso verso l'alto destra-sinistra sinistra-destra alto-basso il numero uno sopra Kent è messo qui il numero due nel mezzo di Kent è messo spiaccicato a metà del bordo destro su in alto il sopra Kent e il sotto Kent è il numero tre e il code è messo là questa cosa è un ordine che è impossibile sfida tutte le leggi di logica e di progressione grammatica e geometrica perché la linea di sequenza vuol dire che traccia una curva impossibile perché in altre situazioni quello che era situato sarebbe stato messo siccome la progressione è da destra verso sinistra il uno là il due lì il tre qui e il quattro qui seguendo un senso geometrico logico questo non lo è perché non lo sappiamo ma c'è qualcosa che vi farò vedere che è situato subito sotto questo qualcosa di molto interessante avanti senso di lettura dei geroglifici da destra verso sinistra questo è quello che c'è come leggenda di quei quattro decani messi in quel modo assurdo dal basso verso l'alto descrivendo una curva e adesso l'esaminiamo meglio avanti c'è questa figura cosa può voler dire cerchiamo di esaminarla un po' con attenzione innanzitutto prima di tutto leggiamo cosa c'è scritto perché la didascalia è la base perché se no facciamo congetture di tutti i tipi utero delle acque cosmiche appartenente alla dea del cielo e tu dici se c'è l'utero della dea del cielo qualcosa di interessante c'è abbiamo un occhiello dal contorno rinforzato con due stelle sopra una formazione dellisse dal contorno lievemente più sottile con questo andamento con tante stelle che formano una specie di girotondo quasi si dessero la mano ma che cosa strana ma compare solo lì avanti e non compare solo lì perché se guardiamo l'immagine della regina Taussert nella tomba di Seti secondo vediamo un'immagine col senso di progressione che va in questo senso perché anche questo è rilevante otteniamo una formazione molto simile con un contorno rinforzato allora dico subito a scanso di equivoci questa immagine è stata messa lì due volte la prima come bozzetto poi l'hanno dato un velo di intonnaco e hanno messo poi la seconda per fenomeni di restauro fatti in epoca storica fine dell'ottocento prima del novecento hanno raschiato tutto e sono avvenute alla luce sia il bozzetto originale che l'immagine successiva un contorno di stelle sul bordo segnato da un bordo vero e proprio manca il contorno superiore perché in visione prospetica o se cancellato o sono le stesse stelle che descrivono il contorno stesso ed ecco la frase utero delle acque cosmiche appartenente alla dea del cielo con questa formazione avanti nella sala contrapposta molto più rovinata dal tempo possiamo individuare quel che resta di un'analoga formazione a birillo e di nuovo utero delle acque cosmiche della dea del cielo avanti potrebbe essere un'immagine di questo tipo forse sì forse no chi può dirlo che cos'è questa questa mi è piaciuta ve l'ho messa ma è solo per farvi vedere questa è nel cane maggiore due galassie in via di fusione reciproca la piccola con un angolo lievemente obliquo la maggiore si chiamano in termine tecnico merging galaxies cioè galassie in via di fusione in cui c'è un fenomeno in cui la piccola viene fagocitata lentamente dalla grande scomparendo totalmente in funzione autonoma cambiando la struttura stessa perché non è del tutto indolore anche per la grande prendersi questo era forse questo l'occhiello era forse questo l'altra girandola non di questa costellazione dico in generale enigmi che per il momento non hanno soluzioni avanti ma anche nell'ambito delle costellazioni della fascia centrale della fascia zodiacale ci sono delle cose interessanti questa è la dea ipopotamo di una parte del cielo questa signora che tiene su in alto sul secolambito del consiglio dello scorpione che tiene questa corda che scende giù ha delle reminiscenze babilonesi perché il cosiddetto Durmahu o Duranchi per dei sumero babilonesi il legame cielo-terra il grosso legame era un qualche cosa che le antiche popolazioni temevano che fosse che era già successo e che quindi succedesse qualcosa di catastrofico che turbasse l'equilibrio che in egizio si dice Mahat la dea dell'armonia cosmica e che quindi dovessero in qualche modo essere fermate nel cielo ancorate certe strutture per evitare che si spostassero di nuovo creando fenomeni cataclismatici come era successo in precedenza quando probabilmente la terra non aveva la deviazione che ha adesso sul suo asse troviamo una figura messa in orizzontale che ha una strano a lancia o arpione che termina su questa figura stilizzata molto stilizzata a testa di toro i geroglifici ci dicono che si chiamava Ann che alcuni dico vuol dire principe altri dicono colui che torna indietro e all'interno di quella figura troviamo i geroglifici di mesca sinonimo di meschiti l'orsa maggiore perché questo signore tiene bloccato l'orsa maggiore per lo stesso fenomeno di prima la tiene bloccata avanti adesso lo vedremo come fa questa in cui addirittura questo è tratto dallo zodiaco rettangolare di Dendera in cui una posizione diciamo della fascia superiore viene collocato tra il capricorno e il sagittario addirittura l'orsa maggiore viene bloccata da tutti e due uno che la ferma di sopra quello che prima era Ann e la dei popotamo che con una catena la tiene ferma e questa speranza questo desiderio di bloccare il cielo che non si muovesse più da certi eventi catastrofici che erano successi in passato era dirimente per tutte le antiche popolazioni per esempio a cominciare dai Sumiri col famoso Dur-Mahu questa grossa corda che bloccava e teneva fermo è vero che dicevano che Enlil la tirava giù nei confronti del cielo meridionale Enchi la prendeva e la stirava questo secondo loro era figurativamente l'intento di tenere bloccata l'armonia del cielo avanti Zodiaco di Esne vediamo la stessa formazione sempre in questo caso tra il Capricorno e il Sagittario ma più vicino al Sagittario ci spostiamo dall'altra parte del cielo avanti dall'altra parte del cielo troviamo una formazione simile simile non vuol dire uguale perché ora la Dea Ippopotamo ha un coccodrillo sulle spalle e posa entrambe le braccia su questa cosa questo qui è stato interpretato come Orione e hanno ragione gli egittologi quello è stato interpretato come il toro col geroglifico del Giubileo e c'è questo signore in posizione orizzontale che tiene questa strana struttura che descrive una curva gira intorno al braccio di Orione e si ferma poco oltre il dorso del toro e la troviamo tanto tante volte ripetuto nelle tombe dei faraoni ma stiamo attenti a una cosa che è interessante dove si ferma quella struttura perché prima ancorava l'orsa maggiore per tenerla ferma qui si ferma nel nulla nel vuoto avanti tomba di Ramses nono si ferma un pochino più in su di prima avanti tomba di Ramses sesto corridoio inclinato e ancora un po' più su avanti tomba di Ramses quarto e ancora più su tomba di Ramses settimo avanti ma dove va a finire ma guarda dove è capitato fino alto notare che questo è il toro molto più in alto perché questa disparità perché presumibilmente non sapevano loro stessi indipendentemente da cosa simboleggiava quella formazione a corda e perché finisse in quel luogo del cielo perché in quel luogo del cielo non c'è nulla di visibile quindi loro sapevano che finiva in un luogo molto facilmente posto negli estremi limiti dello spazio profondo non c'era nessun punto di riferimento e ognuno si allargava diciamo autodidatticamente a metterla dove pensavano che potesse finire e allora io la butto lì facciamo una considerazione un po' temeraria avanti e se fosse un Kert che finiva nel nulla finiva l'isola del fuoco l'isola delle fiamme la patria dei Netero il toro è lì ma concettualmente la rieta è là forse qualcosa comincia a tornare avanti certe raffigurazioni abbiamo detto non erano soltanto patrimonio dei faraoni qualche dignitario se voleva poteva farsi il suo soffitto astronomico 33 barra 34 decani su 36 li faceva uguali uguali a quelle dei faraoni perché non erano rilevanti non era lì il cuore del problema dov'era il cuore del problema sul numero 1 e sul numero 2 Kent Kert e Kau e cosa facevano? usavano dei simboli criptati qui nelle altre volte avevamo visto utero delle acque cosmiche della dea del cielo l'utero è in fondo alla frase mai successo nei soffitti dei faraoni la dea del cielo ce la siamo giocata e le acque cosmiche sono sostituite da queste quattro piccoli rettangolini anonimi e là beh là qualcosa di più c'è l'utero è sempre in fondo alla frase la dea del cielo c'è e le acque cosmiche vengono sostituite da quei tre rettangolini dovevano nascondere criptare perché il loro rango di non faraoni quindi di non in possesso delle conoscenze degli dei non glielo consentiva avanti questa forse l'avete vista è tratta dalla tomba di Sennelmuth le tre stelle in diagonale la quarta superiore con la tre formazione a triplice goccia o utero o uovo o pera e chi più si ha se le meta non era un faraone anche se in realtà aveva la voglia di diventarlo sposando la sua amata Zepsut non ci è riuscito è stato gli è andato la damnazio memoria sia a lui che a lei il prode tutmosi terzo ebbene noi abbiamo alcune cose in questa tomba che ci fanno capire che il simbolo delle acque cosmiche Sennelmuth lo mette ma lo inverte di posizione perché evidentemente lui era un po' sbruffoncello e diceva me ne frego dei vieti io qualcosa di mio ce lo metto avanti ma dove erano queste localizzazioni tomba di un faraone ramesside in questo modo ed ecco dove è posta tutto corrisponde la mi la xi 2 la nu centrale la gamma e la delta testa di cetus balena che oltre a corrispondere era Leviathan era molto rilevante anche per i miti babilonesi di Tiamat avanti questa è un'immagine molto interessante è l'interno di un sarcofago di un dignitario del periodo tolemaico se le ingrandiamo un po' e ci mettiamo sul lato di destra spostiamo la destra un pochino di meno un pochino di più ok questo simbolo molto interessante è simbolo del sole alato del disco alato in questo caso le ali non ce l'ha ma c'ha gli urei coronati qui sotto troviamo il disco semplice ma ne troviamo uno che riporta esattamente la stessa formazione in un luogo del cielo preciso l'emblema della divinità questo dignitario non solo lo mette come fenomeno che presiede tutto quanto ma lo mettono addirittura in questo luogo Sirio Orione e la fascia del gruppo dei cat ulteriore conferma avanti questa è un'immagine che è tratta dal libro dei morti questo è il papiro di Ani molto interessante ci viene fatto capire la tipo di velocità che veniva usato dalla barca di Ra quando passava attraverso un kent questa è la prima immagine andiamo avanti questa è la seconda papiro di Jufan che è il papiro di Torino tradotto da Boris de Rachevils vediamo cosa c'è scritto molto lontano sei fatto andare quindi movimento subito perché questo è il suffisso del passivo quindi Ra non è in grado di controllare deve subire la costituzione e la struttura del movimento stesso viene usata la preposizione dentro all'interno di e troviamo il termine ateru ater questo è il geroglifico di milioni l'abbiamo visto prima col Dio questo è il girino centomila al plurale questo vuol dire istante il suffisso cerir vuol dire breve ecco l'occhio che ha funzione di creazione tu fai questi e subito dopo ti fermi la cosa bella è che quasi ci fosse un'ipotetica incredulità da parte dell'ascoltatore che viene detto guarda che la barca di Ra fa questa velocità percorre questo spazio in così poco tempo e forse ha detto ma non è possibile ma cosa stai dicendo ma non è così no no lui dice signori è proprio così eh li fai proprio e dopo che ha fatto questo balzo con una velocità che vedremo com'è ti fermi decelerazione avanti che cos'è a terra in realtà noi potremmo non saperlo però sempre grazie alla dinastia tolemaica che probabilmente si è confrontata con le conoscenze e i sistemi di misura degli egiziani rispetto ai loro dice noi qui abbiamo la terra voi cosa avete noi abbiamo gli schieni gli schieni sono misura greca sono fatti di stadi che sono 185 metri a seconda dei luoghi e delle epoche ce n'erano diverse dimensioni che oscillano tra 5 chilometri e mezzo e 11 chilometri e mezzo addirittura Gardine si spinge a dire 10.500 metri ok avanti ma il termine a terre si è abbinato al ramo di palma la stessa cosa è anche abbinato al concetto di tempo stagione o anno avanti at minuto piccola porzione di tempo la culminazione di qualche atto avanti possiamo fare questa equazione forse sorprendente ma abbiamo una grande distanza di tempo correlata in funzione frattale diametro e dialogo con un concetto di una piccola distanza di spazio avanti e facciamo i calcoli quei sistemi che abbiamo trovato grazie alle nostre ricerche sono 3 milioni e 300 mila il simbolo di un milione per tre volte come minimo elevabile alla n perché il plurale del segno del plurale non si sa quanto fossero poteva essere di più ma sicuramente sono come minimo 3 milioni idem per i 300 mila 3 milioni e 300 mila di Ateru le conversioni dicono che la prima possibilità 5 chilometri e mezzo quindi da un valore di 18 milioni 150 mila chilometri stesso valore 11,1 il valore più alto di conversione che ci hanno detto le fonti egitologiche 36 milioni 630 mila ad un minuto circa Sheriurt breve distanza più o meno equiparabile a 10-30 secondi completiamo i nostri calcoli avanti poniamo su in alto la velocità della luce che l'astrofisica ci dice che essere costituita da quasi 300 mila chilometri al secondo 18 milioni 150 mila diviso 30 secondi il valore uno dei due range di valori dell'AT da 630 mila chilometri al secondo due volte la velocità della luce ci concentriamo su questo range di valori il più alto e il più basso è un valore medio 36 milioni 630 mila chilometri diviso 10 secondi fa 3 milioni 663 mila chilometri 12 volte la velocità della luce pazzia impossibile bene posso dire che ho fatto delle ricerche nel corano tramite un professore che ha esaminato in filigrana molte sure del corano questi valori non solo non sarebbero confermati perché esistono nel corano la differenziazione in ben quattro tipi di passaggi nel cielo in cui transitava Allah portando qualche volta pure Mahometo e andava in certi luoghi c'erano dei canali per l'andata dei canali per il ritorno un termine generico e delle porte all'ingresso avanti bene un pochino di astrazione tutte le immagini che vi ho fatto vedere le diamo per acquisite e facciamo in questo caso una semplice analisi astrofisica una specie di bignami di spremute di cognizioni di cosa l'astrofisica ci dice a proposito di un wormhole attraversabile o ponte di Einstein Rosen sono sei fenomeni calore al suo interno da presumibile attrito decorso tortuoso movimento passivo totalmente subito da chiunque o da qualsiasi cosa ci passi attraverso velocità estremamente elevata superiore alla velocità della luce dalla cronamo FTL faster than light viaggio estremamente breve brusca decelerazione una volta usciti dal wormhole sei punti io lo dico solo a livello statistico ma ognuno di questi sei punti è stato descritto nelle immagini e nei testi che vi ho riferito caso non si sa buongiorno grazie per essere venuti oggi vi porto a scoprire la magia dell'archeologia quasi tutto quello che ci insegnano sulla storia antica è sbagliato l'origine dell'uomo delle civiltà e le piramidi dicono che le piramidi sono state costruite in Egitto e in Messico ed è sbagliato sono state costruite su tutto il pianeta le piramidi egizie dicono che siano state costruite come tombe per i faraoni e questo è sbagliato non è stata ritrovata nessuna mummia all'interno delle piramidi 155 piramidi in Egitto questa qui è la più famosa la piramide di Giza l'hanno assegnata ai faraoni della quarta dinastia Cheops Cheope Kefren e Micerino all'interno delle piramidi ci sono dei bellissimi passaggi megalitici ma non ci sono dipinti le camere sono vuote nessuna mummia nessun arredo reale nessun geroglifico nessun materiale organico nessuno strumento nessuna singola prova di chi quando come e quando e quando il tempo ci dimostra il tempo ci dimostrerà che è quello che sostengono gli egittologi e che è supportato dai film di Hollywood sulle piramidi che sono state fatte come tombe per i faraoni è la più grande frode della storia la grande piramide d'Egitto 231 metri di lunghezza sui due lati 462 metri diviso per l'altezza 147 metri e il risultato è 3,14 il numero pi pi secondo la storia ufficiale gli antichi egiziani non conoscevano il pi solo 2.000 anni dopo solo 2.000 anni dopo i matematici greci lo scoprirono ma è qui davanti ai nostri occhi nello stesso modo possiamo trovare un altro numero importante 1,618 la sezione aurea all'interno la distanza tra il nostro pianeta e il sole è incorporata nella piramide c'è incorporata anche la distanza tra il nostro pianeta e il sole c'è anche la distanza del nostro pianeta dalla luna gli antichi egiziani non avevano questo conoscenza gli antichi egiziani semplicemente non possedevano questa conoscenza perché le piramidi di Giza furono costruite molto tempo prima da una civiltà molto più avanzata l'artefatto egiziano più importante non è in Egitto ma è in Italia a Torino è chiamata la lista dei re di Torino e in undici colonne presenta tutto l'elenco dei regnanti egiziani dividendole in tre ere la più recente è l'era dei figli del sole che è cominciata 5.000 anni fa col re col faraone Menem che riunì i regni egiziani ma la fase precedente è chiamata la fase dei semi dei e quella precedente ancora è l'era degli dei con la piccola g g minuscola che arrivarono dal cielo sulla terra e questo successe 36.620 anni fa quindi chi ha costruito le piramidi chi costruì le statue di dimensioni colossali di mille tonnellate se andiamo verso l'est ci sono documenti ancora più importanti è l'esercito è la lista dei re sumeri nel incisi sulla pietra abbiamo tutti la lista dei regnanti sumeri 273.000 anni fa arrivò il primo re dei sumeri ma torniamo al mondo delle piramidi torniamo alle piramidi e torniamo alla piramide del sole la più famosa piramide del Messico quella di Teotihuacan 160 anni fa questa piramide aveva questo aspetto archeologi e americani l'hanno riportata completamente alla luce e questo è l'aspetto che è oggi 250 piramidi in Cina 20 piramidi hanno circa 12.000 anni 20 piramidi hanno circa 12.000 anni 224 piramidi della Nubia 43 piramidi nell'isola di Sicilia a raggio in un raggio intorno al vulcano quattro lati una piattaforma alla sommità gradonate pietra vulcanica non sappiamo chi le ha costruite dalla parte opposta dell'Africa nelle isole canarie 140 piramidi quattro lati gradonate pietra vulcanica per la comunità scientifica spagnola queste non sono piramidi li chiamano cumuli di pietre fatti da agricoltori locali che ripulivano il terreno nelle isole Marizios attravergono attraverso i campi di canna da zucchero si intravedono delle strutture di pietra salendo in cima una di queste sono piramidi di pietra gradonate quattro lati orientamento verso il solstizio d'estate ho fatto delle misurazioni e ho avuto una conferenza stampa il giorno successivo c'era un articolo sul giornale più importante e dicevano che l'illuminato bosniaco vuole reinventare la storia dice che abbiamo piramidi ma noi sappiamo bene che non le abbiamo a chi dobbiamo credere alla stampa o ai nostri occhi la civiltà maya costruì più di centomila piramidi nei paesi dell'America centrale Guatemala Honduras El Salvador Belize e Mexico questa era considerata la più grande a Tical 74 metri ma a El Mirador ne è stata scoperta una ancora più grande completamente ricoperta dalla foresta vicino al confine tra Guatemala e Mexico 95% delle piramidi maya sono ancora nella giungla il 95% delle piramidi maya sono ancora nella giungla se questa venisse ripulita avrebbe questo aspetto Honduras Nella città maya di Copan questa è la piramide più grande quando gli archeologi dell'Honduras e degli Stati Uniti li hanno ripulita dagli alberi scoprirono un tempio all'interno della piramide 700 anni più vecchio quindi la piramide venne costruita come protezione per qualcosa di ancora più prezioso sopra la porta possiamo vedere due veicoli ruote il corpo del veicolo un abitacolo e all'interno dell'abitacolo c'è una faccia una faccia dei maya una faccia dei maya questi due veicoli sono ai lati del simbolo del centro del sistema solare e il centro del cuore della nostra galassia la Via Lattea qual è il messaggio? si spostavano dal nostro sistema solare al centro della galassia le piramidi in Perù 300 a Cavaci nel sud del Perù vennero scoperte dieci anni fa tre piramidi da archeologi italiani adesso questo era dieci anni fa adesso parlano di 34 34 piramidi nella parte nord del Perù 200 piramidi tucume se togliamo la sabbia del deserto troviamo dei muri costruiti di mattoni le linee verticali sono ovviamente dovute alle piogge le precipitazioni ma quest'area del Perù ha avuto lo stesso clima per 7000 anni ma quest'area del Perù ha avuto lo stesso clima per 7000 anni nessuna pioggia nessun temporale solo il sole quindi quando furono costruite molto prima nel nord-est del Perù la più grande piramide del Sud America la piramide di Accapana oggi non rimane molto solo dei blocchi di granito ma il granito è il materiale più duro più resistente in natura nella scala Moth da 1 a 10 e il granito è 6,5 gli archeologi sostengono che fino a 2000 anni fa ci fossero soltanto strumenti di rame ma il rame è molto morbido 3,5 nella stessa scala e quindi un inferiore quindi non si possono lavorare dei materiali di qualità superiore con degli strumenti di qualità inferiore oggi usiamo strumenti con il diamante per far realizzare queste connessioni in modo così perfetto alcuni blocchi sono lavorati quasi come fossero lavorati con un laser perfettamente lisci e alcuni portano le tracce di lavori fatti con macchinari i matematici, archeologi boliviani e tedeschi il dottor Kozvanski ha passato 50 anni della sua vita a investigare e a fare ricerca su questi complessi la sua conclusione è 15.000 anni di età è il risultato che ha ottenuto quindi chi aveva strumenti con il diamante 15.000 anni fa e laser e macchinari per lavorare la pietra nord del Messico la città di Tula sono state ricostruite tre piramidi alla sommità di una di queste ci sono otto colonne di pietra i toltechi li chiamavano atlantidi e sostenevano che fossero venuti dall'est dalla terra rossa terra rossa significa terreno vulcanico a est del Messico c'è il centro dell'oceano atlantico dal punto di vista geologico sappiamo che c'era un'isola o un piccolo continente nel mezzo dell'oceano atlantico fino a 12.500 anni fa che era di origine vulcanica la piramide egiziana più visitata è questa la piramide di Cuculcan la piramide di Cuculcan a Cicinizza quattro lati le scale 91 gradini 364 gradini in totale 91 gradini su quattro lati se aggiungiamo a questo numero la piattaforma alla sommità che è il numero dei giorni del nostro calendario solare molte informazioni astronomiche sono rappresentate qui una piramide molto simile 10.000 km di distanza dalla precedente la piramide di Cuculcan in Cambogia la piramide di Cuculcan in Cambogia 7 livelli perché 7? è un numero 3579 è un numero è un numero è un numero è un elemento della geometria sacra quattro lati perfettamente orientati verso i punti cardinali est, ovest, nord e sud abbiamo laghi e acqua che si muove abbiamo pietra vulcanica che contiene ferro che è energeticamente potente abbiamo della pietra di arenaria che è un conduttore ci sono tunnel c'è acqua sotterranea quindi adesso cominciamo a parlare degli elementi scientifici delle piramidi torneremo a questo java, indonesia gunung padang la collina di luce una piramide alta 100 metri nella giungla questo è il probabile aspetto originale 29.000 anni di età le piramidi in Spagna tre di loro nella piccola città di Palencia ce ne sono tre sono circolari le due più grandi sono alte 70 metri 74 metri la stessa altezza della piramide del sole messicana una, due, tre la terza la terza la più piccola è stata distrutta la chiesa ha costruito la statua e la chiesa se disegniamo una linea dal centro della piramide alla città asse nord-sud arriviamo a una enorme cattedrale è una piccola città è una piccola città di 5.000 persone nel quindicesimo secolo è stata costruita la cattedrale quando la città aveva una popolazione di mille persone di solito in un piccolo villaggio si costruisce una piccola chiesa ma qui c'è una cattedrale enorme sopra l'entrata c'è un triangolo all'interno possiamo vedere dei volti dei regnanti contadini soldati donne bambini umanità e al di sopra di questo triangolo ci sono questi due rilievi due esseri con un cranio allungato il corpo ha due gambe e due braccia ma è chiaramente un corpo non umano qual è il messaggio? perché sono sopra la rappresentazione dell'umanità? potete vedere le storie nel libro la piramide in Israele una piramide una piramide a gradone con blocchi di duemila tonnellate nove livelli tunnel sotterranei energetica un luogo energeticamente potente parlare di Israele un paese molto interessante megalitico per esempio questo sito occupato c'è ci sono cinque cerchi 42.000 tonnellate di pietra vulcanica archeologicamente dal punto di vista archeologico non ci sono strumenti non ci sono artefatti quindi a volte è necessario coinvolgere la spiritualità tre di noi hanno meditato concentrandosi su determinati soggetti e queste sono le informazioni che abbiamo ricevuto 5.200 anni fa c'era un insediamento qua ma molte persone si ammalavano gli animali si ammalavano la popolazione parlò con gli sciamani chiedendo che cosa stava succedendo gli sciamani contattarono lo spirito della natura e loro capirono che sotto il villaggio c'erano delle luci e loro capirono che sotto il villaggio c'erano dei flussi d'acqua sotterranei un fiume larghezza di tre metri quando l'acqua si muove c'è un rilascio di energia per noi umani questa è un'energia negativa se abbiamo la nostra camera dal letto al di sopra di un corso d'acqua sotterraneo ci ammaliamo quindi agli sciamani vennero date le indicazioni su cosa fare prima come prima cosa costruire dei cerchi di pietra che neutralizzano l'energia negativa e la trasformano in positiva seconda cosa costruire dei cerchi concentrici per amplificare l'energia positiva ma in un numero dispari quindi nessuno furono costruiti cinque e gli viene insegnato anche come applicare gli elementi della geometria sacra il cerchio numero cinque è più grande del cerchio numero quattro 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 41,618 volte che è la sezione aurea quando ci sono elementi della geometria sacra l'energia viene amplificata ancora di più e usano pietra di basalto molto potente dal punto di vista energetico e ci sono anche caratteristiche astronomiche l'ingresso segue la direzione della luna e del sole il sorgere del sole al solstizio d'estate e il tramonto e l'equinozio di primavera e le fasi della luna e le fasi della luna quindi qual è il risultato? le malattie si interruppero il villaggio cominciò a rifiorire ci furono più persone e i villaggi si moltiplicarono il potere della pietra e dell'energia sacra torniamo alle piramidi 250 piramidi negli Stati Uniti li chiamano Cahokia Mounds nello stato dell'Illinois Mound significa qualcosa di costruito quando tu lo fai ma qui abbiamo quattro tipi diversi di materiali di costruzione blocchi di aree in aria pebbles rocce sand ghiaia pietra sabbia gli archeologi americani non hanno il permesso di investigare gli archeologi americani non hanno il permesso di investigare 1979 nel 1979 un ricco businessman di Chicago un ricco businessman di Chicago deciso di costruire la sua casa a forma di piramide nove volte più piccola della piramide di Cheope sei livelli quattro lati orientata verso i punti cardinali 52 gradi la costruì su un strato di argilla l'argilla è impermeabile ma quando stava completando la struttura vide l'acqua che veniva in superficie quando la completò si ritrovò con un grande lago intorno alla sua proprietà quindi realizzò che la piramide ha il potere di portare verso l'alto quello che è sotto acqua o energia c'è ancora di più in questo libro che è in vendita fuori quindi abbiamo capito che il mondo del passato era il mondo delle piramidi quindi le piramidi cosa sono? ci dicono tombe per faraoni non è scientifico ed è sbagliato naturalmente possiamo raccontare queste storie ai bambini quando li mettiamo a dormire ma abbiamo bisogno di definizioni scientifiche 13 anni fa andai nella piccola città di Visoko in Bosnia a mezz'ora di macchina da Sarajevo per visitare il museo locale e poi vedi questo tutti la chiamano una collina naturale ma guardandola vedevo che aveva quattro lati facce triangolari spigoli la stessa inclinazione dalla base alla sommità quindi parlando dal punto di vista geometrico questa è una piramide presi la bussola e mi mostrò con la bussola mi realizzai che questo era diretto perfettamente verso nord questo lato perfettamente verso est ovest e a sud quella dietro avevo capito subito che questa era una struttura artificiale non una collina naturale ricoperta da terreno e vegetazione dopo migliaia di anni come in Cina, in Messico e in Guatemala se fosse completamente ripulita avrebbe questo aspetto qui abbiamo unicamente in questa foto tolto il verde e messo il marrone quindi abbiamo bisogno di una definizione scientifica per le piramidi e questo è quello che abbiamo sviluppato in Bosnia 10 criteri il primo è la geometria quindi dall'alto la piramide è molto visibile due fiumi principali 40.000 persone 40.000 persone est-nord est-nord da questa linea alla sommità 220 metri la piramide di Cheope è 147 metri la più grande del pianeta questa è la più grande del pianeta se usiamo la tecnologia LIDAR se usiamo la tecnologia LIDAR togliendo tutta la vegetazione questa è la piramide del sole 220 metri da qui ma guarda in realtà la piramide va all'interno fino al fondo della vallata ma in realtà vediamo che gli spigoli arrivano fino al fondo della vallata 360 metri quasi tre volte più grande della piramide d'Egitto la piramide bosniaca del sole la piramide bosniaca della luna dragone terra amore nel 2006 abbiamo iniziato a fare gli scavi archeologici abbiamo rimosso uno spessore di un metro di terreno e abbiamo scoperto gli spigoli il punto dove due lati della piramide si incontrano nord e est il secondo criterio di definizione della piramide è il materiale di costruzione artificiale in Perù usavano i mattoni adobe in Messico l'arenaria e il granito in Egitto l'arenaria e il granito in Egitto l'arenaria e il granito non mi viene in mente l'arenaria e il granito qui in Bosnia abbiamo fatto degli scavi archeologici in diverse parti della piramide e abbiamo anche qui trovato materiale da costruzione questo è il nostro scavo archeologico numero 4 abbiamo rimosso un metro di terreno e abbiamo scoperto dei blocchi rettangolari lunghi 4 metri e mezzo un metro e mezzo di larghezza 45 centimetri di spessore 7 tonnellate un altro e un altro ma anche una seconda linea un terzo strato e c'è un quarto 1, 2, 3, 4 questa è una struttura non è realizzata da madre natura non è realizzata da madre natura abbiamo prelevato dei campioni li abbiamo mandati a 7 diversi istituti per i materiali il risultato era il calcestruzzo artificiale viene anche chiamato calcestruzzo geopolimerico qualcuno lo chiama calcestruzzo sintetico il nostro calcestruzzo ha pietra, sabbia, acqua e cemento questo calcestruzzo ha pietra, sabbia, acqua e argilla come materiale elegante il nostro calcestruzzo è in un range da 10 megapascal a 60 megapascal per quanto riguarda la durezza e più è duro il calcestruzzo, migliore la qualità questo campione è 73,6 megapascal abbiamo analizzato 50 campioni abbiamo analizzato abbiamo analizzato 50 campioni di calcestruzzo quando ho scoperto le piramidi 13 anni fa ho chiesto agli archeologi dell'università di Sarajevo di unirsi a noi e hanno rifiutato quindi ho istituito una fondazione non governativa non governativa per la ricerca archeologica e ho avviato un progetto per volontari da tutto il mondo centinaia e centinaia di loro sono venuti in Bosnia la signora che traduce è una di queste la signora che traduce è una di queste solo negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 3.100 volontari da 62 paesi e 6 continenti nel mondo dell'archeologia non si è mai ritrovato un entusiasmo simile torniamo alla scienza il terzo elemento per le piramidi è l'orientamento dei lati Cina, Egitto, Perù sempre il nord Cina, Egitto, Perù sono sempre orientate al nord la piramide di Cheope ha un errore dal nord cosmico di 0 gradi e 2 minuti la piramide del sole in Bosnia ha un errore di 0 gradi 0 minuti e solo 12 secondi questo secondo l'istituto di geodesia bosniano il quarto elemento camere interne e passaggi secondo le misurazioni geofisiche abbiamo sette livelli di passaggi all'interno della piramide del sole per esempio le linee in bianco sono tunnel della profondità di 10 metri le linee blu 40 metri di profondità e sono disposte a spirale l'elemento numero 5 sono giusto i tunnel sotterranei nella piramide di Giza ci sono due livelli di tunnel sotterranei sotto la piramide di Saqqara in Egitto ci sono chilometri di tunnel altre piramide di Palenche, Teotihuacan piramide in Cina ci sono sempre tunnel ma in Bosnia abbiamo la rete di tunnel più estesa del mondo che corre per decine e decine di chilometri fino ad oggi abbiamo ripulito 2.200 metri e hanno questo aspetto il sesto elemento è l'acqua fiumi e i corsi d'acqua sotterranei a Visoko abbiamo due fiumi principali il fiume Foznitsa e se arriviamo alla sorgente ci sono delle miniere d'oro gli antichi romani prendevano dell'oro da qui e il fiume Bosna il fiume più grande e i corsi d'acqua sotterranei il sesto elemento è la geometria sacra abbiamo già parlato del pi greco elemento della geometria sacra la sezione aura ma anche il triangolo equilatero è un elemento della geometria sacra perché è una figura perfetta geometrica perfetta stessa lunghezza dei lati e angoli di 60 gradi questa è la sommità della piramide del sole in Bosnia e questa è la sommità della piramide della luna 2,2 chilometri dalla piramide della luna alla piramide del drago 2,2 chilometri dalla piramide del drago alla piramide del sole 2,2 chilometri triangolo equilatero geometria sacra movimento di energia questo è il triangolo questo è il triangolo sole, luna e drago questa è la sommità della piramide dell'amore l'unica piramide dell'amore del mondo gli archeologi spesso mi criticano e questa è una delle ragioni perché un nome così romantico i nomi sono molto potenti se denomini una piramide la piramide dell'amore colori d'amore tutta la vallata questo è il tipo di messaggio che vogliamo mandare al mondo il tempio di madre terra l'ingresso ai tunnel e il fiume un altro triangolo equilatero un triangolo all'interno di un altro triangolo geometria sacra e il movimento di energia e adesso guardiamo un triangolo ancora più grande i punti di interesse naturali il luogo dove si incontrano i fiumi un altro fiume un altro triangolo e se usiamo lo stesso punto centrale abbiamo l'impostazione del fiore della vita geometria perfetta i costruttori guardavano la vallata dall'alto e sistemando le strutture in luoghi molto precisi ottavo elemento le caratteristiche astronomiche questa è l'ombra della piramide del sole questa è la piramide della luna nel pomeriggio qui l'ombra della piramide del sole copre completamente la forma della piramide della luna a metà estate poco prima del tramonto il messaggio è la regola del sole e il giorno è finito il messaggio è che il regno del sole e del giorno è finito e inizia il regno della luna e della notte il prossimo elemento la localizzazione delle piramidi sotto la piramide del sole in Bosnia c'è un'enorme placca di ferro perché ferro? perché genera un campo elettromagnetico la piramide in realtà attira questo campo elettromagnetico e lo amplifica come facciamo sapere che lo amplifica? perché l'abbiamo misurato alla base della piramide e alla sommità alla sommità la forza è 50 volte maggiore questa è la prima forma di energia la seconda 21 metri sotto il livello della piramide ci sono flussi d'acqua sotterranea il movimento dell'acqua genera ioni negativi la piramide amplifica la concentrazione degli ioni negativi la terza forma di energia a 55 metri sotto il livello del terreno c'è un altro corso d'acqua tra un corso d'acqua e l'altro si genera elettricità il magnetismo naturale il quinto ultrasuoni come otteniamo gli ultrasuoni? abbiamo campi elettromagnetici e abbiamo molti cristalli di quarzo sulla superficie delle piramidi e nei tonnelli il campo elettromagnetico colpisce il cristallo c'è un processo chiamato piezoelettrico e c'è un effetto piezoelettrico che genera ultrasuoni che genera ultrasuoni il prossimo e l'altra forma di energia sono gli organi o energia della vita tutto questo è misurabile e il decimo elemento sono le linee vulcaniche cosa sono? la linea che collega le due sommità le sommità di due vulcani è una linea vulcanica ma se stendendo questa linea troviamo una piramide allora possiamo dire che la piramide è sulla linea vulcanica perché questo è importante? i vulcani lava ferro minerali energia abbiamo analizzato 75 piramidi e siti megalitici nel mondo e abbiamo concluso che tutti si trovano su intersezioni di diverse linee vulcaniche per esempio la piramide messicana più grande Cholula nello stato di Puebla, Mexico si trova su 18 linee vulcaniche Gunung Padang in Indonesia 17 Machu Picchu in East and Peru tutti dicono che Machu Picchu è energeticamente molto potente e è su 16 linee vulcaniche le piramidi bosniache sono su 26 linee vulcaniche adesso abbiamo dieci criteri scientifici per la definizione di piramide quindi qual è la definizione? è molto semplice la piramide è una macchina che produce energia quindi dimentichiamo le storie per i bambini sulle piramidi come tombe o luoghi sacrificali come possiamo sentire e misurare questa energia? ci sono diversi modi il dottor Harry Oldfield dal Regno Unito ha ideato una fotocamera speciale per filmare i campi bioenergetici questa è una collina naturale in Bosnia e questi campi sono orizzontali e sono fermi e questo è un villaggio nella Serbia dell'Ovest qui i campi sono orizzontali e la lampada del proiettore è molto vecchia quindi dovrebbe vedersi questo potete vedere tutti i colori tutti i colori ok 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 e questa è la piramide bosniaca del sun tutti i campi bioenergetici sono verticali questo era il 2015 2007 tutte le linee sono verticali quindi abbiamo filmato per 12 anni ora e questo è quello che il rosso è l'energia l'energia si accumula tutto è rosso l'energia viene rilasciata dalla sommità della piramide colpisce le linee orizzontali e diventano verticali quindi negli ultimi 12 anni c'è stato un movimento costante di energia questa è una veduta panoramica della città di Visoko con linee orizzontali naturali e questa è la piramide del sole la piramide dell'amore sono macchine di energia e linee verticali nel 2006 abbiamo iniziato gli scavi e qui potete vedere la tipica produttività bosniaca uno lavora e centinaia guardano e lo supportano gli dicono gli consigliano cosa fare e dove scavare e uno sta parlando facendo un discorso finora abbiamo parlato di scienza cosa dice il mondo e il mainstream accademico quindi Wikipedia ci dice che sono affermazioni pseudo archeologiche promosse da Sam Osmanaghi che sono soltanto colline e formazioni naturali e non possiamo cambiarlo questo il più influente egittologo al mondo il dottor Zahi Hawass nei ultimi 20 anni non è mai stato in Bosnia l'abbiamo invitato parecchie volte nessuno potrebbe mosso quei blocchi di 40 tonnellate quindi non sono piramidi il dottor Hayward il direttore del Consiglio per l'archeologia britannica non è mai stato in Bosnia il professor Partsinger il direttore del German archeological Institute non è mai stato in Bosnia questa è una frode crudele quindi la gente ci ha attaccato ha scritto petizioni contro di noi ma nonostante tutto questo abbiamo continuato a lavorare quindi andiamo a vedere la seconda piramide la piramide della luna abbiamo fatto scavi dalla base alla sommità abbiamo trovato pavimentazioni terrazzamenti oggetti rettangolari muri verticali ancora terrazzamenti gradini blocchi che sono stati chiaramente conformati in un certo modo ancora gradini quindi in altre parole un'enorme struttura di pietra a forma di piramide con un orientamento perfetto questo è uno dei terrazzamenti realizzato da blocchi di arenaria con una forma ben definita l'arenaria è un materiale da costruzione molto comune qui ci sono tre strati del terrazzamento uno sopra l'altro quando abbiamo iniziato gli scavi alla piramide della luna i geologi bosniaci e croati e francesi e inglesi americani tutti dicevano che era tutto naturale natural madre natura veramente madre natura ha dato questa forma a tutti e sei i lati e l'ha trasportata dalla cava e sistemata qui posizionata così perfettamente e ha costruito anche le scale oppure è stata una mano intelligente qui siamo alla sommità della piramide della luna sotto un metro di terreno troviamo un terrazzamento un altro strato abbiamo tagliato per vedere il profilo all'interno e c'erano ancora più blocchi quindi quanto sono vecchie le piramide di bosnia? sono coperte di terreno qual è l'età del terreno? l'istituto di pedologia dice da 12.000 a 15.000 anni ma la struttura al di sotto è ancora più vecchia l'archeologo italiano Niccolò Visconti di Venezia con un gruppo di volontari stavano rimuovendo il terreno sopra i blocchi e hanno scoperto il materiale organico appoggiato sopra i blocchi di calcestruzzo questo ci dà l'età minima della struttura perché è appoggiato sopra la struttura quindi abbiamo fatto una datazione a radiocarbonio 24.800 più o meno 200 anni 25.000 anni ed è un'età minima se troviamo del materiale organico tra un blocco e l'altro tra due strati ci darebbe un'età precisa ed è questo quello che è successo nel 2013 degli archeologi della Nuova Zelanda hanno scoperto del materiale organico sotto il primo strato di blocchi tra il primo e il secondo strato come in un sandwich hanno scoperto delle foglie fossili qualcuno stava posando il primo strato di blocchi il secondo il terzo il vento ha portato la foglia e poi posarono l'ultimo strato ma quelle foglie ci danno l'età esatta del periodo di costruzione abbiamo fatto una datazione a radiocarbonio 29.200 più o meno 400 anni quindi andiamo indietro di 30.000 anni ma questa è solamente una datazione a radiocarbonio qual è la data calibrata o la data calibrata dobbiamo tenere in considerazione le grandi catastrofi globali e queste aumentano l'età del 15% e queste aumentano l'età del 15% quindi in realtà l'età delle piramidi bosniache è 34.000 anni e questo cambia tutto i libri di storia dovranno essere riscritti non cambiamo soltanto il primo paragrafo dicendo che ci sono delle piramidi in bosnia vecchia di 34.000 anni quando cambi l'inizio tutto quello che viene dopo deve essere cambiato e cosa ci insegnano? tutto cominciò con i sumeri 6.000-7.000 anni fa 6.000-7.000 anni fa Babylon, Akkad, Assyria, Egipto, Egipto, Hittite questo è giusto l'ultimo ciclo dell'umanità ma prima di questo c'era un altro che finì 12.500 anni fa con una grande catastrofi globale conosciuta come la fine dell'ultima era glaciale e un'altra 18.000 anni fa e un'altra 30.000 anni fa 55.000 e 75.000 anni fa la storia dell'umanità non è un'evoluzione è un ciclo dopo un altro e dopo un altro se parli con gli storici e gli archeologi su quello che è successo 30.000 anni fa non ti dicono niente ma negli ultimi venti anni enormi scoperte archeologiche sul fondo del Pacifico tra Giappone, Taiwan e Cina 13 città subacquee sono state scoperte strutture megalitiche gradonate disposte a raggio 30-80 metri sotto il livello del mare Gli archeologici gli archeologi gli archeologi dicono che questo è tutto naturale e sono sostenuti dagli archeologi tedeschi e americani quindi qual è il loro problema quindi qual è il loro problema non vogliono persone che facciano domande chi le ha costruite quando? 80 metri sotto il livello del mare questo è l'oceano Pacifico quant'acqua serve per aumentare il livello del mare di un centimetro? un sacco e per 80 metri hai bisogno di una catastrofe globale l'ultima accade 12.500 anni fa ma questa è stata costruita molto prima di 12.500 anni fa perché è stata costruita in superficie, non sul fondo dell'oceano quindi cambiamo i libri l'esterno Libano Balbeck questo blocco è 1250 tonnellate gli archeologici non si potrebbero immaginare chi lo ha realizzato e quando la nostra tecnologia la nostra tecnologia le nostre gru fino a 15 anni fa potevano sollevare soltanto 350 tonnellate 1250 840 e potete toccarlo per provare che c'erano civiltà più avanzate nel passato non dobbiamo parlare di metafisica perché le prove sono nel mondo fisico Gobekli Tepe in Turchia il Dottor Klaus Schmidt ha scoperto diversi circoli megalitiche megalitiche nella forma di lettera T 25 tonnellate ha scoperto tre cerchi ognuno di essi sembra Stonehenge quando parlai con lui prima che scomparisse mi disse che c'erano probabilmente cento cerchi come questi cerchi sono stati intenzionalmente ricoperti con un materiale di riempimento composto da roccia chietra sabbia ossa di animali macinate e ossa umane macinate e hanno ricoperto tutto materiale organico radiocarbono 11.600 anni 11.600 anni il fatto che ci fossero delle ossa umane ci dice molto su quanto venissero rispettati gli umani dai costruttori quando parlavo con il Dottor Schmidt mi ha detto probabilmente che i complexi tra 15.000 e 18.000 anni 15.000 e 18.000 anni di età è l'ipotesi del Dottor Schmidt ma pronto in Wikipedia stanno spostando questa data da 11.000 a 8.000 a 7.000 a 5.000 ma su Wikipedia stanno spostando questa data da 11.000 a 8.000 a 7.000 in modo che possa essere coordinata con la loro visione del mondo torniamo alle piramidi dopo questa corta introduzione vediamo qual è lo scopo delle piramidi non possiamo usare i geologi gli antropologi gli archeologi non ci dicono molto sul reale scopo delle piramidi abbiamo bisogno di esperti in fenomeni energetici fisici ingegneri elettrici ingegneri 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 alla sommità della piramide del sole in Bosnia 28 kHz in un raggio di 4,5 m indirizzato, direzionato al di là del raggio di 4,5 m non c'era nessuna misurazione e ritornando all'interno del raggio c'era di nuovo la misurazione di 28 kHz questo significa che questo campo non va a destra o a sinistra ma diretto e verso l'alto come un raggio di energia tre mesi dopo un ingegnere della Serbia ha confermato i 28 kHz di frequenza più tardi, quell'estate Heike Savolainen dalla Finlandia ingegnere del suono il professor De Bertolis dell'Università di Trieste hanno confermato le stesse letture quando in scienza hai quattro gruppi diversi che vengono in quattro periodi diversi con il loro proprio equipaggiamento e tutti e quattro ottengono lo stesso risultato è chiamata una verifica scientifica indipendente del fenomeno quale fenomeno? questo un raggio di energia che passa attraverso la sommità della piramide del Sole 28 kHz 4,5 metri direzionato continuo l'abbiamo misurato in estate in primavera in autunno in inverno madre natura non fa delle colline con quattro lati con facce triangolari con angoli spigoli con calcestruzzo artificiale tunnel sotterranei passaggi e raggi come questo hai bisogno di una macchina per l'energia quindi la piramide bosniaca del Sole non è soltanto la piramide più grande del Sole ma la più vecchia, più antica macchina di energia che ha continuato a lavorare per 30.000 anni come la prima macchina di moto perpetua del pianeta e poi abbiamo misurato la forza del segnale alla sommità della piramide sul livello del terreno tre metri più alto e altri tre metri più in alto il segnale diventava sempre più forte man mano che ci si alzava i fisici non ci credevano la nostra tecnologia lavora sul concetto che vicino a una fonte di energia è il segnale più forte e si indebolisce man mano che ti allontani fino a sparire ma visto che in Bosnia tutto è sotto sopra le nostre piramidi lavorano al contrario ti allontani e il segnale diventa sempre più forte la nostra tecnologia è una tecnologia herziana la tecnologia delle piramidi bosniache non l'abbiamo oggi ma un personaggio che era nato a 200 km dalle piramidi bosniache faceva esperimenti su questa tecnologia nel 1899 nel suo laboratorio di colorado springs nel suo laboratorio di colorado springs e il suo nome era Nikola Tesla e realizzò un trasmettitore col quale era possibile mandare dei segnali senza cavi da un lato del suo laboratorio al lato opposto e poco prima che bruciassero il suo laboratorio e stava diventando una minaccia per la scienza ufficiale fece l'ultimo esperimento mandò il segnale alla ionosfera intorno al nostro pianeta ed era stato riflesso è ritornato a colorado springs ancora più forte fenomeno non herziano e fu in grado così di illuminare 10.000 case per la prima volta uno scienziato ha provato che l'energia pulita era possibile che i fenomeni non herziani erano possibili che era possibile trasportare l'energia senza cavi che illimitate quantità di energia fossero possibili e infine che l'energia libera era possibile le grandi corporazioni pensate che abbiano accettato queste scoperte? certamente no come potrebbe il miliardario J.P. Morgan vendere l'energia libera e fare dei soldi cominciò a finanziare Tesla e cominciò con la tecnologia inferiore di Edison si fermò si fermò giusto fermò il lavoro di Tesla e iniziò il lavoro della tecnologia inferiore di Edison ma il tempo avrà il tempo in cui tutti avremo accesso all'energia libera e questo sarà il primo pilastro della società libera e il secondo pilastro sarà la libera circolazione della conoscenza a tutti noi non soltanto all'elite e basati su questi due pilastri avremo una società di donne libere e uomini liberi Amen Amen Tesla costruì la famosa Wardenclyffe Tower dopo pochi esperimenti provò che poteva mandare illimitate quantità di energia migliaia di cavalli tra due pianeti indipendentemente dalla loro distanza e lui usò una frequenza di 28 kHz la stessa frequenza che abbiamo misurato sulla piramide del Sole questa è la frequenza per trasferire l'energia e l'informazione nel spazio questa è la frequenza necessaria per trasformare per trasmettere l'energia e le informazioni nello spazio ci sono molte altre piramidi attive Kukulkan in Messico la piramide della Luna di Teotihuacan il professor De Bertolis dell'Università di Trieste andò nel centro del raggio del raggio di energia alla sommità della piramide del Sole era d'inverno e ha misurato la presenza di ultrasuoni noi possiamo sentire i suoni da 10 Hz a 20 kHz da 20 kHz in poi possiamo misurarli quindi lui convertì la frequenza degli ultrasuoni in qualcosa che noi possiamo udire questo è il suono della piramide il settembre scorso abbiamo sentito il drone sopra la piramide del Sole con degli strumenti le misurazioni più interessanti in campo elettrico il raggio va 4,5 metri si espande raggiunge 20 metri si restringe e si espande ancora e poi diventa ancora i fisici hanno concluso che questo fenomeno erano onde scalari o campi di torsione si muovono viaggiano molto più velocemente della velocità della luce quindi il primo potenziale scopo delle piramidi è la comunicazione interstellare qual è l'orientamento delle onde scalari questa è una misurazione nel pomeriggio era principalmente sud ovest nel pomeriggio il nostro sole è a sud ovest a mezzogiorno e sud alla sera è ovest questo può significare che le onde scalari della piramide comunicano con il sole utilizzandolo come porta cosmica andando poi verso altri sistemi solari una base per l'internet cosmico la scienza può confermare questo la scienza può confermare questo quanto tempo abbiamo? ok, facciamo un giro veloce nei tunnel sotto la piramide due civilizzazioni i costruttori 30.000 anni tutto era chiuso 5.000 anni fa i tunnel vennero chiusi con materiali di riempimento e muri a secco all'interno troviamo un sacco di orbe entità di energia sono sempre bianche e sferiche qualche volta blu abbiamo trovato grandi blocchi che abbiamo analizzato materiale artificiale ceramico abbiamo usato il georadar e all'interno c'è un cristallo di quarzo quindi al di sotto c'è un corso d'acqua sotterranea che rilascia energia l'energia attiva il cristallo di quarzo che è circondato da ceramica che vibra producendo un campo elettromagnetico abbiamo misurato due frequenze importanti con una strumentazione scientifica la prima frequenza è 28 kHz che scorre nei tunnel come un flusso di energia la piramide attira questa frequenza e a spirale la spinge verso l'alto e la seconda frequenza è una frequenza molto bassa 7,83 Hz in scienza è chiamata la resonanza Schumann il primo campo energetico per noi abbiamo analizzato questo blocco per le radiazioni abbiamo una radiazioni alta frequenza e c'è molto blu che è molto positivo per il lavoro spirituale rilassamento meditazione proiezione astrale aprite le mani al di sopra di questo blocco potete sentire l'energia cominciamo a sviluppare i nostri sensi spirituali l'altro blocco chiamato K1 c'è molto rosso bassa frequenza che penetra nel nostro corpo influenza in modo benefico la circolazione del sangue e porta un nuovo aspetto che è quello della guarigione dopo sei anni di pulizia dei tunnel abbiamo scoperto la prima camera duecentotanta metri dall'ingresso è all'incirca cinquanta metri quadri di larghezza con quattro metri di altezza la gente che arriva viene lì e sta bene camminando all'interno dei tunnel respirano sempre meglio non è molto logico ma abbiamo capito che niente in Bosnia è logico questa ragazza dalla Slovacchia aveva dei seri problemi di capacità respiratoria dei suoi polmoni stava usando soltanto il 47% dei suoi polmoni dopo due visite 84% abbiamo misurato il glucosio nel sangue prima di entrare nei tunnel prima di entrare nei tunnel questa persona era nel gruppo a rischio e all'uscita era normale pressione sanguigna da molto alta ha valori normali e molti altri casi alcuni veramente molto seri cerchiamo sempre risposte scientifiche abbiamo tre tipi di energia della piramide che possiamo misurare il campo elettromagnetico il migliore campo di ultrasuoni e la migliore risonanza Schumann il quarto elemento sono un'altra concentrazione di ioni negativi puliscono l'atmosfera dalla polvere e dai microbi innalzano il livello di ossigeno nel nostro corpo uccidono virus e batterie in questa stanza 100 ioni negativi per centimetro fuori 500 in un paese in campagna 800 in montagna nelle foreste 4.000 in bosnia 20.000 30.000 40.000 questo inverno 100.000 ioni negativi per centimetro cubo è una facility di guarigione l'altra cosa sono le radiazioni cosmiche che abbiamo fuori molte sono negative per noi e il nostro corpo continua a combattere i nemici nei tunnel non ci sono radiazioni dannose per la nostra salute la radioattività naturale che viene dal terreno abbiamo usato i contatori Geiger nei tunnel delle piramidi bosnia che non c'è radioattività naturale non c'è nessun segnale wifi nessun segnale per i telefoni quando si entra nei tunnel per la prima volta nella nostra vita il corpo non ha nemici e quindi comincia a fare il suo lavoro le cellule iniziano a fare il loro lavoro il loro lavoro è quello di risolvere i problemi nel nostro corpo iniziare il processo di rigenerazione iniziare un processo di autoguarizione e questo è il secondo scopo dell'energia delle piramidi per proteggere quello che è più importante per noi la nostra salute e se siamo fortunati cominciare il processo di ringiovanimento e questo può spiegare questo caso recente di due settimane fa venne a visitare le piramidi uscì dai tunnel dopo due ore l'energia delle piramidi influenza il nostro campo bioenergetico la nostra aura prima dell'ingresso nel tunnel un piccolo problema qui uscita dai tunnel è tutto sistemato i chakra prima non troppo aperti ma piccoli non troppo aperti e dopo il livello di stress il livello di stress il vostro doctor italiano Simone ha mesurato le cellule sangue eccellente un movimento eccellente e un movimento eccellente e una forma eccellente dei globuli rossi lasciando abbastanza spazio ai globuli bianchi per attaccare le tossine un altro scopo dell'energia è quello di migliorare la struttura molecolare dell'acqua questa è la struttura molecolare dell'acqua delle piramidi esagonale per migliorare il nostro cibo quindi la piramide è una macchina per l'energia molto complessa che lavora a diversi livelli creata da una civiltà molto avanzata e dovremmo imparare da loro non pretendere che non esistano la Bosnia è conosciuta come un paese di guerra e di violenza del 1990 negativa cambiamolo sta diventando il paese delle piramidi della ricerca dei volontari del turismo la gente arriva da tutto il mondo ricaricandosi con l'energia delle piramidi questo è un sito web in italiano organizziamo campi di lavoro per i volontari giugno, giulio, augusto, settembre dal giugno a settembre mostrando loro anche i siti archeologici e le bellezze del paese e le bellezze del paese il parco bellissimo che abbiamo realizzato con concerti e spazi per concerti e meditazione labirinti di purificazione e poi gli diamo gli strumenti per lavorare aiutateci a pulire la piramide del sole aiutateci a pulire i tunnel divertitevi nel frattempo quindi quando pensiamo al futuro dell'archeologia e alla scienza e all'umanità tutto questo non è nelle persone con una mente ristretta che non sono pronte a condividere nella scienza elita è nelle persone con la mentalità aperta che condivide con altri l'informazione e la conoscenza e che ha un sorriso sul volto grazie 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 anzitutto ringrazio veramente di cuore gli organizzatori del gruppo Mystery Hunter perché oltre alla stupenda accoglienza hanno creato veramente un evento eccezionale e penso che un applauso sia doveroso è il minimo l'argomento di cui vi parlerò è l'India i misteri di questo antico continente e diciamo la punta dell'iceberg di elementi, di tradizioni che fino ad oggi si è conosciuto si sta studiando e si sta costantemente ogni giorno di più sempre di più scoprendo prima di fare questo però cambiando un po' quello che è l'ordine delle slide che normalmente presento e prima ancora di entrare appunto nel vivo dell'intera questione a fronte anche di quelle che sono state scoperte che sono avvenute nell'ultima settimana dieci giorni e in alcuni casi di qualche mese fa ho voluto fare con voi alcune riflessioni e fra poco anche alcuni calcoli per vedere quelle che sono non solo le possibilità di vita nell'universo ma anche tutta una serie di questioni che ci riguardano particolarmente non solo come tema di questo convegno ma anche come intera umanità il signore che vedete è Arthur C. Clarke penso molti di voi lo conoscano scrisse 2001 Odissea nello spazio poi divenuto un film di Stanley Kubrick e tantissimi altri romanzi tra cui per esempio l'impero di Rama che sono alla base della fantascienza moderna lui è uno dei padri della fantascienza moderna Arthur C. Clarke nel 73 un po' come Isaac Asimov pronunciò tre leggi fondamentali la terza è forse la più interessante e dice, la vedete in basso qualsiasi o qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia questo per dire cosa? che se non conosciamo un qualcosa che ci si manifesta ci si presenta per la prima volta e che ha un livello tecnologico estremamente più avanzato del nostro ovviamente la scambieremo come magia nel 2002 uno storico della scienza Michael Shermer sconosciuto in Italia ma all'estero è uno dei luminari appunto nella storia della scienza ampliò quello che era la terza legge di Arthur C. Clarke e andò un po' oltre anche un po' in controtendenza rispetto a quello che è lo status quo accademico e affermò che qualunque intelligenza extraterrestre sufficientemente avanzata è indistinguibile da Dio qui ovviamente Mauro penso potrà approfondire meglio l'intera questione ma anche nel caso indiano vedremo come ci siano tantissime affinità su questa frase come su quella di Arthur C. Clarke sono estremamente attuali estremamente reali estremamente importanti perché dal punto di vista antropologico che è la mia origine il mio campo di studi sono vere una popolazione che non conosce l'uomo moderno e ce ne sono ancora tante per fortuna nel pianeta e si trovasse davanti un cellulare un tablet qualsiasi strumento che per noi all'ordine del giorno anche la luce elettrica in casa la scambierebbe per magia e noi saremo per loro delle divinità da qui poi quello che che alcuni hanno chiamato la teoria paleastronautica ma è un contesto enormemente più ampio che in piccoli frangenti elementi la scienza moderna un po' così sottovoce sta iniziando ad affrontare pubblicamente la domanda che ci facevamo prima appunto è successo questo nel passato dell'umanità volutamente ho messo una domenica del corriere che non ho visto nella vostra sede ma è una tavola di Walter Molino del 1962 in cui appunto viene rappresentata una popolazione diciamo indigena dell'India e quello che sono appunto le tradizioni sui Vimana quindi carri volanti dell'antica India guidati da, non mi piace il termine divinità o extraterrestri da esseri molto più avanzati di noi che avevano delle tecnologie in grado di di permettergli di costruire queste macchine che erano in grado di volare dopo vedremo dal punto di vista tecnico e scientifico come e cosa hanno realizzato prima di fare questo però e qui veniamo a quelle che sono le ricerche le scoperte fatte negli ultimi tempi in ambito ufficiale facciamo alcuni calcoli vediamo quindi quali sono le possibilità di altre forme di vita nel cosmo questo personaggio che vedete è uno studioso americano uno scienziato Frank Drake che nel 61 creò questa formula senza andare troppo nel matematico che non è neanche la mia non sono molto bravo comunque la formula di Drake ci permette di stabilire dal punto di vista statistico in base in questo caso siamo nel 61 alle conoscenze dell'epoca quali potevano essere quale poteva essere il numero di civiltà simile alla nostra nella nostra galassia e lui arrivò a stabilire un numero di 4590 civiltà simile a quella in cui viviamo noi oggi un ingegnere italiano l'anno scorso Claudio Maccone ha ampliato questa formula semplicemente aggiungendo quelle che erano le ultime scoperte le ultime rilevazioni fatti da strumenti scientifici che vengono utilizzati al giorno odierno e in questo caso siamo saliti a 15.785 è ovvio che per quanto in maniera molto egoista e narcisistica la nostra specie si senta arrivata a delle vette enormi a livello tecnologico e non solo siamo forse ancora neanche in fasce rispetto a quello che può e potrà essere il nostro progresso se non ci autodistruggeremo prima gli strumenti beh insomma basta vedere i telegiornali mi sembra all'ordine del giorno gli strumenti che abbiamo a disposizione ogni giorno ogni mese ogni anno è già un lasso di tempo troppo ampio ci danno nuove informazioni considerate che a ieri i pianeti simili al nostro trovate trovati da attraverso strumenti di vario tipo sono già dell'ordine di 5.875 quindi altre terre simili alle nostre dove perché no si può essere sviluppata la vita quella che vedete appunto è una stima di questa è la nostra galassia e questi pallini rossi che vedete sono il numero di pianeti simili alla terra che ad oggi sono stati trovati questo è un valore di poco tempo fa comunque sia vedete che nella terra si trova in uno dei bracci periferici della nostra galassia e vedete quanto sia infinitesimale il numero di pianeti ad oggi scoperti simili al nostro mappando l'intera galassia quanti ancora ne potremmo trovare quindi siamo veramente agli albori neanche alle origini di una riscoperta di quello che è la nostra galassia parlare di universo è qualcosa di ben più ampio però i calcoli che ho fatto che abbiamo fatto proprio per per questa conferenza ci danno dei valori veramente sbalorditivi anzitutto quante sono le galassie nell'universo questo articolo di giornale basato su uno studio scientifico del 2016 ci dice che ci sono 2 mila miliardi di galassie nell'universo ad oggi conosciuto ed è un numero in costante crescita quindi un numero spaventoso quasi incalcolabile sempre uno studio in questo caso tre anni fa ci dice che solo nella nostra galassia ci sono 8,8 miliardi di pianeti abitabili come la terra quindi possibilmente anche fosse solo l'1% o lo 0,1% migliaia di civiltà simili a noi comunque sia con esseri senzienti con livelli tecnologici probabilmente inferiori uguali o forse anche superiori guardiamo la nostra storia e vediamo come in certi periodi storici come quello medievale ci sia stato un rallentamento se non in molti ambiti uno stop totale di quello che è stato il progresso e quant'altro le ragioni poi le sappiamo e non le sto a ripetere facendo un calcolo semplicissimo noi ci troviamo davanti a 2.000 miliardi di galassie e a 8,8 potenzialmente miliardi di pianeti sistemi solari simili al nostro il numero che abbiamo di possibili civiltà nel cosmo è questo valore qua 17,6 per 10 alla 22 non è stato facile scriverlo in non c'entrava nella slide però questo è il numero ovviamente un po' tirato ma nel senso che non possiamo sapere se realmente sono così tante ma potenzialmente a livello statistico questo è il numero di civiltà che possono potrebbero esistere nell'universo qualcosa di sbalorditivo perché quindi negare che esistano anzitutto come ancora in tantissimi fanno e perché soprattutto negare che alcune di queste non possano realmente aver raggiunto dei livelli superiori ai nostri e quindi oggi come nel passato avere raggiunto anche il nostro pianeta questo era una piccola qualche piccola riflessione e calcolo su quello che la scienza moderna ufficiale ci dice riguardo alla possibilità dell'esistenza di altre forme di vita nel cosmo veniamo all'India i test indiani sono fin troppo specifici in certi casi perché nel mondo induista banalizzando un po' perché l'induismo è una delle religioni se non la religione più antica insieme allo zoroastrismo conosciuta sulla terra l'induismo ha avuto un'evoluzione nel corso dei millenni non ha modificato quella che era la sua base e la sua struttura cardine ci sono tutta una serie di testi si parla di migliaia di testi poi dopo li vedremo ma abbiamo il veda che è il loro testo sacro passatemi il termine la loro bibbia e veda in sanscrito vuol dire conoscenza quindi la conoscenza e abbiamo tutta una serie di sottolibri tra cui purana maggiori e purana minori che amplificano e specificano cose contenute nel veda originario il padma purana che viene messo vi chiedo magari di non leggere ancora lo leggiamo assieme viene messo in forma scritta nell'ottocento avanti cristo ma la tradizione indiana come ad esempio quella dei scelti era una tradizione orale per cui tutte le informazioni venivano trasmesse da bocca a orecchio come dicono loro da maestro a discepolo ovviamente per tutta una serie di ragioni anche storiche si inizierà poi a metterli in forma scritta il padma purana ottocento avanti cristo in uno dei suoi versi ci dice nel cosmo esistono otto milioni e quattrocentomila forme di vita novecentomila delle quali sono acquatiche due milioni sono alberi e piante un milione cento sono piccoli esseri viventi come insetti e rettili un milione sono volatili tre milioni sono animali e infine quattrocentomila sono specie umane i valori sono quelli che sono possono essere di più o di meno ma un testo che ha almeno duemila ottocento anni ci dice che nel cosmo esistono altre forme di vita e addirittura ci dà un valore numerico reale o fittizio che sia perché nell'induismo la consapevolezza che esistano altre forme di vita esiste da sempre e da sempre nei loro testi sacri se ne parla dicendo addirittura come durante la creazione del nostro universo furono creati altri pianeti dove vivevano e si erano evolute altre specie altre forme di vita per cui abbiamo tradizioni che almeno hanno 2.800 anni ma sono enormemente più antiche che parlano di vita nel cosmo una piccola parentesi per gli indiani e l'induismo noi siamo la quinta civiltà che si è avvicendata sul nostro pianeta prima di noi ce ne sono state altre quattro nate e evolutesi e distrutte per guerre o eventi climatici l'ultima delle quali appunto per quello che in India viene chiamato il pralaya cioè il grande diluvio avvenuto circa nel 10.500 avanti Cristo poi le date ovviamente ci aiuta più la paleoclimatologia ma tutta la loro tradizione appunto ci parla del veda della conoscenza che dalla civiltà precedente è stata il più possibile conservata e portata nella civiltà successiva che siamo noi e questo per esempio per chi volesse approfondire lo può trovare scritto nelle leggi di Manu che è uno dei testi più antichi e più sacri e importanti dell'induismo l'induismo e tutta la tradizione indiana va ancora oltre se prendiamo un trattato astronomico il Surya Siddhanta che è uno dei trattati se non il trattato astronomico più antico al mondo ci vengono date tutta una serie di informazioni veramente sconcertanti ad esempio viene calcolato il diametro terrestre con buona pace per i terrapiattisti e mi dispiace però viene calcolato il diametro del nostro pianeta con uno scarto di errore infinitesimale una data precisa per questo testo non c'è perché comunque anche qua si parla di una tradizione orale messa poi in forma scritta i primi accenni alla sua esistenza li troviamo tra il 1300 e il 1500 avanti Cristo ben sapendo che esisteva già da prima al suo interno troviamo per esempio la stima della velocità della luce e anche qua ci si chiede come abbiano fatto con uno scarto di errore infinitesimale si parla di due millesimi rispetto a quello che ci hanno detto i nostri strumenti attuali per cui anche qua come sono riusciti si parla di strumentazioni per osservare il cielo e ad esempio viene qui in altri testi descritto uno strumento in particolare che è uno spettrometro cosa serve serve per vedere la classe spettrale di una stella per cui per classificare quelle che sono le stelle del cielo e anche qua chi ha fornito questa tecnologia a queste persone come hanno potuto arrivare a costruire questi strumenti i testi indiani ci dicono che oltre a essere un retaggio antico della civiltà precedente gli stessi deva cioè questi esseri che poi verranno divinizzati aveva fornito loro tutte le informazioni necessarie per aiutarli in un progresso e in una crescita non solo spirituale ma anche evolutiva come specie la cosa curiosa è che se guardiamo e studiamo il Surya Siddhanta troviamo anche la descrizione di quelle che erano il termine è quello le rotte utilizzate dai deva dalle divinità per viaggiare nella nostra galassia e per arrivare sul nostro pianeta un piccolo inciso la lingua sanscrita è perfetta per definizione sanscrita vuol dire perfezione e studi fatti sia dalla NASA negli anni fine anni 80 che recentemente da una studiosa italiana che però è una ricercatrice universitaria in Austria hanno permesso ad esempio di vedere come la lingua sanscrita tra tutte quelle del pianeta morte o viventi sia la lingua meno ambigua per cui ogni parola ha un preciso significato quello è solo quello quindi indica una sola cosa il termine rotta il termine vimana altri termini che vedremo non sono ambigui per cui indicano quello che vogliono dire Surya Siddhanta ci dice appunto che le divinità gli dei compivano delle rotte specifiche per arrivare su Buloka al centro che è il nostro pianeta questa è una visione della carta del cielo appunto dalla terra questa mappa la realizzò per primo David William Davenport che è stato un grandissimo studioso e ricercatore scomparso prematuramente nell'84 di cui parleremo successivamente che ha rivoluzionato un po' gli studi sull'India e su tutti quelli che sono gli aspetti misteriosi diciamo di questo di questa nazione e lui per primo poi dopo anche altri ricercatori si accorse di questa anomalia rotte specifiche qua non si vedono benissimo ma sono queste linee tratteggiate che il Surya Siddhanta come altri testi ci dicono venivano percorse dai Deva Deva letteralmente vuol dire essere di luce luminoso non perché brillassero come lampadine ma perché erano illuminati dalla spiritualità e dalla conoscenza quindi è un modo di dire che erano esseri superiori rispetto a noi più evoluti in tutti i sensi e nel Surya Siddhanta noi troviamo tutta una serie di dati veramente sconcertanti importantissimo come luogo di origine delle divinità indiane ad esempio e direi anche guarda caso era la costellazione di Orione che in tutte o quasi le civiltà del pianeta ha un ruolo fondante fondamentale soprattutto come luogo di origine per delle divinità dei vari popoli e di varie civiltà Devenport identificò in particolare un asterismo un gruppo di stelle definito Merigashira sottessa dell'antilope da dove secondo lui in base allo studio del del Surya Siddhanta proveniva il gruppo principale di Deva che poi arrivavano sul nostro pianeta ma la cosa curiosa è che una stella in particolare aveva un'importanza cardine in quelle che sono le rotte e le strade se mi passate il termine utilizzate per arrivare su Buloka quindi sul nostro pianeta ed è la stella Betelgeus o Beteljus Betel nell'antica lingua ebraica vuol dire la casa di El la casa di Dio il nome sanscrito è Ardra che ha due significati bagnato e verde intercambiabili quasi a volerci dire che forse uso il condizionale ma potrei anche non usarlo forse in questa zona dello spazio si trovano appunto dei sistemi solari che possono ospitare la vita vedevamo i calcoli di prima insomma 8,8 miliardi di pianeti simili alla Terra solo nella nostra galassia non sono pochi curiosamente scartabellando nei cataloghi della NASA appunto che riguardano gli esopianeti e gli studi statistici dove si potrebbero concentrare con più probabilità sistemi solari simili al nostro troviamo che proprio in questa zona di spazio non proprio vicino a Betelgeus ma c'è un'altissima probabilità di trovare pianeti e quindi sistemi solari che possano ospitare forme di vita intelligente un caso non lo so però comunque sia un antichissimo testo indiano ce ne parla e ci dà dei dettagli veramente eccezionali un dettaglio sconcertante che è ben più di eccezionale il fatto che sempre nel Surya Siddhanta si parla di punti specifici almeno nella nostra galassia da dove i Deva potevano entrare per accorciare le distanze di viaggio per raggiungere il nostro pianeta e questi luoghi vengono chiamati o passaggi per i Vimana o cancelli per i Vimana sono descritti come appunto degli enormi cancelli o degli enormi barchi dentro i quali entrava il Vimana e tornando un attimo indietro uno si trova qua e un altro si trova qui in altro a tempo zero veniva percorsa questa enorme distanza nella nostra galassia ora al di là della fantascienza sappiamo che la scienza ci parla ormai da almeno dagli anni 40 con quello che è lo studio di Einstein e Rosen o i ponti di Einstein e Rosen dei wormhole dei buchi dei tunnel spazio-temporali utilizzabili in un futuro per appunto creare una distorsione dello spazio-tempo e percorrere immense enormi distanze in tempo relativamente minimo se non pari a zero qui abbiamo un trattato che almeno ma forse più di 3.000 anni che ci descrive questo questa realtà ce la descrive in maniera estremamente semplice e estremamente banale ma parla appunto di tunnel passaggi o cancelli attraverso cui appunto si poteva entrare e accorciare come diceva stamattina il dottor Massimo Barbetta riferito però a tutta quella che è la cultura e tradizione egiziana anche qua vediamo come i parallelismi siano veramente enormi innumerevoli e sono sotto gli occhi di tutti da sempre questo è importantissimo dirlo cioè semplicemente non si è voluto non c'è stata la volontà di tirarli fuori e di parlarne in maniera seria e rigorosa anche se negli ultimi anni qualcosina si sta facendo avvicinandoci sempre di più a tutto quello che è la tradizione indiana e alla conoscenza conservata nei loro testi sacri parlo dei loro testi sacri da un punto di vista di studio semplice letterale come fa Mauro semplicemente perché sono facilmente acquisibili e facilmente leggibili per cui non c'è nessuna manipolazione o interpolazione c'è da parlare un attimino prima del contesto geografico e storico in cui ci troviamo nei libri di scuola almeno fino alla mia età si parlava sempre come culle o madri della civiltà la zona ovviamente della Mesopotamia la zona dell'Egitto e raramente ci si spostava ben oltre nessuno sa o conosceva la civiltà dell'indo o civiltà arappa tanto meno si arrivava a parlare di Cina e Giappone il fatto è che la civiltà arappa o civiltà della valle dell'indo che qui vedete colorata di viola è coeva e contemporanea alla civiltà mesopotamica addirittura Giovanni Pettinato che non è l'ultimo arrivato scomparso recentemente il più grande sumerologo italiano dava tre possibilità come origine del popolo sumerico e quello in cui lui credeva maggiormente era appunto che provenissero dalla zona della valle dell'indo quindi che fosse una parte di questi popoli che per un motivo X che non sappiamo a un certo momento si staccò e arrivò in quello che è tutto il Golfo Persico e la Mesopotamia questo ci viene anche confermato dall'archeologia perché sappiamo che la valle dell'indo gli uomini della valle dell'indo ebbero importantissimi scambi commerciali con tutta la Mesopotamia e i sumeri li chiamavano Melluca la civiltà arappa e questi scambi durarono appunto fino al 1900 a.C. quando la civiltà dell'indo scomparve quasi di punto in bianco un'intera civiltà con 1200 città ad oggi trovate scomparve letteralmente quindi quello che abbiamo studiato a scuola quello che abbiamo imparato è realmente un'infinità una particella infinitesima di quello che realmente la nostra storia e il nostro pianeta ci deve ancora svelare ci sono tantissime civiltà come la civiltà arappa che sono state contemporanee allo stesso tempo importanti nello sviluppo di quelle scusate che sono le civiltà madri del nostro pianeta è curioso vedere anche come l'agricoltura si sviluppa più o meno contemporaneamente nello stesso periodo storico in tutto il pianeta e tra questi luoghi abbiamo appunto quasi contemporaneamente sia la civiltà dell'indo sia la civiltà mesopotamica e ci spostiamo poi anche in Sud America o in Giappone questi luoghi vengono chiamati centri di Vavilov e addirittura Vavilov che fu uno studioso russo datò le prime forme di agricoltura addirittura all'11.600 anni fa quindi contemporaneo alla fine del grande diluvio che non solo i miti ma la paleoclimatologia ci dicono avvenne in tutto il pianeta e in India per esempio le prove archeologiche sono intere città sommerse lungo tutto il litorale costiero indiano che dal 2006 2007 all'incirca si è iniziato a ritrovare che sono datate proprio a questi periodi storici tante informazioni purtroppo non possiamo andare troppo nello specifico perché è una cultura una civiltà talmente estesa talmente antica e complessa che dobbiamo e possiamo solo fornire delle piccole pillole però sono già sintomatiche della complessità di questa cultura che come occidentali questo è fondamentale è importantissimo dirlo abbiamo letteralmente travisato commercializzato e storpiato rispetto a quella che è la sua vera essenza e la sua vera origine la Shruti è come leggete la tradizione ascoltata all'alba dei tempi l'induismo non ha un fondatore non ha una data di origine non ha tutto quello che tante religioni a noi più vicine hanno gli indiani chiamano l'induismo sanatana dharma cioè la religione banalizzando che è sempre esistita e i testi sacri che loro possiedono come il veda che è il più importante ripeto vuol dire la conoscenza secondo la tradizione appunto la Shruti furono ascoltati all'alba dei tempi da uomini saggi che vengono chiamati risci e quindi memorizzata e poi successivamente messa in forma scritta ed è una una tradizione una conoscenza non solo religiosa o spirituale ma anche una conoscenza molto più terrena se mi passate il termine dove vengono forniti anche tutta una serie di elementi dati scientifici diremmo oggi che spaziano dall'astronomia appunto a tecniche e lo vedremo fra poco ingegneristiche veramente sconcertanti prima vi parlavo della complessità dell'induismo questa è una mappa un diagramma di flusso che in maniera abbastanza semplice cerca di schematizzare quelle che sono le varie realtà le varie strutture dell'induismo anzitutto un errore fondamentale che come occidentali abbiamo sempre fatto è quello di credere che l'induismo sia una religione politeista cioè in cui si adorano tante divinità quanto di più sbagliato loro sono una religione enoteista esiste un dio supremo unico inconoscibile inarrivabile e tutta una serie di manifestazioni o avatar o incarnazioni di questo essere supremo che poi sono i vari personaggi da Krishna Vishnu Shiva e quant'altro che conosciamo della tradizione indiana l'induismo poi si divide principalmente in sei darsana vengono chiamati tra cui troviamo il Vaisheshika che è molto materialista scientifico il Sankhya che è quasi ateo lo yoga e altri per cui ha una una suddivisione che come occidentali se uno non non studia in maniera approfondita questa realtà non può conoscere e poi abbiamo tutta una serie di testi sacri vedete il Manosmriti che è le leggi di Manu il Veda le varie realtà che l'Ityasa che sono il Mahabharata il Ramayana Ityasa vuol dire ciò accadde realmente si parla di testi epici di storie che però traggono spunto da eventi reali che poi sono diventati in parte religione in parte epica mitologica ma che appunto prendevano le loro origini da eventi accaduti realmente nella storia e nel continente indiano i numeretti che vedete qui accanto sono il numero di libri di volumi che ognuna di queste realtà possiede per cui sommandoli tutti veramente abbiamo una quantità immensa di testi sacri che ad oggi in parte ci sono ancora preclusi perché lo studio dell'India e della civiltà indiana inizia ufficialmente verso la metà dell'ottocento e i tedeschi in primis e gli inglesi dopo sono stati tra i primi ad avere iniziato a tradurre i testi sacri indiani traduzioni certe volte come si dice a Firenze un po' alla buona nel senso quando non si capiva o non si riusciva a tradurre si saltava e si andava avanti per fortuna ci sono i testi sacri in sanscrito e oggi come oggi si sta ritraducendo tutta questa enorme mole di conoscenza e si stanno stanno emergendo veramente dei dati impressionanti però vedete come l'induismo sia qualcosa di ben diverso da quanto comunemente si conosce e si crede è proprio forse anche per la sua antichità non solo per il retaggio che si porta dietro quanto di più complesso forse si possa trovare almeno in estremo oriente ci sono poi tutta una serie di personaggi figure realtà che hanno un ruolo fondamentale e tra queste al di là che mi piace come personaggio proprio per le storie legate a lui troviamo il dio Shiva considerato tra i tanti epiteti che ha anche ad esempio il primo maestro dello yoga la di oggi e lui è importante perché lo skanda purana un altro testo sacro ci dice che dopo essere stato per moltissimo tempo in meditazione Shiva si risveglia sul monte Kailash che è nel Tibet si risveglia e si trova davanti sette Rishi sette uomini saggi che guarda caso erano gli stessi scampati al diluvio indiano e a cui era stato dato il compito di preservare la conoscenza per quella che sarebbe stata la nuova civiltà che sarebbe dovuta rinascere e questi sette saggi si trovano al cospetto di Shiva e vogliono conoscere da lui le conoscenze più segrete più importanti che questo essere aveva e Shiva gliele dona e gli dice andate in tutto il pianeta e portate queste conoscenze per ripopolarlo per permettere alle nuove civiltà di di evolversi un po' più velocemente dopo il diluvio rispetto a quanto avevano fatto fino a quel momento e la cosa curiosa è che noi troviamo tantissime tradizioni in tutto il pianeta dove ci sono queste figure cioè figure di sette uomini sette saggi che arrivano e insegnano l'arte dell'agricoltura oppure della costruzione delle case o quant'altro quindi sono considerati dei civilizzatori tornando un po' all'inizio a quello che dicevamo all'inizio con le leggi di Schermer in certi casi come nel caso dei Sumeri e della Mesopotamia dove troviamo i sette Apkallu vengono divinizzati sono sette divinità diciamo che portano conoscenza e non solo questo non è un sigillo sumero ma è un sigillo trovato in Pakistan appartenuto alla civiltà arappa e ci mostra proprio questi sette uomini con il dio Shiva qui in altro in quella in una struttura che poi successivamente diventerà lo Shiva Nataraja quindi lo Shiva che è accerchiato da un cerchio scusate il gioco di parole e che corrisponde al ciclo del samsara quindi di morti e rinascite questo sigillo è databile al 2600 avanti Cristo la civiltà rappa o della valle dell'indo furono gli antenati precursori di quello che è l'induismo moderno è una civiltà veramente affascinante difficilissima da studiare perché in buona parte oggi si trova in Pakistan che è un paese come potrete immaginare non facile da raggiungere e da studiare personalmente ci sono stato sulla fine del 2012 per fare un documentario arrivamo un mese dopo l'attentato a Malala che era quella ragazzina a cui spararono e che poi ha ricevuto recentemente il premio Nobel e vi posso dire che non è stato minimamente facile fare quello che dovevamo fare però ci siamo riusciti un po' forse da incoscienti è una civiltà ancora tutta da scoprire prima di ritornare in India mi piacerebbe farvi conoscere alcune realtà della civiltà rappa che sono un po' passate sotto silenzio ma sono veramente interessanti prima tra tutte come dicevo prima 1200 città ad oggi scoperte spopolate di punto in bianco dopo vedremo perché un altro dato importante è che la loro scrittura ancora oggi rimane indecifrata del tutto non siamo riusciti minimamente a rompere il codice linguistico che avevano appunto nella loro nella loro scrittura curiosamente la loro scrittura è molto simile per non dire uguale al rongorongo il rongorongo è la scrittura che troviamo nell'isola di Pasqua e questo dato venne evidenziato già all'inizio del novecento da uno studioso ungherese Guillaume de Vessy e ad oggi non ha una risposta studi di pochi mesi fa ci dicono che a livello genetico per cui abbiamo un elemento tangibile e concreto per spiegare come mai ci siano queste due scritture uguali in Pakistan e nell'isola di Pasqua pochi mesi fa uno studio pubblicato sulle scienze ha scoperto ha evidenziato che nel sangue degli aborigini australiani esistono i marcatori genetici di popolazioni indiane indiane dell'India e sono riusciti addirittura a datarle tra parentesi hanno scoperto che il dingo australiano ha origine appunto con i cani che si trovano ancora oggi in India e basta vedere due foto sono veramente uguali hanno datato più o meno il periodo in cui dall'India si arrivò in Australia e siamo in un periodo che è circa il 2.200 2.300 avanti Cristo quindi in piena civiltà arappa da qui poi molto probabilmente si sono spostati oltre addirittura ci sono studiosi indiani che dicono siano arrivati fino in Sud America è un altro discorso estremamente complesso ma non ho capito scusate la genetica piano piano mappando quelle che sono le varie popolazioni o tribù o realtà in tutto il pianeta ci sta fornendo dei dati veramente sconcertanti abbiamo la prova che quantomeno dall'India siano arrivati fino all'Australia e quindi molto probabilmente siano anche giunti nell'isola di Pasqua per cui abbiamo un mondo veramente da riscoprire delle realtà che sono state celate nel tempo nascoste e anche dagli uomini e che piano piano stanno riemergendo queste tradizioni come vi dicevo confluiscono in quello che è l'induismo il Pakistan come sapete è una nazione oggi a maggioranza musulmana ma ha una nascita relativamente recente perché il Pakistan nasce nel 1947 prima era tutto India da appunto guerre interne che portarono alla divisione dello stato pakistano dallo stato indiano un altro luogo conteso da ambedue queste realtà oggi è il Kashmir che è indiano ma c'è una fortissima presenza musulmana e le guerre in Kashmir per un'indipendenza sono ormai esistono ci sono da veramente da tantissimi anni per cui tutto quello che è l'origine dell'induismo può essere trovato realmente in buona parte nel Pakistan però come vi dicevo è estremamente difficile andare lì e fare studi e ricerche serie essendo uno stato teocratico uno stato islamico tutto quello che non rientra qui non è un giudizio personale ma una realtà di fatto tutto quello che non rientra all'interno dell'islam viene diciamo abbandonato e lasciato alla malora e quindi viene abbandonato e quindi distrutto dal tempo il sito di Mohen Jodaro di cui parleremo successivamente vi posso dire che nonostante faccia parte di uno dei siti dell'UNESCO Censiti quindi dovrebbe essere protetto preservato e quant'altro si sta letteralmente sbriciolando per una totale incuria così come la civiltà Gandhara che è una delle prime forme di buddismo presenti in Pakistan si lasciano i monumenti così alle intemperie senza nessuna cura e anche qua si stanno distruggendo però buona parte di quelle che sono certe tradizioni dell'induismo moderno appunto hanno la loro origine e proprio nella zona del Pakistan moderno tradizioni che ci parlano come vi dicevo prima di Deva di esseri superiori che nei tempi passati arrivavano sul nostro pianeta su Buloka per interagire con con gli uomini con le realtà che si trovavano nella zona dell'India e troviamo tantissimi elementi non solo nella letteratura nella religione nel mito che ci dicono questo il Times of India del luglio 2014 ci dice ad esempio che erano stati scoperti una serie di dipinti rupestri datati a 10.000 anni fa nel Chattisgar che è una delle varie zone nell'India più o meno centrale questi questi disegni rupestri raffiguravano qualcosa di curioso un oggetto a forma di campana che si librava su degli animali il l'archeologo che per primo rese pubblica questa notizia parlò addirittura lo potete leggere di alieni UFO che erano stati dipinti 10.000 anni fa cosa curiosa questo archeologo pochissimo tempo dopo è stato buttato fuori dal dipartimento in cui si trovava e ovviamente lo hanno zittito togliendogli qualsiasi incarico e possibilità di parlare ulteriormente però ci sono i dipinti rupesti mi sembrano alquanto emblematici sempre nello stesso gruppo di dipinti troviamo questo oggetto che anche qua questo è un dettaglio viene raffigurato sopra degli animali quindi quasi a volerci dire che volava sopra questi animali e quella che gli archeologi qui ovviamente non ci si può pronunciare ufficialmente per cui sono rappresentazioni del sole secondo quello che hanno detto dopo altri archeologi non certamente il primo questa però sappiamo per certo che una delle prime rappresentazioni del dio Shiva che ha appunto un'età veramente enorme si parla di 10 mila anni nel luglio del 2016 nella zona di Anegundi nel Carnataca vengono fatte altre scoperte sempre di dipinti rupesti un po' più vicini a noi temporalmente ma ancor più emblematici è una zona veramente dispersa nel nulla difficile anche da raggiungere e quello che viene trovato appunto sono scene comuni di caccia vedete animali ci sono dei cacciatori se qualcuno ha notato qui in alto c'è qualcosa di curioso sempre messo in alto sempre messo quasi a volerci dire che si librasse sopra questo gruppo di animali e uomini e quello che viene rappresentato è questo anche qua ufficialmente si è parlato di una delle del sole di una delle tante raffigurazioni del sole nella realtà analizzando questa immagine ci si rende conto che all'interno sono rappresentati anche con semplicemente con photoshop ci sono tre uomini intenti in qualche cosa e le stesse descrizioni che ne vengono fatte di questo oggetto dalle tribù locali ci parlano di oggetti che in tempi antichissimi si erano dal cielo erano scesi sulla terra tra queste popolazioni avevano portato delle conoscenze che gli avevano o gli avrebbero permesso di evolversi dal punto di vista agricolo sociale e culturale questi esseri venivano chiamati rochini da queste tribù cioè uomini dalla pelle rossa o rossastra per cui non è solo un dipinto ma sono le tradizioni dei locali preservate per millenni che ci parlano di passatemi il termine divinità scese dal cielo per portare la conoscenza e anche qua sembra un leitmotiv comune non solo all'india ma a tantissime altre realtà in tutto il pianeta prima nello schema di cui che si vedeva prima abbiamo visto il termine ittiasa ciò accadde realmente questo è la traduzione letterale dal sanscrito che ripeto non è una lingua ambigua l'ittiasa sono il ramayana e il mahabharata sono due testi epici e anche religiosi che raccontano guerre storie di eventi avvenuti realmente una in particolare e si ricollega un po' agli studi ovviamente di Mauro Biglino del dottor Pietro Buffa di Massimo Barbetta ad esempio prendendo le tantissime storie e tradizioni presenti si parla di clonazione negli antichi testi indiani viene raccontata la storia alla base del mahabharata cioè la guerra tra due famiglie i Pandava e i Kaurava tra virgoletti i Pandava erano i buoni dove troviamo Arjuna dove troviamo Krishna che aiuta Arjuna i Kaurava erano i cattivi di turno che non avendo avuto territori appunto iniziano una guerra che poi porterà per tantissimo tempo queste due famiglie a combattersi i Kaurava che cosa fanno? i Kaurava siccome vogliono avere una supremazia una superiorità nell'esercito creano cento uomini cento cloni potremmo dire oggi totalmente uguali ma estremamente potenti come succede? la loro madre praticamente rimane incinta e dopo avere passato quello che è il periodo di gestazione normale per un feto si trovava a non riuscire ad avere questo figlio inizialmente ha un aborto volontario e in quel momento preciso arriva un personaggio fondamentale di tutta la tradizione indiana che si chiama viasa che è lo stesso personaggio che poi porterà il veda ad avere un'importanza come lo avrà nell'induismo e lo divide in quattro libri per essere più comprensibile e fruibile diciamo dalla gente comune cosa fa viasa? prende questo viene descritta come una massa grigiastra e la divide in cento parti mette queste cento parti in cento urne chiamate cicciamasa lo trovate qui sotto che non sono giare di terracotta semplici sono giare che già nel rigveda qui trovate i riferimenti in altri testi erano state utilizzate per far crescere un feto fuori da un utero materno quindi una gestazione extrauterina queste cento cellule potremmo dire vengono messe in queste urne e dopo poco tempo si sviluppano i cento fratelli Kaurava che sono dei guerrieri potentissimi quasi indistruttibili e che fino all'ultimo momento quasi avranno la meglio in quella che è la guerra del Mahabharata e a un certo momento cosa succede? però arriva consigliato da da Krishna Arjuna che viene prelevato viene portato questa è la descrizione che troviamo nel Mahabharata viene portato fuori dal nostro pianeta e portato nello spazio più profondo dove arriva in quella che è la città del dio Indra 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 Loka o pianeta di Indra che viene descritta come un pianeta meccanico quindi non fatto di terra ma fatto di metallo Arjuna prima di entrare ripeto questo è scritto nel Mahabharata può essere trovato senza problemi prima di entrare dentro Indra Loka per un motivo che ora vedremo si ferma a bordo di un Vimana e vede nella descrizione del Mahabharata migliaia e migliaia di Vimana che stazionavano entravano uscivano dalla città volante di Indra questo sembra tratto da un romanzo di fantascienza in realtà è un testo che almeno ha 3.000 anni se non di più Arjuna entra dentro la città di Indra dove gli vengono donate delle armi particolari chiamate Tejasastra armi divine poi dopo vedremo cosa vuol dire letteralmente che una volta tornato sulla terra gli permetteranno appunto di vincere la guerra uno spot di informazioni dove vedete sono raccolte tantissime tantissime nozioni vi dico solo che leggere tutto il Mahabharata dall'inizio alla fine forse una vita non basta perché è un'opera veramente immensa scritta in sanscrito e in tedesco italiano inglese esistono solo delle sintesi perché è talmente ampia che non è mai stata tradotta fino ad oggi integralmente però già il poco che è stato tradotto ci fornisce tutta una serie di dati sconcertanti che spaziano da tecniche di clonazione ma ce ne sono in questo ambito specifico tantissimi altri racconti a descrizioni di quello che invece sono viaggi al di fuori del nostro pianeta terra e a una presenza di altre realtà civiltà o esseri fuori dal pianeta terra venendo sempre più all'argomento in oggetto i Vimana i Vimana i Vimana sono gli strumenti che come abbiamo visto fin dall'inizio i DEVA questi esseri superiori utilizzavano per spostarsi non solo nel cosmo ma anche sul sul nostro pianeta nella nostra atmosfera sono stati ad oggi classificati almeno 59 tipi diversi di Vimana così come sono presenti nei testi sacri e in molti casi vengono raffigurati come queste sono raffigurazioni moderne settecentesche comunque come delle scodelle a bordo delle quali volavano le divinità e che elargivano doni o facevano anche guerra attraverso i Vimana nella realtà dei fatti la loro forma è ben diversa lo vedremo fra poco ed è molto più complessa ci sono tutta una serie di testi sacri che ne parlano mai profusamente mai nel dettaglio specifico ma fornendoci tutta una serie di elementi fondamentali e questi testi sono alla base di tanti studi che oggi vengono compiuti che nel corso degli ultimi anni sia ricercatori indiani italiani che americani stanno riprendendo e rianalizzando scevri da tutto quello che è la patina di religione per identificarne eventuali elementi tecnico scientifici e quello che è venuto fuori anche qua è veramente incredibile abbiamo il Vakra Prasarana di Antra che è uno strumento che serviva al Vimana per svicolare nel cielo e quindi sfuggire a un Vimana nemico che avrebbe voluto distruggerlo troviamo quello di cui parlavamo prima il Vanta Pramapakayantra che è uno spettrometro ricostruito e funzionante dall'Università di Bombay in India da docenti universitari e anche qua siamo davanti a una tecnologia fuori dal tempo perché si parla di un testo o comunque di tradizioni che hanno almeno 3.000 anni per uno strumento che noi invece abbiamo ricostruito all'incirca nell'Ottocento per cui 1.800 quindi anche qua e il più carino e interessante quello che tengo sempre per ultimo è il Chumbachmani cos'è il Chumbachmani? viene descritto in vari testi come un liquido che se sottoposto a diciamo un'agitazione a uno shakeramento e anche alla luce solare generava elettricità energia elettrica la cosa curiosa è che anche qua ci troviamo in un testo dell'VIII secolo avanti Cristo e il professor Sharon dell'Università sempre di Bombay docente di nanotecnologie ha detto un giorno di qualche anno fa proviamo a ricreare questo strumento vediamo se è solo mito se è una cozzaglia di dati oppure se c'è realmente qualcosa di reale quello che ne è venuto fuori è una pubblicazione scientifica una di diverse e tra parentesi prima che un articolo scientifico venga pubblicato è sottoposto a tutta una serie di chi lavora all'università lo sa di verifiche screening e quant'altro per cui ciò che viene pubblicato ha un valore e una replicabilità quello che ha fatto Sharon ancora vivente anche se molto anziano ha sconcertato lui stesso perché si è reso conto una volta che ha ricreato il Ciumbacmani di cosa aveva davanti di cosa aveva sotto mano questo liquido non è altro che un liquido fotovoltaico un pannello fotovoltaico in forma liquida che ad oggi per quanto io ne so non è mai stato creato se non in questo caso e a cosa serviva? Sul Vimana serviva per dare una fonte di energia di emergenza ulteriore nel momento in cui ci fosse stata una guerra o una battaglia con tutta un'altra serie di applicazioni il testo in oggetto anzi i primi pannelli fotovoltaici o solari vengono creati come specie umana in Giappone all'inizio degli anni 70 il testo in cui se ne parla uno tra i tanti testi vede la luce nel 1918 da tradizione orale a forma scritta era uno dei non gli ultimi ma uno dei tanti testi che ancora rimaneva come tradizione orale non era mai stato ancora messo in forma scritta ed è un testo oggi ampiamente dibattuto si chiama Vimani Kashastra forse qualcuno di voi lo conosce e permettetemi sarà abbastanza netto la stupidità umana soprattutto degli scettici tende a relegarlo nel mito e nella fantascienza c'è da dire che il Vimani Kashastra è un testo reale abbiamo tutte le fonti storiche e la tradizione attraverso cui poi si è arrivati ad ottenerlo per cui sappiamo che è un vero testo antico ma soprattutto mi devono spiegare gli scettici se è un falso come spesso dicono come sia possibile che nel 1918 un bramino del sud dell'India potesse così dettare e far conoscere una tecnologia che poi noi abbiamo ricreato solo negli anni 70 per cui già questo di per sé ci dice come questa tradizione di cui parlavamo sia molto antica e questo testo in particolare sia molto più reale di quanto si crede molti degli studi che io sono un antropologo per cui cerco di studiare più dal punto di vista storico e antropologico questa è realtà ma una persona che in India sta facendo veramente tanto è la dottoressa Cavia Vaddadi che è questa persona questa donna che vedete qui sotto che è un ingegnere aeronautico nel libro scritto insieme a Mauro a Mauro Billino una parte degli studi pubblicati sono proprio della dottoressa Vaddadi di un team di altri ingegneri e studiosi indiani che un po' fuori dalle righe però stanno portando tutte queste conoscenze e questi studi all'attenzione non solo indiana ma anche di tutto il mondo e fra poco vedremo quello che la dottoressa Vaddadi insieme al team di scienziati indiani ha scoperto ed è veramente sensazionale rimanendo sempre più in ambito storico è importante vedere come siano veramente tanti testi in cui si parla di tecnologie di Vimana di qualcosa che è letteralmente fuori dal tempo e non poteva esistere quando questi testi furono messi in forma scritta uno in particolare che vedete qua è il Samarangana Sutradara un po' non sciogli lingua ed è un testo di architettura viene messo in forma scritta nel 1051 dopo Cristo per cui circa mille anni fa da un regnante un Maharaja cioè un grande re chiamato Boja che stava vedendo nel suo regno le antiche conoscenze disperdersi si stava perdendo l'antica sapienza tramandata dai sapienti quindi manda i suoi missari in tutto il regno per raccogliere e preservare queste antiche conoscenze e nasce appunto nel 1051 questo libro che vedete è veramente importante perché in un capitolo in particolare il trentunesimo che circa consta di 200 pagine viene dedicato interamente alle iantra letteralmente vuol dire macchine e viene detto subito che non tutto potrà essere detto perché certi tipi di conoscenze nelle mani sbagliate potrebbero diventare fonte di morte e di distruzione conoscenze su cosa? su come costruire ad esempio una parte dei Vimana e vengono forniti tutta una serie di dettagli tecnici e oggi diremmo scientifici utilizzati come vedevamo dalle università odierne per ricreare macchine e strumentazioni che poi sono del tutto funzionanti tra cui il Chumbachmani un altro dato interessante che ci viene detto sempre dal Samarangana Sotradara che i templi indiani come siamo abituati a conoscerli furono creati realizzati nella loro forma prendendo spunto dai Vimana per cui sono un po' modificati ovviamente sono in pietra per cui bisogna anche renderli così insomma durevoli nel tempo e non solo però la loro forma originaria prende appunto spunto da quella dei Vimana nel sud dell'India questa parte tonda circolare discoidale che vedete ancora oggi dal punto di vista architettonico viene chiamata Vimana per cui ed è il punto che mette in congiunzione in contatto l'umano con il divino il terrestre con quello che si trova oltre la nostra atmosfera cognizioni che in ambito induista indiano esistevano da sempre per cui tanti piccoli tasselli tanti piccoli elementi che in varie forme in varie modi sono confluiti fino ad oggi e sono arrivati fino ad oggi chi nega e qui mi riferisco sempre agli scettici queste realtà queste possibilità non si rende conto che non esistono solo i testi singoli ma esistono decine di testi che contengono queste informazioni e non siamo solo nel mille dopo Cristo ma si risale addirittura ad epoche molto più antiche addirittura tre, quattro in certi casi cinquemila anni fa per cui bisogna prima di aprire bocca realmente collegare il cervello e informarsi su quelli che sono gli studi in certi ambiti vero è che questo tipo di di conoscenze questo tipo di studi per quanto siano pubblicati in testi o riviste scientifiche rimangono ovviamente emarginate relegate ad ambiti strettamente accademici e poco più prima parlavamo del Vimanika Shastra ed è curioso anche qua aprire una piccola parentesi questo è il pandit l'uomo il bramino che all'inizio del secolo dettò questo testo insieme ad altri ventiquattro lui era l'ultimo emissario di tutta una tradizione iniziatica che è rintracciabile ritrovabile risaliva anche qua all'ottavo nono secolo avanti Cristo e le sue conoscenze sono state fondamentali una volta che sono state rese disponibili per effettuare gli studi e le scoperte che oggi stiamo compiendo curioso è il fatto che un suo discepolo Shibkur Bapuji Talpade grazie alle conoscenze acquisite da Shubaraya Shastri nel 1895 fece qualcosa che ha rivoluzionato la storia ma è stato dimenticato ben prima dei fratelli Wright nel 1903 questo personaggio Talpade costruì il primo aereo funzionante della storia che volò per un chilometro e mezzo volò sulla spiaggia di Bombay e lui riuscì a costruire il Marushakta che vuol dire letteralmente amico del vento uno dei vimana descritti nei testi sacri grazie alle nozioni e cognizioni che gli erano state fornite date da Shubaraya Shastri per cui anche qua abbiamo la storia abbiamo le evidenze abbiamo i giornali dell'epoca che però non fa comodo conoscere non fa comodo tirare fuori e per cui non se ne parla ovviamente americani primi tra tutti i fratelli Wright sono stati primi beh otto anni prima questo signore che che forse era un nessuno però ha costruito qualcosa che realmente ha cambiato la storia una piccola parentesi forse alcuni di voi l'hanno studiato la conoscono si parla o si sente spesso parlare della cosiddetta invasione ariana dell'India siamo nel periodo appunto della civiltà arappa per cui stiamo facendo un salto indietro notevole la genetica anche qui ci ha detto che non c'è mai stata un'invasione ariana che sì certo popoli provenienti da fuori l'India e il Pakistan odierni sono arrivati in quei territori e si sono ovviamente mischiati con le popolazioni locale a livello genetico e non solo e anche culturale ma non c'è mai stata un'invasione ariana il mito dell'invasione ariana nasce all'incirca a metà ottocento da parte di un personaggio Max Müller tedesco che protestante non poteva accettare che uomini dalla pelle più scura e che si trovavano ad oriente possedessero il primato della civiltà e possedessero dei primati che invece dovevano essere unico patrimonio delle realtà occidentali insomma è un discorso che aprirebbe mille porte ma che evito però capite come certe volte le cognizioni di un'epoca o le cognizioni di un uomo possano realmente alterare quello che poi diventa lo studio della storia dell'umanità e la teoria dell'invasione ariana è perdurata fino a circa 20-25 anni fa per cui finché la genetica non ha smontato pezzo pezzo questa concezione questa ipotesi era uno dei dogmi dominanti del mondo accademico però per fortuna la realtà ci ha dimostrato ben altro parlavo prima della dottoressa Vaddadi e con la dottoressa Vaddadi siamo riusciti a pubblicare su due riviste scientifiche tre articoli per cui dal punto di vista ufficiale a dare un valore a quelli che sono i nostri studi e gli studi di retro-ingegneria fatti dalla dottoressa Vaddadi in cui si parla appunto dei Vimana delle tradizioni indiane di quelle che erano le tecnologie dell'antichità qui vedete sono andata avanti reverse engineering ancient indian Vimana cioè retro-ingegneria su i Vimana dell'antica India Rukma Vimana Prototype abbiamo preso la dottoressa Vaddadi ha preso uno tra i tanti e lo ha studiato analizzato e abbiamo il terzo che è una modellazione 3D con analisi aerodinamiche su uno dei Vimana che è appunto il Rukma Vimana quello che i test le analisi ci hanno detto è anche qua qualcosa di sconcertante anzitutto c'è da dire che sia l'università di Irvine della California ha preso ha ricreato dei modellini del Rukma Vimana e così come ha fatto l'università di Derabad in India quindi entità ufficiali e hanno messo nel tunnel del vento questi modellini per vedere quale era o sarebbe stata la loro risposta a un'azione di simulazione di volo atmosferico quello che ne è venuto fuori è che questi oggetti ne sono stati analizzati diversi sono del tutto aerodinamici sono totalmente aerodinamici e gli studi fatti anche attraverso simulazioni al computer ci hanno confermato questo dato ulteriormente dicendoci addirittura che si tratta in certi casi di forme aerodinamiche che dovremmo in certi casi utilizzare per costruire i nostri velivoli perché sono in alcuni casi migliori di quelle usate oggi ora io ovviamente non sono un tecnico però comunque sia gli studi della dottoressa Vaddadi in parte anche pubblicati nel libro con Mauro Biglino ce ne rendono testimonianza gli studi di flussi di flusso dinamica da lei effettuati sono un elemento di prova ulteriore sono uno spartiacque tra quello che è lo studio da una parte e l'analisi da tavolino e la scienza ufficiale la scienza ufficiale ci dice che questi oggetti per come sono descritti nei testi sacri indiani potevano volare e potevano assolutamente volare nel cielo senza nessun tipo di problema sui sistemi di propulsione anche qua si potrebbe aprire un capitolo enorme ma i testi indiani sono abbastanza scarni sono non ci danno molte informazioni per quello che dicevamo prima ma per esempio ci viene detto che alcuni Vimana utilizzavano il mercurio come propellente quando si spostavano nella nostra atmosfera non viene detto quale fosse il propellente di quelli che invece volavano fuori dalla nostra atmosfera e come ci dicono tanti testi indiani ci viene detto appunto che viaggiavano di loca in loca quindi di pianeta in pianeta inversamente non eravamo solo noi a viaggiare fuori come si vedeva prima c'erano tante realtà che viaggiavano verso di noi e nel novero delle divinità indiane ad esempio c'era Narada Muni che era una divinità che viaggiava nei vari pianeti per portare la conoscenza quindi per far evolvere le varie civiltà che si trovavano nei vari pianeti così come i quattro Kumaras che erano curiosamente degli esserini alti circa un metro e trenta un metro e cinquanta grande testa grandi occhi simili ai nostri senza peli che ci sono tante tradizioni indiane ma anche loro viaggiavano pianeta in pianeta per portare civiltà o conoscenza legandoci a temi un po' più attuali questo tipo di descrizione forse a qualcuno può far venire in mente qualcos'altro ma comunque lascio a voi le risposte questo è un Vimana così come è stato ridisegnato nel 1976 da David William Davenport quel personaggio che vi citavo prima ovviamente figlio della sua epoca assomiglia al modulo lunare però è molto più aderente a quello che è la descrizione dei test indiani comunque sia qualcosa di totalmente diverso dal carro di Apollo o da quello che tante tradizioni in altre parti del pianeta ci hanno descritto e queste parabole o specchi che vedete sono realmente presenti nel testo indiano un testo appunto che ha almeno 2800 anni e sono varie macchine varie strumentazioni che in questo caso il Rukma Vimana questo tipo particolare di Vimana utilizzava in volo e questo era uno dei vari Vimana utilizzati anche per effettuare delle guerre quindi come strumento di offesa e non solo come strumento di uso pratico comune in tutti i giorni prima parlavamo di Ittiasa del Ramayana ciò accadde realmente e Ramayana ci racconta appunto una storia veramente bella e affascinante un'incarnazione dell'essere supremo che prende il nome sulla terra di Rama che è una divinità in terra ha una moglie che si chiama Sita bellissima che viene a un certo momento rapita da un'asura o asciura cioè un demone un'entità cattiva e viene portata nella sua città nella città del demone chiamata Lanca ovviamente ve la sto molto sintetizzando perché anche questo poema epico è veramente immenso e ricchissimo di dettagli tradizioni e quant'altro a noi interessa il cuore Rama che cosa fa? inizia un percorso che poi lo porterà a conoscere altri altri uomini altri esseri che lo aiuteranno a salvare sua moglie e tutto questo avrà un epilogo nella città di Lanca dove appunto Rama Hanuman il dio scimmia e l'esercito di Hanuman chiamato Vanara riusciranno a liberare Sita a distruggere una parte della città di Lanca e quindi Rama e Sita riusciranno a tornare nella sua capitale perché lui era un re senza problemi guarda caso a bordo di un vimana nel pushpa cavimana la cosa interessante è che da sempre si è cercato di collocare geograficamente la posizione di Lanca molti per molto tempo hanno detto sì è lo Sri Lanka però quella che è la descrizione dei territori presenti nel Rama non corrispondono minimamente a quello che è l'orografia e lo stesso Sri Lanka moderno lo stesso nome Sri Lanka è recentissimo si parla degli anni 70 prima veniva chiamata Silon Serendip moda cui il termine serendipità è una autoattribuzione che i cingalesi o i popoli dello Sri Lanka si sono dati per nobilitarsi l'unico luogo che rispetta rispetta quella che era la descrizione presente nel Ramayana nell'antichità è un sito archeologico oggi realmente esistente e che nell'antichità si chiamava proprio Lanca e questo luogo è in Pakistan è appartenuto alla civiltà della Valle dell'Indo e si chiama Mohen Jodaro Mohen Jodaro anche qua tanti fraintendimenti nel corso degli ultimi decenni vuol dire la collina dei morti ma non perché perché come si è detto era un luogo radioattivo e poi vedremo che non lo è e in cui avventurarsi voleva dire sicuramente morire di morte non certamente bella si chiamava la collina dei morti perché prima di essere scoperto nel 22 in questa zona venivano bruciati i corpi di induisti sapete che per loro esiste la cremazione basta non esiste la tumulazione a 300 metri si trova il fiume Indo per cui le ceneri dei morti venivano riversate forse nel fiume più sacro di tutta la tradizione induista per questo si chiamava la collina dei morti è un sito archeologico che per fortuna si è preservato per migliaia di anni perché come vi dicevo è stato coperto dai sedimenti dalla storia e quella che è la descrizione appunto presente nel Ramayana collima totalmente con quella che è la descrizione o comunque sia la realtà che possiamo trovare ancora oggi a Mohenjodaro era una città immensa questo è una rappresentazione moderna era una città talmente immensa che studi recenti dell'università di Karlsruhe in Germania ci hanno detto aveva una popolazione di 100.000 abitanti pensate cosa vuol dire 100.000 abitanti nel 2000 avanti Cristo è una megalopoli di oggi paragonabile a una città da 20-20 milioni di abitanti ed era un luogo fondamentale perché da qua attraverso l'Indo e non solo iniziavano tutta una serie di commerci con l'estremo oriente la Mesopotamia tra cui i Sumeri e molto probabilmente anche l'Egitto e questo ce lo dice l'archeologia era una città che a un certo momento viene spopolata come tutti gli altri insediamenti della civiltà arappa e la vedete il The Times of India del 77 già più di 40 anni fa si parlava di una possibile attribuzione dell'Anca presente nel Ramayana con la città di Moenjodaro e effettivamente nel corso dei decenni si è arrivati ad avere questa certezza anche perché si è scoperto come il fiume Indo che qui vedete molto piccolo in realtà il suo alvio è enormemente grande e nel 2000 avanti Cristo era ancora più grande più volte all'anno questo ce lo dice anche l'archeologia esondava e tutta la città diventava una Venezia dell'antichità l'Anca vuol dire l'isola la città di Moenjodaro diventava a tutti gli effetti un'isola circondata dal fiume Indo e la vita commerciale di tutti i giorni continuava senza problemi per cui tantissime corrispondenze che nel corso dei decenni hanno permesso di identificare l'Anca con Moenjodaro nel 2012 come vi dicevo siamo riusciti fortuitamente con una truppa televisiva ad andare in questo sito archeologico e a cercare di continuare quelli che erano stati gli studi di David William Devenport interrotti bruscamente a metà anni 80 per la sua morte e cercare di capire un po' di più non solo quello che Ramayana ci diceva ma cosa era successo in questa città 100.000 abitanti che di punto in bianco abbandonano le mura in cui avevano vissuto da sempre l'archeologia trova solo 43 scheletri il rapporto fatelo voi di cui 10 lo vedremo dopo sono calcinati quindi sottoposti a una fortissima fonte di calore che aveva provocato l'evaporazione di quello che volgarmente viene chiamato il midollo osseo nel 2012 andiamo portiamo con noi tutta una serie di strumenti qui purtroppo devo essere un po' veloce ma era una città veramente eccezionale nel 2000 avanti Cristo queste nicchie servivano di notte per l'illuminazione stradale questi erano il deflusso delle acque scure c'era una urbanizzazione studiata a tavolino veramente unica nel suo genere che difficilmente può essere trovata in quel periodo in altre realtà del pianeta e ovviamente dava sussistenza a un numero di abitanti veramente unico per quell'epoca questo è la nostra zeglia mattutina alle 4 e mezzo considerate che l'escursione termica si passava dai 46 50 gradi di giorno ai 2 gradi di notte e qui eravamo al 4 dicembre per cui insomma ben diverso da quelle che sono le nostre di escursioni fatto sta che noi ci siamo avvicinati in quello che era una zona di grande interesse per Davenport e per gli studi che ho fatto abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni cioè la zona sud della città per vedere quello che si trovava in quella che il Ramayana descrive come il luogo in cui avvenne la guerra finale e quello che Davenport aveva identificato come l'epicentro di un'esplosione che aveva portato allo spopolamento alla distruzione della città di Lanca questi numeretti che vedete sono delle coordinate e corrispondono ad alcuni dei rilevamenti che ho effettuato nel sito archeologico ne ho fatti molti di più ma qui ne ho messi solo tre per vedere i livelli delle radiazioni aprendo una parentesi da Sicina non solo sono tantissimi i ricercatori che parlano di guerre atomiche nell'antichità personalmente io mi discosto un po' non nego l'esplosione ma penso che non sia di tipo atomica Davenport stesso è morto di un tumore al cervello ma non causato da quella che era l'esposizione a radiazioni io ho reperti di Mohen Jodaro ormai da sei anni in casa faccio corna ma se fossero stati i radiattivi forse non sarei qui a raccontarlo e comunque le ho sottoposti ad analisi che hanno dimostrato che non sono radiattivi poi sul cosa sia successo nessuno lo sa sicuramente un'esplosione atomica avrebbe lasciato tracce siamo andati lì sono andato lì con dei contatori Geiger con degli strumenti specifici anche scavando c'è la vetrificazione lo vedremo fra poco scavando nel terreno nessuno non si potrebbe non si è archeologico ma pensate che quando siamo arrivati ci siamo presentati al direttore di Mohen Jodaro il direttore è arrivato con il suo greggio di pecore che pascolava liberamente in tutto il sito archeologico capite perché si sta anche distruggendo e quindi scavare fare delle buche per arrivare al livello del terreno almeno del 2000 avanti Cristo nessuno ti diceva niente la zona non è radioattiva la radioattività è quella ambientale quella che potete trovare in questa stanza non è mai zero è sempre un valore oscillante ma comunque Mohen Jodaro non era radioattiva l'errore fatto la superficialità fatta nel corso dei decenni era non avere letto e studiato bene quello che dicevano i testi sacri però Davenport aveva iniziato a mettere i primi puntini sulle iso tutto questo discorso quello che vedete è quella che Davenport identifica come l'epicentro della guerra dell'esplosione che avvenne a Mohen Jodaro e che viene descritta nel Ramayana prima vedevate case che avevano pareti alte fino in certi casi anche a 7 8 metri ancora in piedi quelle che vedete come montagnole rosse sono quanto resta nella zona sud della città e il terreno è ancora più sconcertante perché camminando questo sono io in quello che è l'epicentro identificato da Davenport e ha un diametro di circa 400 metri il terreno è letteralmente cosparso queste macchiettine nere sono oggetti di uso comune fusi o vetrificati oggetti come mattoni bracciali ciotole e quant'altro ovviamente non si può anche qua ma ho prelevato molti campioni e poi nel corso degli anni ho fatto fare analisi sia tramite History Channel sia tramite l'Università di Roma e i risultati sono veramente interessanti qui si vede un po' meglio tutte queste zone scure sono oggetti fusi e vetrificati questi sono i resti delle case pensate a quello che avete visto prima al rapporto e qui siamo a circa 400 metri a sud delle mura che vedevamo prima così come in questa zona sono stati e questo è uno di quelli sono stati trovati solo 10 scheletri alcuni dei quali calcinati la domanda dove sono finiti i 100.000 abitanti la risposta è nel Ramayana prima di scatenare la guerra dentro l'Anca viene dato un avvertimento si trova nel Ramayana per chi non ci crede viene detto alla popolazione di l'Anca andate via perché fra una settimana pioverà fuoco e cenere dal cielo e chi si troverà dentro la città morirà guarda caso la città di Moenjodaro viene spopolata letteralmente alcuni di questi scheletri sono calcinati in certi casi anche in posizioni curiose perché sembrano pararsi da qualcosa che gli ha accecato in un caso particolare molto triste c'è padre figlia e madre che sono morti in maniera istantanea cadendo col viso verso terra e sono stati trovati quanto quasi 4.000 anni dopo in quella posizione ci sono un altro gruppo di scheletri che sono morti dentro una casa anche loro in un modo in una posizione che fa presumere solo che la morte sia stata istantanea e tra l'altro gli archeologi non hanno mai trovato segni né di spade lance frecce una spada che vi trapassa scheggia le ossa non è ecco non è un'esplosione di un meteorite in quota perché avremmo trovato iridio e altri elementi che non ci sono non è una zona vulcanica non è una zona tettonica chiedendo agli stessi archeologi è una zona tranquillissima c'è solo il fiume Indo che certamente non porta alla fusione alla calcinazione credendo chiedendo agli archeologi di Moen Jodaro c'è stato detto letteralmente che queste morti come quegli oggetti fusi e vetrificati sono uno dei grandi misteri di questo sito archeologico e che non hanno una spiegazione scusami ti volevo fare una domanda velocissima hai parlato di evaporazione del midollo osseo non sbaglio calcinazione calcinazione di colpi ok tutto qui grazie calcinazione dei corpi se noi andiamo a vedere quelli che sono gli oggetti recuperati che si possono ancora trovare ad esempio questo è un mattone che nella faccia rivolta verso l'ipotetica esplosione si trova vetrificato la vetrificazione avviene all'incirca sui 900 gradi in certi altri casi troviamo delle vere e proprie fusioni parte dei reperti analizzati e vi farò vedere i risultati degli ultimi analisi del 2017 dall'Università di Roma ci dicono anche le temperature i tempi e altre curiosità di cui parleremo fra poco tutta questa zona sicuramente è stata oggetto e soggetta a qualche cosa di non spiegato l'unica spiegazione plausibile è che ci sia stata un'esplosione ad una certa altezza dal terreno perché comunque non ci sono crateri e non ci sono per quanto ricoperti potrebbero essere state ricoperte dai sedimenti non ci sono indizi di un'esplosione a terra ma anche le case man mano che ci si avvicina a quello che è l'epicentro identificato da Davenport sono da accumuli di macerie e man mano che ci si allontana le mura i muri di queste case aumentano in altezza per cui quasi a dirci che nella zona appunto dell'epicentro è stato tutto distrutto e rasato al suolo queste sono alcune delle foto fatte direttamente sul posto qui vedete campioni vetrificati questi sono fusi le analisi le analisi che cosa ci dicono vi presento le ultime perché sono le più interessanti questo è il professor Roberto Volterri dell'Università di Roma sono state fatte varie tipi di analisi con microscopio elettronico raggi diffrattometria non c'è anche qui non sono state evidenziate tracce di radioattività e qui è importante vedere cosa ci dicono i testi sacri indiani i testi sanscriti parlano di tejas astras le abbiamo nominate all'inizio letteralmente vuol dire armi a energia con tutto quello che ne consegue non si può dare con la tecnologia di oggi un'attribuzione a queste armi divine perché sono armi divine però è curioso la traduzione armi a energia se uno mi chiedesse una possibile spiegazione potrebbe essere tutto come armi al plasma laser microonde sono cose che chiacchierando con la gente nel corso di tanti convegni vengono fuori però la risposta è sempre io non c'ero nessuno di noi c'era abbiamo le evidenze che sono appunto le analisi abbiamo il sito archeologico che ci dimostrano però un evento che non è collocabile né nel novero degli eventi naturali ma è sicuramente un qualche cosa di anomalo di artificiale che è avvenuto nel sud della città le analisi del professor Volterri sono veramente interessanti e ci dicono ad esempio che diversi campioni diversi risultati ma tutti molto simili che le temperature che si sono sprigionati in questa zona del terreno della città variano tra i mille e cinque e i duemila gradi la cosa curiosa sono i tempi i tempi sono dell'ordine non superiore 4-5 secondi quindi come proprio un'esplosione in quota che ha creato una bolla di calore d'immensa temperatura che ha distrutto fuso e vetrificato in base alla distanza ovviamente oggetti case e anche persone forse e che ha lasciato delle tracce evidenti 4-5 secondi temperature tra i mille e cinque e i duemila gradi il professor Volterri poi ha voluto fare una controprova e ha preso campioni di vasellame della stessa epoca e li ha messi in un forno che avevano all'università questi 4-5 secondi si sono trasformati in un tempo enormemente più lungo per fondere questi ciottoli chiamiamoli cioè dell'ordine delle 6-7 ore per cui qualcosa non torna per quello che è successo a Mongeodaro e questa è una prova diretta di un evento anomalo non giustificabile se non ritenendo vero quello che viene descritto ad esempio nel Ramayana queste sono alcune delle microscopie ottiche elettroniche scusate con il SEM fatte dal professor Volterri e sono un punto di svolta rispetto a quanto si conosceva prima le altre tre analisi alcune fatte anche con History Channel per tramite della trasmissione Enigmia Lenio e Ancient Alliance per chi la conosce danno gli stessi risultati ma in radioattività temperature sempre tra i 1.5 e 2.000 gradi tempi mai superiori ai 4 secondi per cui un nonsense scientifico almeno in via ufficiale ovviamente noi abbiamo le nostre spiegazioni che spiegano forse meglio quello che può essere successo mi avvio alla conclusione anche perché vedo che i tempi ormai sono stringenti e parlavamo del Ramayana parlavamo di quello che sono le tradizioni le conoscenze contenute nei testi sacri indiani è curioso che in questo viaggio che si fece tra il Pakistan e l'India in diversi anni 2012 2013 e 2014 esistano sparse per tutto il territorio indiano quasi delle prove delle evidenze di queste antiche conoscenze ne abbiamo viste tante ce ne sarebbero altre tante di cui poter parlare però forse la più emblematica è un affresco che si trova nel sud dell'India nella città di Puri che è una delle sette città sante per l'induismo ed è proprio raffigurata una scena la scena finale del Ramayana questo è il Diorama che combatte scaglia una freccia contro il demone Ravana a bordo del suo Puspa Kavimana e la cosa curiosa è che avvicinandoci noi siamo rimasti letteralmente stupefatti avvicinandoci a questo affresco che è del 1500 dopo Cristo 600 anni fa però scusate se è poco per quello che vedremo i Vimana vengono rappresentati in un modo specifico che è questo ed è abbastanza curioso perché a prova di scettico potremmo dire 600 anni fa i Vimana venivano rappresentati in questo modo che è molto più simile a quello che altri contesti se così vogliamo dire altre tradizioni o ambiti di studio ci presentano ormai dal 47 ad oggi questi sono i Vimana dell'antica India e quando al Bramino che custodisce preserva il Tempio abbiamo chiesto da quanto tempo nel sud dell'India nel sud nel centro dell'India i Vimana fossero rappresentati in questo modo lui ci ha detto da sempre noi da generazioni e generazioni vedete quanti sono per rappresentare la scena in oggetto rappresentiamo e Vimana così ci sono altri templi che li raffigurano sempre nel medesimo modo è curioso e questo ci dovrebbe fare riflettere su quanto ancora non conosciamo di noi stessi ma anche della nostra storia su quanto abbiamo alterato storpiato manipolato di tradizioni dell'Oriente tradizioni che sono molto spesso ben diverse da quello che ci è arrivato a noi occidentali e che affondano veramente alla culla della civiltà certo l'India forse non è stata la prima però forse io risulterò come campanilista ma penso che determinate conoscenze e tradizioni si sono preservate meglio in India rispetto a tanti altri luoghi del pianeta ce ne sono tanti altri però l'impostazione mentale la cultura la tradizione la forma mentis dell'indiano anche di oggi è totalmente diversa dalla nostra è veramente un altro modo di ragionare pensare e vivere la vita chi non è stato in Oriente o in India non può capire da occidentale quello che è la loro cultura il loro modo di vivere la vita e tutte queste conoscenze tradizioni dal Veda alla rappresentazione devimana sono tantissimi piccoli tasselli che stanno ricostruendo un mosaico che sta portando letteralmente a riscrivere la nostra storia e a vedere con occhi diversi quello che è il nostro passato un po' come sta facendo Mauro Biglino Massimo Barbetta o Pietro Buffa che è un genetista piano piano si sta costruendo un nuovo paradigma di quello che è stato il nostro passato e ovviamente anche così limando quelle che sono le conoscenze che in maniera un po' alterata ed è un effemismo ci sono state propinate date fino ad oggi vi ringrazio grazie grazie di difenderle in tutti i modi possibili immaginabili ormai certe cose non sono più palesemente difendibili tra l'altro il titolo del convegno di oggi è un titolo azzeccatissimo terra opera aliena perché lo è comunque perché c'è chi dice che la terra con chi la abita è opera divina ma se noi pensiamo un attimo alla definizione di alieno chi è o cos'è un alieno è un individuo che non è di natura umana cioè appartiene ad una natura diversa dalla natura umana e proviene da un altro mondo quindi chi c'è di più alieno di Dio? quindi i primi a credere negli alieni sono i cristiani che credono nell'alieno degli alieni mi dicano che non è così mi dicano che non è così la definizione di alieno è questa quindi Dio è un alieno poi a loro non piace perché preferiscono preferiscono pensarlo in un altro modo però sta di fatto che è così sta di fatto che è così e i testi antichi quelli di cui ci ha parlato Enrico quelli di cui vi ha parlato Massimo Barbetta questa mattina e io ovviamente parlo della Bibbia che rispetto a quelli di cui ha parlato sia Enrico che Massimo è un bignamino cioè la Bibbia è veramente ben poca cosa dal punto di vista dei contenuti non parla di Dio ma parla di altri individui parla di altri individui che artificiosamente da tanti sono stati ridotti a essere uno solo e poi quest'uno solo viene è stato trasformato in un Dio spirituale trascendente onnisciente onnipotente cioè tutto ciò che non è nella Bibbia tant'è che la teologia parla di Bibbia come se la Bibbia non ci fosse e parla di Bibbia come se la Bibbia non ci fosse per il semplice fatto che noi non la leggiamo e questa è una grande fortuna per loro ovviamente perché se la leggessimo ci verrebbe veramente da fare loro tutta una serie di domande domande ben precise e chiedere loro ma dov'è che trovi nella Bibbia quelle cose lì e se io dico che se ai teologi venissero fatte con la stessa precisione con la stessa puntualità le domande che vengono fatte a me diciamo che la teologia non esisterebbe già più cioè la teologia biblica poi la teologia fa benissimo ad esistere ci mancherebbe l'importante è che si occupi del suo tema cioè dell'idea che essa stessa ha elaborato di Dio degli attributi che ha pensato per questo Dio l'importante è che non ci dica che quel Dio è nella Bibbia tutto lì tutto lì lo dico anche come dire per chi ha una fede perché la fede sappiamo bene che è un qualcosa che aiuta a vivere non a caso è definita un dono e lo è veramente perché se ci pensiamo bene la fede riesce a non dico trovare perché trovare vuol dire che una cosa esiste io la vado a cercare e la trovo la fede riesce ad elaborare risposte anche a tutto anche a ciò che dal punto di vista semplicemente logico o ancora più in basso dal punto di vista del normale buonsenso non le avrebbe ma la fede invece riesce a elaborare queste risposte ed elabora in un modo intelligentissimo anche la risposta ed è il motivo per cui esistono le religioni sulla terra la risposta la madre di tutte le angosce che è la paura della morte cioè l'uomo non vuol sentirsi dire che muore o meglio vuole sentirsi dire che dopo la morte c'è qualcosa e la fede dà risposte dico risposte perché Enrico vi ha parlato in un mondo di un mondo in cui sono state elaborate certe risposte la Bibbia qui intesa soprattutto come Nuovo Testamento ha elaborato altre risposte completamente diverse da quelle elaborate nei testi orientali ce ne sono altre ancora ma la cosa fantastica della fede ed è per questo che secondo me meriterebbe il Nobel colui che ha inventato coloro che hanno inventato questo concetto che se anche uno passa tutta la vita e la vive bene perché con la fede la vive bene a trovare delle risposte al problema della sofferenza al problema del male a tutto quel che volete e passa tutta la vita sapendo che dopo la morte andrà dove non lo so dove dicono le varie soluzioni ma poi questo non succederà bene il fedele non sarà mai deluso cioè non avrà modo di essere deluso quindi avrà vissuto bene tutta la vita e non proverà la delusione del fallimento quindi la fede in questo senso dal punto di vista anche psicologico psicoanalitico è il farmaco dei farmaci perché non ha delusione non la prevede non prevede il fallimento perché o c'è qualcosa e allora bene o non c'è niente e non ce ne accorgeremo mai sono o no intelligentissimi d'altra parte se non ci fosse la risposta al problema della morte le religioni non esisterebbero tant'è che le religioni sono un sistema di contro io volevo dirvi delle cose ve ne sto già dicendo tutt'altre da quelle che avevo in testa cioè non ce la faccio proprio non ce la faccio proprio guardate è incredibile incredibile ho detto oggi comincio voglio vabbè la cosa bella è che in qualunque posto si nasca ci viene detto tu hai la fortuna di essere nato nel posto giusto cioè tu hai la fortuna di essere nato lì dove c'è la verità e ogni religione ci dà la sua ma anche all'interno del cristianesimo stesso pensiamo al cattolicesimo pensiamo a tutte le sette protestanti pensiamo all'ortodossia all'ortodossia cioè quindi gli ortodossi pensiamo ai cristiani copti tanti gruppi diversi che hanno anche verità diverse ma tutti dicono tu hai la fortuna di trovarti nel posto giusto già solo questo ci dovrebbe far pensare tra l'altro parlando degli ortodossi mi viene in mente che se avete paura di finire nel purgatorio basta che diventiate ortodossi rimanete cristiani ma nel purgatorio non ci finite più perché per loro non c'è se avete paura di passare tutta l'eternità nell'inferno diventate ortodossi dalla fine dei tempi in poi tutti in paradiso perché di qui alla fine dei tempi quelli che sono nell'inferno hanno tempo per pentirsi si pentono dunque con la fine dei tempi l'inferno ortodosso chiude i battenti quello cattolico no quello cattolico continua a bruciare quindi scegliete voi quello che vi piace di più ma quando fate la scelta però cerchiamo di essere intelligenti intelligenti intendo dire faccio questa scelta perché è quella che mi piace non perché so che è la verità perché la verità è un'altra roba alle volte sento dire ma gli ebrei hanno la verità quale verità visto che le hanno tutte si dice gli ebrei perché quello è il loro libro e questo è giusto quello è il loro libro ci mancherebbe e quindi gli è stato sottratto parlo soprattutto dell'antico testamento perché il nuovo testamento è un'invenzione a parte l'antico testamento è il loro libro assolutamente il loro libro che gli è stato sottratto però su quel loro libro lì a partire da quel loro libro lì loro hanno elaborato tutte le verità cioè all'interno del pensiero ebraico si va dall'ateismo più puro alla ultra ortodossia più reazionaria e quindi quando si hanno tutte le verità è perché non si ha la verità perché il teorema di Pitagora ve lo sentite spiegare così qui in Sudafrica in Alaska in Indonesia ovunque e invece se voi entrate all'interno di un certo tipo di mondo sentite raccontare le cose più diverse e quindi c'è veramente spazio per tutti ma se poi facciamo parlare un po' loro perché se noi ci troviamo di fronte a affermazioni tipo queste esempio questo è il dottor Giovanni Allotta Stuparic ebreo psicanalista e filosofo il quale vabbè parlando di me scrivendo di me in pubblico quindi per questo lo posso leggere tornando a Billino non si possono assolutamente ignorare le sue citazioni corrette dette con estrema ed ammirevole onestà proprio non vedo cosa gli si possa contestare quando egli eccetera 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 e fa degli esempi e dice il termine di creazione non esiste nella Bibbia così come io dico da tempo Dio non vi è scritto da nessuna parte Dio non vi è scritto da nessuna parte la cosa interessante è che questa cosa qui grazie Enrico questa cosa qui viene scritta anche appena la trovo se la trovo viene scritta anche perché dice vabbè questo qui apprezza il metodo di Billino non la trovo non fa niente viene scritta anche in quel sito dove quando io morirò saranno molto contenti che è il sito di consulenza ebraica i quali hanno scritto non si può parlare di monoteismo in una lingua nella quale non esiste neppure il termine Dio inteso come oggetto di adorazione perché nell'ebraico il termine Dio così come lo intendiamo noi non esiste dieci giorni fa altra settimana ho parlato all'università San Raffaele come c'erano docenti di filosofia eccetera ho detto non esiste il termine perché non esiste il concetto sottostante questo è evidente no? perché se elabori il concetto di Dio necessariamente lo elabori in una forma che è una parola attraverso la quale poi lo comunichi se non esiste la parola è perché non c'è il concetto sottostante e potremmo fermarci qui cioè di qui in avanti diventa discussione bella, piacevole, curiosa su chi erano quindi quelli lì su chi erano gli Elohim ma partiamo da un presupposto togliamo il concetto di Dio non nel senso che Dio non esista perché ripeto io questo non lo so e quindi non ne parlo nel senso che quel libro non ne parla e il fatto che quel libro non ne parli non significa nulla in relazione all'esistenza o meno di Dio non significa nulla perché quel libro è un libro nel quale una famiglia non un popolo attenzione eh non un popolo perché poi quando si dice ebrei adesso ormai si generalizza ma la famiglia di Israele cioè una delle centinaia di famiglie degli ebrei di allora racconta la vicenda del suo patto di alleanza con uno degli Elohim questo è la Bibbia e gli ebrei lo sanno talmente bene che nei loro testi lo scrivono e lo scrivono con una chiarezza che è veramente disarmante io sto studiando i testi pubblicati dalla casa editrice Mamash ebraica dove scrivono solo rabbini e loro nel commento al libro della Genesi scrivono tranquillamente il libro della Genesi narra la vita dei patriarchi ed è un resoconto della creazione della nazione ebraica l'essenza della creazione non è la storia di monti e di valli di oceani e di deserti e neppure di animali o di uomini essa è la storia della nascita di Israele il popolo che ha ereditato il compito di Adam e Hawa cioè Adam e Deva punto e su questo hanno assolutamente ragione è l'essenza dello sviluppo del popolo scelto da Yahweh e tutto ciò che è estraneo adesso è quindi semplicemente superfluo quindi in realtà noi siamo qui e io dal 2010 parlo di un libro di cui a noi non dovrebbe fregare assolutamente nulla perché non ci riguarda io dico per fortuna perché sarebbe veramente un dramma avere a che fare con quello lì veramente un dramma il popolo ebraico di fatti lo dice chiaramente l'ebraismo non è una religione è un modo di essere è un modo di vivere e di concepire il mondo non è una religione tant'è che loro da secoli discutono per esempio su che cosa ha veramente detto Yahweh per esempio in relazione a certi ordini che gli ha dato perché certi ordini non sono così ben comprensibili non sono così chiari ma siccome loro hanno la convinzione che se rispettano la loro parte del patto lui prima o poi farà la sua loro devono essere certi di rispettare la parte del patto che spetta a loro e per essere certi di rispettarla vogliono essere certi di aver capito che cosa lui chiede a loro che cosa lui ha chiesto a loro rimanendo fedeli ad una promessa se ci pensate un attimo che è stata fatta 4.000 anni fa 4.000 nella quale quel signore lì ha detto ad Abramo io darò a te alla tua discendenza tutta la terra che va dal Nilo all'Eufrate sono passati 4.000 anni al di là del fatto d'accordo o no sul fatto che gli ebrei abbiano diritto a quella terra cioè non è il discorso che voglio fare sono passati 4.000 anni ma Dio quella promessa non è ancora stata in grado di mantenerla cioè se vogliono avere dei piccoli pezzi di terra all'interno di quel grossissimo territorio se li devono conquistare e difendere con le armi ma questa è una promessa di Dio cioè non viene da riflettere un po' che 4.000 anni sono un po' tanti per non mantenere una promessa così come il teologo Sergio Quinzio ha detto i cristiani sono incommiabili perché da 2.000 anni sono figli di una promessa non mantenuta ed è altrettanto vero cioè all'interno di questa religione ci sono un sacco di promesse non mantenute ma di queste però non si parla va bene così perché si stabilisce che lui deve essere Dio ma all'interno di queste cose qui poi ci sono delle altre convinzioni che stravolgono completamente ciò che noi sappiamo o crediamo di sapere per esempio lo scopo della creazione e sto sempre leggendo le parole dei rabbini lo scopo della creazione è rendere santo il mondo materiale il corpo ha in un certo senso importanza maggiore dell'anima essendo il mezzo con cui viene compiuta la volontà di Hashem ma Hashem è il nome col quale vuol dire il nome siccome loro non possono pronunciare il nome di Dio dicono Hashem cioè il nome dice se oggi può essere difficile cogliere pienamente questo concetto quando verrà il Messia la superiorità del corpo sarà palese ma come la superiorità del corpo non ci viene sempre detto che c'è la superiorità dell'anima no la convinzione è questa qui scritta nei loro testi il corpo è superiore all'anima e quando arriverà finalmente il Messia questo sarà palese Messia che tra l'altro aspettano di nuovo da un momento all'altro basta vedere i loro siti dove predicano la Aliyah cioè la risalita a Israele dove invitano gli ebrei a salire in Israele in attesa del grande momento di gloria che è danno per imminente e quindi in quel momento sarà palese che il corpo è superiore all'anima perché appunto sarà il corpo a santificare tutto e sono cose che sono scritte nei loro testi attuali, odierni bisogna prenderne atto cioè di che cosa bisogna prendere atto? che a seconda del posto in cui nasciamo dicevo prima ci viene detta qual è la verità alla quale dobbiamo credere io per esempio che sono nato a pochi chilometri dal confine con la Francia sono stato addestrato a provare una certa emozione quando vedo sventolare un pezzo di stoffa bianco rosse verde se io fossi nato qualche chilometro più in là io sarei stato addestrato a provare emozioni quando in quel caso vedessi sventolare un pezzo di stoffa bianco rosso e blu ma questo dipende dal mio DNA? no dipende dal recinto nel quale sono nato perché noi viviamo dentro recinti e ce ne dobbiamo rendere conto noi siamo dentro questo grande recinto che si chiama Italia poi c'è l'Italia divisa in altri recinti che si chiamano regioni e chiunque sa benissimo come certe regioni pensino determinate cose di altre regioni e questo dipende dal DNA? no dipende dal modo in cui viene addestrato ammaestrato colui che è nato in quel recinto questo vale per le religioni e per un sacco di altre cose c'è tra di voi qualcuno per esempio che si occupa delle questioni relative alla sovranità individuale? prego lei, bene discorso della sovranità individuale nella sostanza quindi mi perdoni se insomma noi quando nasciamo siamo dei cespiti che veniamo registrati come tali così come quando un'azienda metalmeccanica compra un tornio o una fresa li registra come cespite cioè quindi come potenziale produttore di lavoro e di ricchezza noi siamo dei cespiti di proprietà di qualcun altro all'interno appunto del recinto nazione nel quale nasciamo che è frutto di una assegnazione nel senso che anche la nazione non è come dire contrariamente a quello che si pensa indipendente quindi noi siamo di proprietà siamo dentro delle mandrie questa roba qui c'è già nella bibbia questo qui è uno studio sui midrash che sono commentari biblici di un docente di giudaistica dell'università di Vienna il quale riferendosi a numeri 18 ricorda come parlando del primogenity dice il primogenito dell'uomo dopo 30 giorni poteva essere riscattato con 5 sic insomma alcune decine di grammi di argento fino a quel momento nonostante che appartenesse di fatto al tempio i genitori se ne dovevano prendere cura cioè esattamente come il vitello di una vacca quando nasce non è della vacca ma del proprietario della stalla qui era uguale perché quando si dice apparteneva al tempio e per noi come dire apparteneva al demagno perché non c'era distinzione non c'era distinzione quindi è già qui e non è cambiato niente così come non è cambiato niente nel sistema finanziario che ci governa che è chiaramente descritto nella Bibbia ed è chiaramente descritto nella Bibbia il sistema del debito credito perché ovviamente di questo non si è occupato Dio ma si sono occupati gli Elohim che hanno messo in piedi vari sistemi di controllo e quindi hanno messo in piedi vari recinti cioè se io mi trovo sull'isola di Cipro sapete divisa tra parte diciamo così cultura greca e parte turca e sono dentro un bel dolcissimo pancione e nasco qui mi viene detto tu sei greco hai questa lingua, questa storia, queste tradizioni, questi valori questa bandiera, questa lingua, questa religione se il mio pancione, il pancione che mi sta portando in giro fa qualche metro e nasce di là mi viene detto tu sei turco tu hai questa lingua, queste tradizioni, questa storia, questi valori questa bandiera, questa lingua e questa religione ma sono sempre io con lo stesso DNA in un caso vengo addestrato a sentirmi greco nell'altra vengo addestrato a sentirmi turco questa è la realtà dei fatti questa è la realtà dei fatti e i recinti sono quelli che servono per appunto tenerci sotto controllo questa roba qui nelle religioni è evidentissima evidentissima ed è cominciata molti secoli fa cominciata intorno al VI, V secolo a.C. soprattutto anche se il discorso dei recinti intesi come gruppi di nazioni è nato ancora prima ma quando parliamo di questi signori cioè degli Elohim che hanno fabbricato la dam ci viene detto che sono uno solo cioè in realtà Elohim è un plurale in realtà un plurale di astrazione un plurale di intensità che serve per indicare la grandezza di questo Dio dimenticando che la Bibbia ci parla di questi qui come di una pluralità di individui che sono veramente tanti e sentite che cosa scrivono sempre gli ebrei così siamo tranquilli sempre nei loro testi dove commentano la loro Bibbia sapete che la la preghiera più importante di Israele è lo cioè Ascolta Israele il Signore Dio tuo eccetera 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 e si dice lì si afferma chiaramente l'unicità di Dio si afferma chiaramente se non la si legge ma nel momento in cui la spiegano qui siamo nel libro di commento a Esodo pagina 710 a questo proposito è necessario capire una ben nota difficoltà riguardo alla preghiera allo Shema in cui si afferma che Dio è uno ma non che è unico lo scrivono gli ebrei quindi quelli che non sono d'accordo lo scrivono alla casa editrice Mamash il termine uno è infatti un aggettivo che si attribuisce a qualcosa che si può contare ed è compatibile con un secondo unico invece esclude la possibilità di altri elementi chi non è d'accordo scrive alla casa editrice Mamash dicendo ma che cavolo scrivete e scrivono ciò che è chiaro che quello a cui si rivolgono loro è uno dei tanti poi chi vuole si pone anche il problema di sapere chi fosse cosa fosse eccetera per carità ma l'importante per loro è stabilire che quello è uno di una serie e la Bibbia di questa serie ci parla ci da pure i nomi degli altri ma noi non li vogliamo leggere perché perché noi viviamo in una religione stranissima che è molto simile alle psicosette bisogna avere coraggio di dirlo nel senso che l'unica differenza rispetto alle psicosette è che i cristiani sono tanti sono un miliardo e mezzo se fossero 300 nessuno avrebbe difficoltà a definire il cristianesimo una psicosette idolatra e tra duemila anni quando scaveranno qui quando scaveranno qui e studieranno il cristianesimo non avranno nessun dubbio nel dire che il cristianesimo era una religione di idolatri esattamente così come noi definiamo idolatri i cosiddetti pagani perché applichiamo delle categorie interpretative che se applicate al cristianesimo fanno definire il cristianesimo una religione di idolatri con una differenza sostanziale che adesso vi dico qualcuno di voi può spiegarmi la differenza tra le statuette di padre Pio e le statuette degli dei lari che i romani si tenevano in casa? nessuna 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 erano più belle nessuna differenza lo sapete che Gesù Cristo nelle invocazioni dei cristiani è al sesto posto? è il figlio di Dio eh? eh Dio non c'è Dio proprio non invoca nessuno perché è troppo lontano Gesù è al sesto prima vengono una serie di altri santi che evidentemente sono i più importanti del figlio di Dio quindi quando scaveranno qui che troveranno migliaia e migliaia e migliaia di rappresentazioni di uno inchiodato su una croce e diranno beh adoravano quello lì dicendo che era un figlio di Dio poi da un certo punto in avanti dopo diversi secoli si sono messi ad adorare anche sua madre eppure se andiamo nei testi originali a leggere vediamo che sua madre era la più bistrattata a partire dal figlio già dal figlio di dodici anni che le diceva che cavolo vuoi da me due ceffoni ok e diranno però dopo un po' di secoli l'anno hanno reso sua madre Dea anche lei e hanno cominciato ad adorarla poi si sono fatti tutta una serie di divinità intermedie cioè i santi alle quali o ai quali si rivolgevano per chiedere grazie, consolazioni, aiuti eccetera 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 e si facevano le statuette e si facevano le immaginine e adoravano quelle accendevano le candele a quelle statuette a quelle immaginine ma qual è la differenza tra queste qui che facciamo noi e quelle dei pagani è che non c'è nessuna differenza ce n'è una che è colossale che i pagani lo possono fare noi no perché nella bibbia c'è scritto non ti farai immagine alcuna ed è un ordine ripetuto costantemente mai revocato quindi i cristiani non si possono fare immagini poi sono stati talmente bravi da arrivare a distinguere tra adorazione venerazione tutti quei sofismi teologici d'altra parte quando uno si inventa tutto poi si inventa anche questi sofismi quindi facciamo come ha detto Papa Francesco quando due anni fa è stato in Georgia lasciamo che i teologi si occupino delle loro cose astratte veniamo al concreto l'ordine non ti farà immagine alcuna è stato detto ripetuto e mai revocato ma la chiesa nascente sapeva bene che se non avesse consentito l'adorazione delle immagini col cavolo che avrebbe portato via i fedeli alle religioni pagane dove questo è normale però noi invece siamo al punto in cui e anche qui sono stati bravissimi ci è stato insegnato che in un mondo, in un pianeta di stupidi c'è stata un'unica famiglia di intelligenti la famiglia di Israele che ha capito il monoteismo in un mondo di stupidi c'è stata un'unica famiglia di intelligenti ma attenzione la famiglia di intelligenti non è la famiglia di Abramo perché all'interno della famiglia di Abramo era pieno di famiglie di stupidi perché il monoteismo non l'hanno capito i fratelli di Abramo il monoteismo non l'hanno capito tant'è che come dice la Bibbia i fratelli di Abramo continuavano a servire gli Elohim che governavano in Mesopotamia leggetela la Bibbia per cortesia leggetela e non avrete più bisogno di chiamarmi a fare le conferenze ve lo dico davvero quindi Abramo l'unico intelligente i suoi fratelli idioti come tutti gli altri e Abramo non ha mai perso cinque minuti a chiamare i suoi due fratelli e gli altri nipoti a dire venite un po' qui un attimo che vi faccio vedere una roba lo vedete questo qui? col quale io parlo quando è che ve la smettete di inginocchiarvi di fronte a quei mucchietti di pietre lì che non valgono niente? non ha perso cinque minuti cioè per tutta la vita Abramo ha parlato con l'unico vero Dio i suoi fratelli con i mucchietti di pietre e i tronchetti di legno questo ci hanno fatto credere e continuano a farci credere i babilonesi usavano la geometria trapezoidale per calcolare l'orbite dei pianeti erano talmente stupidi che parlavano con delle immagini di pietra senza sapere che dietro non c'era nessuno gli assidi i romani i greci gli egizi tutti idioti tutti idioti gli unici intelligenti ma se gli unici intelligenti la famiglia di Israele aveva capito questo me lo sono segnato aveva capito che quello era l'unico Dio e l'aveva capito ai tempi di Abramo che sono i tempi di Moen Jodaro Sodoma e Gomorra tanto per qualificare dal punto di vista storico eccetera com'è che millequattrocento anni dopo ancora per esempio che so vediamo Manasse il re Manasse costruiva altari siamo in secondo libro del re capitolo 21 costruiva altari agli altri Elohim ma erano millequattrocento anni che parlavano col Dio unico millequattrocento anni e il re di Giuda costruiva altari a delle divinità che tutti sapevano che non esistevano millequattrocento anni dopo Salomone il più saggio di tutti gli uomini costruiva altari agli altri Elohim erano passati mille anni da quando lo conoscevano mille anni da Abramo a Salomone Salomone costruiva gli altari ad altri Elohim ma come fanno a raccontarci che era il più saggio di tutti gli uomini quando dopo mille anni di contatto diretto con l'unico vero Dio onniscento onnipotente creatore dei cieli della terra lui costruiva altari al nulla ma non se ne è mai accorto? e com'è che ancora al tempo di Geremia gli ebrei di Egitto parlando con Geremia sentite che cosa gli dicevano perché Geremia si lamentava del fatto che loro facevano sacrifici ad altri dei e loro dicevano ma quanto alla parola che ci hai dato che ci hai detto nel nome qui siamo appunto nel libro di Geremia 44 quanto alla parola che ci hai detto nel nome di Yahweh noi non ti vogliamo dare ascolto sì, noi vogliamo fare tutto ciò che è uscito dalla nostra bocca offrendo incenso alla regina del cielo e versando le libazioni come abbiamo fatto noi i nostri padri i nostri re, i nostri principi sia anche nelle città di Giude per le strade di Gerusalemme così ci sazieremo di pane saremo felici e non vedremo alcuna sventura da quando infatti abbiamo cessato di offrire incenso alla regina del cielo e di versare le libazioni siamo rimasti privi di tutto cioè quando ci rivolgevamo a quella là stavamo bene se ci rivolgiamo a quello cui ci dici tu col cavolo oh è qui eh questa è la Bibbia di famiglia cristiana non le traduzioni di Mauro Biglino capite? così come questi, quegli sporcaccioni dei pagani c'è qualcuno che ha una Bibbia? non ho capito sì o no? no 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 ma tenetela voi perché io ce l'ho 38.8 Esodo 38.8 sapete quegli sporcaccioni dei pagani che praticavano la prostituzione sacra? robaccia invece Israele e Yahweh anche quando Mosè costruì deve costruire la grande vasca di bronzo insomma per la dimora di Yahweh costruì una vasca di bronzo con il supporto di bronzo usando gli specchi delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda del convegno prestavano servizio quindi io mi immagino un centralino delle receptionist delle hostess registravano quelli che entravano e quelli che uscivano davano le tessere allora il verbo prestare servizio che ho usato qui è esattamente lo stesso verbo che in ebraico significa prestare servizio militare prestare servizio sacerdotale è lo stesso ok? uno dice vabbè è Biglino che pensa male primo libro è Samuele si parla della famiglia di Eli il sommo sacerdote quando avevano istituito il tempio in Silo Eli era molto vecchio e udiva tutto quello che facevano i suoi figli all'intero Israele e come essi si univano alle donne che prestavano servizio alla porta della tenda del convegno allora in ebraico sacro si scrive con l'aggiunta diciamo di questa lettera per fare il femminile diventa Kodesha che significa prostituzione sacro prostituzione è esattamente la stessa radice con gli sporcaccioni dei pagani invece loro anche esattamente uguali a tutti gli altri uguali non sto condannando la prostituzione eh che è voglio dire mestiere onorevolissimo se pensiamo ad altri almeno gli sai qual è l'oggetto di scambio cosa ti costa e che cosa ottieni ma la cosa bella è sempre in questo racconto qui si parla di questo ve lo racconto perché è troppo carina i figli di Eli facevano una robetta mica tanto carina sapete che i fedeli diciamo così portavano gli animali come sacrificio perché una parte doveva essere bruciata per produrre il fumo che interessava grazie Enrico che interessava Yahweh e l'altra parte invece veniva mangiata però sentite che cosa succedeva ogni volta che uno offriva un sacrificio veniva il servo del sacerdote cioè di Eli che era il sommo sacerdote mentre si cuoceva la carne pensate che precisione è bellissimo con in mano un forchettone a tre punte e lo piantava nella caldaia o nel calderone o nella pentola o nella marmita il sacerdote vi prendeva tutto quello che il forchettone tirava su così facevano con tutti gli israeliti che andavano là a silo anche prima che avessero fatto bruciare il grasso sapete quello che doveva produrre il fumo per annusare veniva il servo del sacerdote e diceva a colui che offriva il sacrificio dammi la carne da arrostire per il sacerdote perché egli non accetta carne cotta da te ma cruda se l'uomo gli rispondeva ma prima lascia bruciare il grasso e poi prenditi quanto desideri lui replicava no devi consegnarmela ora altrimenti la prendo con la forza e poi qui c'è scritto che Yahweh siccome loro la famiglia di Eli profanava i suoi sacrifici li ha fatti fuori cioè Dio li ha fatti fuori perché gli rubavano la ciccia è qui eh è qui per fortuna non è Dio per fortuna non è Dio perché saremmo veramente mal messi però queste cose qui ovviamente beh no ma quello allegoria metafora io vorrei guardare negli occhi gli autori di quei testi lì e chiedergli ma come cavolo ti è venuto in mente di inventarti allegorie più stupide per ripresentare il tuo Dio ma come fa uno a inventarsi una roba del G il mio Dio è il più potente di tutti quando gli rubavano la carne si arrabbiava cioè ma viene o no un po' da sorridere per non dire non viene da sorridere perché è vero perché nessuno si inventa una cosa del genere ovviamente così come nessuno si inventa del fatto che Dio si arrabbiava perché pestava la cacca in mezzo all'accampamento e allora gli dice tu hai un piolo nella tua equipaggiamento vai fuori scavi una fossa la fai lì la ricopri così io non calpesto i tuoi escrementi certe cose le scrivi soltanto se sei costretto a scriverle ma costretto dalla realtà nel senso che qualcuno ti costringa perché non te le inventi sul tuo Dio delle cose del genere nel momento in cui inventi un Dio non te lo inventi così te lo inventi al massimo della perfezione soprattutto se lo vuoi presentare come l'unico fosse stato solo quello ma per venire al tema di oggi siccome la Bibbia ci parla degli Elohim la dottoressa Barbara Negri che è responsabile dell'unità ed esplorazione e osservazione dell'universo dell'Agenzia Spaziale Italiana il 23 marzo 2017 su TV 2000 che è la televisione della CEI ha detto che noi siamo probabilmente un esperimento di vita forming qualcun altro per esempio civiltà superiori possono avere impiantato sulla terra l'esperimento uomo e prima o poi potremmo essere visitati ok? allora questa roba qui nella Bibbia è scritta chiaramente la Bibbia ci parla dell'esperimento uomo e ci dice la Bibbia che ha fatto l'Adam in realtà la Bibbia ci parla appunto in particolare degli Adamiti che sono quelli da cui discenderebbe Israele non di tutto l'uomo sapiens perché la Bibbia alla Bibbia non interessa la vicenda dell'umanità interessa la vicenda loro cioè di quella linea di discendenza e la Bibbia ci dice appunto che hanno fatto l'uomo cioè hanno fatto l'Adam che poi viene tradotto con uomo e però la Bibbia ci dice anche una cosa che contrariamente a quello che ci viene raccontato che Dio ha creato l'uomo nel paradiso terrestre ci dice la Bibbia che gli Elohim presero l'Adam e lo posero nel Gan Eden cioè quello che viene tradotto con paradiso terrestre quindi neppure la Bibbia dice che hanno creato l'uomo nel paradiso terrestre neppure la Bibbia lo dice è una invenzione teologica presero l'Adam là dove l'avevano fatto e lo posero in Gan Eden perché lo custodisse e lo lavorasse ma questo Dio onnisciente onnipotente dopo aver messo l'Adam in quel Gan Eden dopo un po' si accorge che la compagnia degli animali non gli è sufficiente e allora decidono di fabbricare la femmina ora nel fumetto saga negli Elohim con l'illustratore io ho fatto mettere l'Adam in una situazione non equivocabile con una pecora e ovviamente sono stato riempito di insulti sentite cosa scrivono i rabbini Adam aveva avuto rapporti con tutti gli animali ma non era rimasto soddisfatto finché non si era unito a Hawa Rashi il più importante dei commentatori ebrei di tutti i tempi benché ad Adam fosse proibito avere rapporti con animali Divrei David basato sulla Gemarasha Nedrin 38b sostiene che tale proibizione non fu vincolante fino alla fabbricazione di Hawa Cioè la proibizione di avere rapporti sessuali con gli animali è diventata vincolante quando gli hanno detto bene adesso hai la tua femmina basta quindi io e l'illustratore siamo stati bravi perché abbiamo messo solo una pecora se qualcuno non è d'accordo scriva gli stessi insulti lo dico lì nella videocamera scriva gli stessi insulti alla casa editrice Mamash e ai commentatori ebrei scriva gli stessi insulti per cortesia se non è d'accordo quando gli Elohim decidono di fabbricare la femmina qui siamo in Genesi 2 devono fare una cosa che se fosse il dio trascendente onnipotente che fa così e crea l'universo è quanto meno strana perché addormenta l'Adam cioè letteralmente gli introduce un sonno profondissimo gli preleva un qualcosa da una parte laterale ricurva non sto a leggervi tutti i fogli che ho portato ma là c'è scritto che quello che viene tradotto con costola significa in realtà lato che è esattamente ciò che io dico dal 2010 e scrivo nei libri poi chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fabbricano la femmina proprio il verbo è fabbricare quando gliela presentano l'Adam disse questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne questa volta gli ebrei che traducono in inglese traducono finalmente cioè finalmente mi avete dato una femmina giusta oh è qui eh è qui questa volta questa volta vuol dire non le altre sapete che c'è la storia di Lilith eccetera che dalla Bibbia ovviamente è completamente scomparsa perché nella Bibbia è rimasto soltanto quel tanto di presenza femminile necessario per spiegare tutto il resto è stato eliminato ma nei racconti extra biblici c'è scritto che per tutto il tempo che Adamo ed Eva stavano separati dal punto di vista sessuale si davano da fare come dei pazzi tutti e due tutti mi permettete un francesismo trombavano come dei dannati tutti e due nei racconti ebraici extra biblici qui invece si dice Adamo ed Eva hanno fatto il figlioletto l'altro figlioletto eccetera eccetera no 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 la storia è molto più ricca molto più ricca noi poi è stata raccontata è stato messo per iscritto e poi raccontato ciò che serve appunto per questo recinto ma nei racconti extra biblici ebraici credetemi c'è veramente di tutto compreso il fatto appunto che Adamo aveva rapporti sessuali con tutti gli animali che gli capitavano a tiro anche perché lì anche perché lì quei signori cioè dentro il Gan Eden stavano producendo sia dal punto di vista dei vegetali che dal punto di vista degli animali ciò che serviva a loro per nutrire il popolo di lavoratori che al di fuori del Gan Eden cioè l'Homo sapiens stava crescendo e stava lavorando per loro e quindi loro lì sperimentavano cibo ma anche questo non è vero cioè questa è di nuovo un'allegoria una metafora perché non è possibile perché per principio noi dobbiamo crederlo non vero ma scusate un attimo supponiamo di essere in un tribunale dove stiamo giudicando se una persona ne ha ucciso un'altra ci sono tutta una serie di indizi di circostanze che fanno pensare che e poi arrivano due testimoni tre testimoni che dicono sì è stato lui sulla base di questo quella persona finisce all'ergastolo si fa per dire insomma comunque finisce all'ergastolo noi abbiamo i popoli di tutti i continenti della Terra che ci raccontano tutti esattamente la stessa cosa ma non è vero cioè noi mandiamo all'ergastolo una persona sulla base di due, tre testimonianze qui abbiamo i popoli di tutti i continenti della Terra che ci raccontano tutti la stessa storia ma non ci crediamo non ci vogliamo credere piuttosto preferiamo dire non sappiamo come queste cose siano avvenute ma ce l'hanno detto ce l'hanno detto ci hanno detto chi ha fabbricato l'uomo ci hanno detto anche come l'hanno fabbricato cioè quando io leggo certi articoli sulle riviste, le scienze eccetera poi ne vediamo magari uno dove si dice ma non sapremo mai com'è avvenuto per esempio non sapremo mai com'è avvenuto che il grano che noi utilizziamo sia il frutto di una serie non di uno ma di una serie di eventi genetici che la scienza ufficiale definisce nelle sue riviste fra virgolette impossibili nel senso di talmente rari da essere impossibili ma sono avvenuti e la stessa scienza scrive non sapremo mai com'è avvenuto io vedo migliaia di mani alzate vedo migliaia di mani medio orientali vedo migliaia di mani indiane vedo migliaia di mani centro sud americane alzate che dicono ma noi ve l'abbiamo detto chi l'ha fatto noi ve l'abbiamo detto ve lo stiamo dicendo da secoli li vedo tutti con le mani alzate ma noi no 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 quella roba lì ma non se ne parla nemmeno ma perché perché ma è scientifico questo? è scientifica la mente aperta quella che dice c'è forse una possibilità di risposta la vado a verificare soprattutto quando le circostanze sono tali e tante che veramente bisogna chiudere gli occhi per non vederle com'è che in medio oriente succedono tutta questa si verifica tutta questa serie di eventi genetici fra virgolette impossibili poi se volete guardate qui ci sono gli articoli di le scienze dove questo è scritto il mostro chiamato frumento impossibili impossibili sapete quando sono avvenute? intorno a diecimila anni fa cioè nel periodo in cui c'erano quelli lì e i popoli antichi ci dicono che c'erano quelli lì che facevano quelle cose lì guarda caso ma contemporaneamente sapete cosa c'è di bello? che nello stesso periodo e qui addirittura lo chiamano OGM naturale nel continente america nasce la patata quella che si mangia e sapete come nasce? lo scrivono qui proprio come avviene per gli OGM in laboratorio è avvenuto un evento genetico impossibile ok? allora di qui il grano eventi genetici impossibili di là la patata eventi genetici impossibili ma noi preferiamo dire non lo sappiamo gli antichi ci dicono ma noi ve lo stiamo dicendo da secoli chi è che ha fatto questo nel libro resi umani ho inserito delle tavolette sumero-accadiche tradotte dai sumerologi accademici nei quali i sumeri dicono noi uomini mangiavamo l'erba come le pecore poi loro ci hanno dato i cereali e ci hanno insegnato a coltivarli ora il discorso qual è? che quando un popolo parla di se stesso tende sempre a magnificarsi semmai si attribuisce addirittura meriti che non ha va bene? invece questi dicono noi mangiavamo l'erba come le pecore sono arrivati loro e ci hanno dato i cereali e dopo ci hanno insegnato a coltivarli ma noi cosa diciamo? non voglio neanche sentirlo quel discorso lì preferiamo rimanere nell'ignoranza perché io mi rendo conto che può essere difficile accettare l'idea che noi siamo una specie addomesticata però noi lo siamo veramente abbiamo addirittura i tratti anatomici delle specie addomesticate come la neotenia cioè noi anche da adulti manteniamo delle caratteristiche tipiche di quando siamo piccoli anche anatomiche e questo succede solo con le specie addomesticate guardate la foto di un cucciolo di scimmia e la foto della stessa scimmia dieci anni dopo vedete la differenza guardate la foto di un cucciolo di uomo e guardate quella di un uomo e capite che cos'è la neotenia che è propria delle specie addomesticate quella che noi induciamo nei cani e nei gatti e nelle altre specie che addomestichiamo è difficile però noi siamo veramente addomesticati e addomestichiamo i nostri cuccioli e loro ci dicono cioè gli antichi ci hanno detto che quelli lì ci hanno domesticati noi abbiamo anche delle caratteristiche anatomiche tipo per esempio non io ma quelli che hanno i capelli che crescono molto per esempio le femmine che è un qualcosa di antievoluzionistico cioè nel senso che voi pensate a vivere di vivere in un ambiente selvaggio mezzo alberi e avere un metro, un metro e venti di capelli pensate già solo a tutte le malattie e pensate a quanto è difficile sfuggire un predatore o quanto è difficile rincorrere un predatore o che cosa può succedere se cadete in acqua con un metro e venti di capelli che vi finiscono sulla faccia il fatto è che gli antichi ci dicono che i capelli lunghi piacevano a quelli lì così come noi facciamo i cani con la coda ricciolo con... volete un altro esempio di un animale artificiale? la pecora la pecora è il vello che cresce all'infinito non c'è ovino in natura che abbia il vello che cresce all'infinito il vello serve poi prendete una pecora e mettetela in natura lo sapete che a un certo punto se cade a terra non si alza più per il peso del vello? non si alza più, non riesce è un animale artificiale come il lama dall'altra parte del mondo altro animale che ha il vello che cresce però appunto in natura prendete i camosci che vivono al freddo hanno il vello che è così a che cosa serve il vello della pecora se non a chi lo taglia e lo usa per? visto che la pecora morirebbe subito se lasciata in natura cioè le gli elementi circostanziali che supportano le testimonianze testuali sono tali e tanti io poi vi ho citato il grano e la patata ma se voi seguite gli studi del per esempio il mais il mais in natura non può esistere da solo dopo due anni scompare scompare il mais deve essere seguito da qualcuno e poi tutta una serie di eventi genetici che sono avvenuti sul fico, sulla vita tutti casuali tutti casuali compresi come compresi tutti quegli eventi genetici che hanno portato al processo di encefalizzazione dell'uomo sapiens tutta una serie di eventi che sono accaduti solo solo nella nostra linea evolutiva e da nessun'altra parte tutti elementi casuali ma tutti perfetti cioè tutti che sono andati nella stessa direzione prego perché c'è stata una sottivisione di alimenti in diversi colore probabilmente probabilmente perché si partiva da quel che c'era lì e per fatti climatici perché lì la patata per esempio esisteva ma non era commestibile cioè finché il suo DNA non si univa con quello dell'agribacterium che ha ceduto il 100% del suo DNA non era commestibile quindi hanno fatto altro che prendere il tubero non commestibile unirlo con il 100% del DNA di questo agribacterium ed è diventata commestibile cosa che in natura non avviene tant'è che appunto nell'articolo c'è scritto come avviene con gli OGM in laboratorio perché l'accessione del 100% del DNA e la sopravvivenza dell'individuo non è compatibile queste cose qui le fai soltanto sotto controllo quindi evidentemente hanno preso ciò che c'era nei vari punti e l'hanno modificato ma noi pensiamo per esempio appunto a questi eventi genetici per esempio per il grano uno dice già di per sé sono talmente rari da essere impossibili ma non basta mica questa roba qui è avvenuta proprio nei territori in cui per quanto riguarda la Bibbia c'era il Gan Eden cioè quel laboratorio dove loro facevano quelle cose lì diciamo che invece è avvenuto casualmente in natura cioè nelle immense praterie della Mesopotamia una spiga di farro selvatico subisce una mutazione che normalmente l'avrebbe portata a estinguersi però sopravvive che vuol dire che invece di avere 3-4 chicchi ne ha 7-8 perché poi questa è la realtà tra l'altro noi lo sapete adesso vabbè ormai le commissioni sono talmente tali e tante ma noi per molti anni abbiamo mangiato nel secondo dopoguerra grano irradiato dal CNR della Toscana irradiato con i raggi X proprio per rendere le spighe belle cicciotte, belle produttive ok? poi ci diciamo ah no gli OGM non li vogliamo ce li siamo mangiati per decenni vabbè allora succede che quella spiga nelle immense praterie della Mesopotamia invece di avere 3 chicchi ne ha 8 passa di lì uno di 10.000 anni fa la vede, dice fermi tutti quella spiga lì non la mangiamo la prendiamo la teniamo da parte al momento giusto seminiamo gli otto semini li curiamo già conosceva le leggi di Mendel evidentemente li seminiamo l'anno prossimo ci sono otto spighe non le mangiamo prendiamo gli otto semini capite che gli eventi impossibili sono talmente tanti da essere veramente impossibili veramente impossibili cioè queste cose avvengono perché sono state fatte sotto controllo perché in natura si sarebbe dispersa immediatamente immediatamente ma la cosa bella è che abbiamo pure coloro che ci hanno detto chi li ha fatti non dobbiamo neanche andare a cercare non dobbiamo neanche inventare basta che facciamo finta che sia vero ciò che ci hanno scritto gli antichi tutto lì ma ci vuole tanto? perché partire appunto dal presupposto che ciò che ci hanno scritto gli antichi sono favole ma sono state datate fino a 25 anzi anche molto di più ma rimaniamo cauti fino a 25.000 anni fa delle miniere d'oro in centro Sudafrica ma chi è che 25.000 anni fa scavava l'oro in Sudafrica? ma se voi andate in giro per un fiume e vedete una pagliuzza d'oro cosa ne fate? la prendete ve la portate a casa la mettete in una provetta in una vetrinetta ve la tenete lì voi pensate 25.000 anni fa uno di questi che appunto lavoravano ancora con le pietre vede una pagliuzza e dice aspetta un attimo adesso la piglio la tiro fuori da quel minerale nel quale è inserita poi mi dovrebbe spiegare come ha fatto ne vado a cercare alcune centinaia o migliaia di altre le metto tutte assieme le faccio fondere poi ne faccio? cosa ne faccio? cosa ne faccio? niente cioè se venisse a mancare l'oro nella nostra vita quotidiana non cambierebbe nulla salvo ciò che usiamo per la tecnologia fine cioè l'oro serve a quelli che conoscono la tecnologia fine addirittura la tecnologia delle nanoparticelle allora lì sì che serve ma tutti i popoli antichi tutti di nuovo ci parlano della età del loro che era l'età in cui gli uomini e gli dei camminavano assieme e l'oro serviva agli dei di nuovo abbiamo la spiegazione perché a noi l'oro non serve niente non sapremmo neanche come tirarlo fuori no? per farlo fondere bisogna produrre 1064 gradi mettetevi lì con della legna a fare 1064 gradi cioè questi sono ragionamenti normali il problema è che ripeto abbiamo pure le teoriche risposte cioè c'è chi ci dice chi lo faceva e perché lo faceva ma noi per principio dobbiamo dire che non è vero perché non ci piace pensarlo perché noi preferiamo pensare che c'era un dio dico nel nostro recinto che c'era un dio che era lì tranquillo da solo poi a un certo punto decide che s'annoia fa così e crea l'universo poi fa passare diversi miliardi di anni e dice aspetta un attimo faccio uno che mi ami e mi serva e fabbrica l'uomo dice però faccio una cosa gli do delle regole se poi non le rispetta lo punisco già sapeva che non le avrebbe rispettate ovviamente e cosa faccio per punirlo? dunque l'uomo lo creo eterno e se lo punisco lo faccio diventare mortale il concetto di eternità nella Bibbia non c'è esattamente come non c'è il concetto di Dio ok? il termine che viene tradotto con eternità che è Olam nel dizionario di ebraico e ramaico biblici della società biblica britannica c'è scritto non tradurre con eternità non tradurre con eternità come lo trovate sempre tradotto? eternità ok? allora faccio questo qui questo qui ovviamente disubbidisce alla faccia del libero arbitrio Dio ci lascia liberi alla prima decisione autonoma che Adamo ed Eva hanno preso gli ha fatto un fondello così meno male che ci lascia liberi pensate se non ci lasciasse liberi poi passano e dice adesso voi diventate mortali ah in quei testi ebraici c'è scritto che Adamo ed Eva erano mortali di per sé perché erano esseri viventi quindi il fatto che siano diventati mortali dopo il peccato originale che nella Bibbia non c'è è un'altra falsità teologica comunque vabbè diventano mortali poi passano alcune migliaia di anni nei quali muoiono appunto migliaia e migliaia di persone poi dice no adesso voglio dare la possibilità di redimersi cosa posso fare? ma si mando giù mio figlio che non sapeva di avere ovviamente perché c'era lui solo mando giù mio figlio e per fare mio figlio cosa faccio? metto incinta una giovane ragazza facendo in modo però che rimanga vergine per sempre perché altrimenti sembra brutto poi così lei lo fa nascere passano un po' di anni il mio popolo lo piglia lo massacra lo uccide pensate il mio popolo lo piglia lo massacra lo uccide io lo faccio risuscitare e così salvo tutta l'umanità voi pensate di raccontare questa storia a uno che arriva da un'altra dimensione che non sa nulla secondo voi come vi guarda? cioè veramente come vi guarda? dici ma scusa sei convinto di quello che mi stai raccontando? eppure è la storia alla quale noi dobbiamo credere se ti provi a dire che l'universo può essere abitato da altri individui sei un idiota veramente invece questa storia qui va bene questa storia qui va bene prego a me sfugge anche il senso e il fine di questo asceticismo aggretivo la asceticismo perché non è solo a livello di un gruppo di potenti che nel tempo si sono tramandati in potere diciamo allora il reggito forse ce l'hanno innescato anche a livello neurale si nel libro resi umani ho riportato dei brani di un libro di una cabalista dove dice che il condizionamento per quanto riguarda loro nasce nel momento della gravidanza e nasce nel costruire i circuiti neuronali e quindi bisogna capirlo per allora se uno vuole liberarsi da un recinto deve intanto capire che c'è perché altrimenti non viene neanche la voglia di uscirne esattamente altrimenti non viene neanche la voglia di uscire poi è chiaro che ci scherzo sopra ci scherzo sopra perché penso a tutta la storia e a tutta la violenza con la quale queste non verità sono state imposte e allora mi permetto di scherzarci sopra ricordi però il discorso che ho fatto sulla fede all'inizio chi ha una fede in un Dio se la tenga l'importante è non perdere tempo a cercare Dio in quel libro lì solo questo voglio dire perché in quel libro lì non c'è nel senso che se uno ripone la fede in quel libro lì si sente anche dire dagli ebrei cosa centri tu quello lì ha parlato a noi non a te scusi eh sto dando il tuo impropriamente ma ha parlato a noi tu non centri niente tu non fai parte del patto non fai parte del patto quindi tu Dio cercatelo da un'altra parte se lei legge le interviste che erava Riccardo Di Segni rabbino capo della comunità ebraica di Roma ha rilasciato il Corriere della Sera dice quando è venuto il Papa che quando si incontrano sono baci a bracci perché ovviamente la gente non deve capire che non sono d'accordo su nulla il Papa voleva parlare di teologie e io gli ho detto no tu ti tieni la tua e noi ci teniamo la nostra ma di questa cosa qui non viene data notizia pubblica perché altrimenti la gente si pone delle domande dice ma come questi qui partono dallo stesso libro no? e hanno due teologie diverse certo che hanno due teologie diverse perché quel libro lì riguarda solo gli ebrei non gli altri non gli altri e su questo gli ebrei sono molto chiari voi non centrate nulla e tant'è che quando si parla appunto non so quando è stata clonata la pecora Dolly e sono stati intervistati teologi filosofi bioetici eccetera sono stati intervistati anche dei rabbini e il professor Safran che è docente di etica medica all'università ebraica di Gerusalemme ha detto la clonazione ma che problema c'è? la Bibbia la conosce da 4.000 anni basta vedere come sono venuti al mondo per loro non è un problema è per noi che è un problema per loro no per loro no in questo sito lì che ho detto prima se no? il giorno che io morirò eccetera c'è scritto che la Bibbia parli di ingegneria genetica gli ebrei lo sanno da sempre attraverso il Talmud lo sanno da sempre ma nella Bibbia è chiaro ma noi non lo dobbiamo credere vero quindi quando leggiamo quelle cose lì noi dobbiamo pensare che è un'allegoria che è una metafora no? ci hanno raccontato come sono avvenute le cose e ce l'hanno raccontate come ce l'hanno raccontate altri e questo è il fatto no? perché dice vabbè è un'invenzione di quello lì no? supponendo che la Bibbia abbia un autore non c'è un versetto uno della Bibbia di cui possiamo dire sappiamo che l'ha scritta quello lì non ce n'è uno neanche del Nuovo Testamento attenzione ma questo a livello chi è? ha scritto la Bibbia ma il problema è che ci sono stati con le pratiche degli Elohim siamo stati con un condizionamento molto pesante chiedo scusa chiedo scusa le domande le facciamo più tardi grazie ah ok sì allora si sono comportati da normali governatori colonizzatori noi cosa abbiamo fatto con le colonie è esattamente la stessa cosa infatti siamo a immagine e somiglianza siamo a immagine e somiglianza quindi in realtà quando noi ci troviamo di fronte a quelle cose lì ci sentiamo anche dire se voi leggete gli studi dei rabbini per esempio loro dicono che il racconto della Genesi quindi con quello con Adamo e Deva eccetera non è nato in Palestina ma è nato in Mesopotamia tant'è che il libro della Genesi è una coppia rielaborata in sostanza di tre opere sumero accadiche l'Enuma Elish l'Atrasis e l'Epopea di Gilgamesh bene un'altra cosa che ci è stata detta e anche qui con una bravura incredibile è che allora se la Genesi è la coppia rielaborata di quei testi quei testi sono favole, mitologia la coppia rielaborata è verità ispirata da Dio o no? non ci viene detto così? l'originale è favola la coppia è verità ispirata da Dio cioè voglio dire non è un ragionamento da sapienti è ragionamento dall'uomo della strada o come ha detto quel docente universitario dell'Università di Napoli il biglino è un mentecatto qui è pubblico il biglino è un mentecatto quindi sono ragionamenti da mentecatto a me va bene perché i mentecati sono liberi di dire quello che vogliono quindi figuriamoci mi ha sdoganato ma per dire no? com'è possibile che l'originale sia una favola e la coppia rielaborata sia verità ispirata da Dio? eppure anche questo hanno fatto passare l'originale c'è la qui eh esatto eppure anche questo ci hanno fatto credere e noi lo crediamo ah si ma i racconti somerocadici sono miti invece la Genesi è coppia di quelli là che tra l'altro quindi è la parte che ha più probabilità di essere vera proprio perché non è prodotto originale degli autori biblici ma corrisponde avete sentito prima Enrico che ci parlava di queste produzioni extra uterine no? esattamente ecco quindi vuol dire che di queste cose qui cioè dell'ingegneria genetica ci hanno parlato tutti ma noi dobbiamo continuare a far finta che non sia vero che siano soltanto delle favole ecco questo io trovo assolutamente inaccettabile così come noi abbiamo dicevo prima del confronto con le psicosette noi non leggiamo la Bibbia la Bibbia ci viene è un libro di cui non sappiamo nulla ripeto è un insieme di libri di cui non sappiamo nulla cioè abbiamo dei papiri dei codici scritti ma chi li ha scritti esattamente quando li abbiano scritti non sappiamo niente non sappiamo come fossero letti in origine l'unica certezza che abbiamo è che le coppie che abbiamo noi sono diverse da quelle scritte in origine perché ogni volta che si trova un pezzettino più antico si vedono le differenze e quindi ogni volta che la ricopiavano la cambiavano noi abbiamo una delle Bibbie possibili cioè noi abbiamo sostanzialmente quella che deriva dal testo masoretico di Leningrado che per esempio rispetto alla Bibbia scritta in greco in Egitto nel terzo secolo avanti Cristo ha circa un migliaio di varianti ma quella è la Bibbia vera per gli ortodossi per noi la Bibbia vera è un'altra un migliaio di varianti per noi i libri dell'antico testamento da credere veri sono un po' più di 40 per gli ebrei sono un po' più di 20 se noi fossimo nati sempre là in Medio Oriente ma invece di nascere in Israele diciamo nascessimo un pochettino più a nord in Samaria diciamo così i libri da credere veri sarebbero 6 quindi un po' più di 40 un po' più di 20, 6 se noi fossimo tra i cristiani copti ci sentiremmo dire che i libri da credere veri sono più o meno quelli che hanno gli ebrei più altri libri che non sono veri né per gli ebrei né per i cristiani questa è la Bibbia non sappiamo niente non sappiamo niente che va bene nel senso che è come per tutti gli altri testi dell'antichità ed è per questo che bisogna considerarla così così non un testo ispirato da Dio perché veramente altrimenti sarebbe veramente un dramma veramente un dramma perché abbiamo un sacco di Bibbie diverse ma anche col Nuovo Testamento abbiamo migliaia di codici e non ce ne sono due uguali non ce ne sono due uguali non sappiamo chi le ha scritto cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono nomi che ha dato alla tradizione non sono quelli che hanno scritto i Vangeli che abbiamo noi e poi ci sono alcune altre decine di Vangeli che noi non dobbiamo assolutamente credere veri ma per esempio nel protovangelo di Giacomo c'è scritto che quando Maria dopo essere visitata da Gabriele rimane incinta e Giuseppe torna da una sua campagna di lavori durata sei mesi la trova incinta e si arrabbia e dice ma chi è che mi ha fatto questo? cosa dico io adesso al mio padrone al mio signore che me l'ha affidata? cosa gli dico? chi mi ha fatto questo? e dice ma è successo a me quello che è successo ad Adamo? guardate questa è una cosa bellissima che aveva una compagna e è arrivato uno e gliel'ha sedotta? tant'è che nella letteratura ebraica extrabiblica Caino è figlio del rapporto sessuale che Eva ha avuto con il cosiddetto serpente non ci sono dubbi su questo i dubbi sono era un rapporto consenziente o ha subito una violenza sessuale? cioè a noi viene raccontata una cosa ma perché è vero il Vangelo che viene raccontato a noi e non è vero quello dove appunto Giuseppe teme tra l'altro addirittura che da Maria sia andato uno che si è fatto passare per un altro pensate quanto è contorta questa storia rispetto invece alla linearità con cui è stata ricostruita per noi però Gabriele va a visitare Maria lei rimane incinta Gabriele poco prima aveva visitato Elisabetta lei rimane incinta ogni volta che gli Elohim visitavano una fanciulla una donna lei rimaneva incinta e spesso scappavano anche dei parti gemellari che in tutta l'antichità sono considerati parti di origine divina l'Evangelo della covalsca a questo punto l'Evangelo? l'Evangelo della covalsca della posizione che Gesù piace alla covalsca preferirei non parlare dei veggenti perché ho in mente i veggenti quando io ero piccolo che veggevano le anime nel limbo di quei poveretti che non erano stati battezzati adesso che da circa 20-25 anni la chiesa ha detto che il limbo non esiste che cosa veggevano quei veggenti e quando la chiesa toglierà il purgatorio che è un'invenzione medievale tutti quelli che vedono le anime nel purgatorio che chiedono suffragi che cosa vedono? ma ci sono anche le stimmate di Natu sì andiamo avanti anche di Padre Pio c'erano le stimmate vabbè stavo dicendo ah sì dei parti gemellari tra l'altro quando si parla di Gesù come di un semidio qui con Francesco Esposito c'è? ah è là, ciao è l'autore di vari libri Francesco Esposito alzati un attimo e con lui facciamo delle chiacchierate che sono su Youtube se qualcuno sente le chiacchierate con Francesco Esposito è lui siamo alla? dodici? dodicesima ok questo qui Giustino Martire padre della chiesa, santo cioè ho citato lui perché viene fuori appunto da queste chiacchierate libretto pubblicato dall'edizione Paoline le due apologie cioè i testi nei quali lui scrivendo all'imperatore Antonino Pio dice ma perché ve la prendete con noi cristiani? voi romani perché? dice in quanto riguarda Gesù noi non portiamo alcuna novità rispetto a quelli che presso di voi sono chiamati figli di Zeus noi non portiamo nessuna novità è uguale ai vostri padre della chiesa, santo se qualcuno ci rimproverasse il fatto che egli fu crocifisso ma anche questo comune ai figli di Zeus annoverati prima cosicché neppure nella particolarità della sofferenza egli sembra essere diverso dagli altri se poi diciamo che è stato generato da una vergine ma anche questo sia per voi un elemento di comune con Perseo quando affermiamo che egli ha risanato zoppi e paralitici e infelici ma anche queste affermazioni in queste affermazioni concordiamo con le azioni che la vostra tradizione attribuisce ad Asclepio dice ma il nostro è uguale ai vostri che cavolo volete oh padre della chiesa santo ma queste sono profonde verità queste sono profonde verità c'è nessuna differenza l'abbè adesso oggi non l'ho portata perché viaggiando in aereo poi mi pesa troppo eccetera quando ho fatto una conferenza in Germania qualche mese fa quando sono sceso dall'aereo a Stoccarda le persone che sono venute a prendermi avevano in mano la nuova Bibbia tedesca, cattolica stampata nel 2018 tutti voi, tutti voi, avete sentito la profezia di Isaia la Vergine concepirà e partorirà un figlio o no, l'avete sentita, no? ok? no? bene io da anni dico che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, profezie che riguardano Gesù Cristo non ce ne sono e che quando trovate una profezia che sembri riguardare Gesù Cristo fatevela spiegare da un teologo cattolico e da un esegete ebreo avrete due spiegazioni completamente diverse e l'esegete ebreo ha ragione quella profezia lì nella Bibbia ebraica non c'è mai stata allora anche qui quando io dico queste cose insulti, vituperi, arrivabiglino bene Bibbia cattolica Germania 2018 quella profezia non c'è più non c'è più perché nella Bibbia ebraica non c'è mai stata l'hanno finalmente tolta perché nella Bibbia ebraica c'è scritto che una giovane ragazza è incinta e sta per partorire e di quella giovane ragazza c'è anche il nome, si chiama Abia allora i preti tedeschi che fino al 31 dicembre 2017 dicevano il profeta Esaia ha previsto la Vergine che dal 1 gennaio 2018 non lo possono più dire perché nella Bibbia non c'è più, ma non c'è più perché non c'è mai stata e quando io dico che faccio un lavoro da cretino e dico guardate che io vi dico c'è scritto questo voi fatene quel che volete dico quella profezia non c'è apriti cielo, non c'è, non c'è per fortuna quindi i preti tedeschi non la possono più predicare, i preti italiani sì vedremo quando la toglieranno dalle Bibbie italiane eh, ma è un dato di fatto vedrete scomparire, se volete segnatevi la data creare dal nulla scomparire eternità scomparire Dio onnipotente e vedrete scomparire tutte queste cose qui perché non ci sono non ci sono così come non c'era quella profezia lì finalmente quella lì almeno i cattolici i vescovi perché quella è una decisione della conferenza episcopale tedesca i vescovi tedeschi l'hanno tolta cattolici eh, non protestanti cattolici ma la cosa più bella sapete qual è? che la Bibbia sapete che è fatta di Antico Testamento e Nuo Testamento quindi alla fine di quella Bibbia tedesca c'è il Vangelo di Matteo che è tradotto letteralmente dal greco dice come il profeta ha predetto la Vergine poi uno va a vedere il profeta e come il profeta ha predetto non c'è più però Matteo non lo possono cambiare perché l'hanno tradotto dal greco e nel greco c'è scritto partenos exai kai texetai cioè ci sono i due verbi al futuro quindi quelli non li possono cambiare ma uno legge come il profeta ha predetto poi va a vedere il profeta e nel profeta non c'è più questa è la Bibbia che ripeto va bene va bene perché è come tutti gli altri libri scritti nell'antichità l'importante è che non ci vengano a dire che di lì si ricavano le verità assolute tutto lì tutto lì quindi chi ha rapporto con Dio continua ad avere rapporto con Dio non parli con Yahweh perché lui si occupa di Israele e basta cioè io me lo immagino Yahweh che dice ma questo miliardo e mezzo di cristiani ma che cavolo cosa vogliono da me ma quando mai io ho detto che mi occupavo di quelli lì quando mai mai fermatemi voi eh Gesù sapete sapete sì venti minuti ok ah vi parlavo prima dei capelli lunghi Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo undici sapete adesso va bene non si usa più immagino ma le donne sapete che dovevano andare in chiesa col capo coperto per rispetto a Dio e Paolo scrive per questo la donna deve portare un segno di copertura sul capo a causa degli angeli non per rispetto verso Dio perché gli angeli i cosiddetti angeli che erano individui in carne ed ossa maschi erano sessualmente attratti dai capelli lunghi delle giovani ragazze e quindi le giovani ragazze che partecipavano alle assemblee comprese quelle nella comunità di Qumran dove anche lì c'è scritto le ragazze che partecipano alle assemblee dove sono presenti i malachim si coprano il capo a loro tutela lo scrive Tertulliano nel De Virginibus Velandis perché quelli non andavano per il sottile erano eccitati sessualmente e se le prendevano è uguale la radice è la stessa copertura cioè protezione della donna poi vabbè viene esagerata eccetera ma la radice è la stessa protezione della donna da quelli lì da quelli lì ed è lo stesso Paolo lo stesso Paolo che dice sapete vi ho detto prima della pluralità del monoteismo inesistente eccetera abbiamo letto quelle cose che dicono non ha senso parlare di monoteismo in una lingua della quale non esiste neppure il termine eccetera Paolo nella prima sì sempre prima lettera ai Corinzi capitolo 8 dice anche se infatti vi sono delle cosiddette divinità nel cielo e sulla terra come di fatto vi sono molti dei e molti signori ma per noi ne conta uno solo c'è Paolo che era della tribù di Beniamino di cultura farisaica lo sapeva bene che quelli erano tanti e lo dice non nelle traduzioni di Mauro Biglino quindi siccome i cristiani devono credere a Paolo Paolo dice che gli dei sono tanti e lo dice chiaramente ma perché lo sapeva e dice però noi ci rivolgiamo a quello lì punto benissimo benissimo è tutto ciò che compare dalla Bibbia tutto ciò che compare dalla Bibbia prima vi parlavo di sette sentite attenzione che ci picchia detto le domande alla fine Gesù e i suoi hanno predicato per alcuni anni non si capisce bene a seconda dei Vangeli varia da 1 a 3 siccome non hanno fatto un'ora di lavoro come vivevano? Luca 8 c'erano con loro anche molte donne Maria di Magdala Giovanna moglie di Cusa amministratore di Erode Susanna e molte altre esse lì servivano con i loro beni se noi parliamo di una setta di adesso dove il guru si fa servire dai beni delle donne cosa diciamo? che è un bel dritto no? cosa volete che vi dica? leggete abbiamo preso il meglio del meglio leggete il Vangelo di Giovanni dove Gesù dice io non prego per il mondo io prego per voi che siete miei amici se fate le cose che io vi dico siete miei amici non prego per il mondo infatti lui si occupava di Israele e a proposito di soldi quando Gesù poi non c'è più quanti possedevano campi o case li vendevano e portavano il ricavato delle vendite mettendolo ai piedi degli apostoli cioè il denaro lo gestivano i capi non è cambiato niente una copia atti degli apostoli capitolo 5 una copia Anani e Saffira decide di fare la furbetta vende un campo e si trattiene una parte dei soldi come succede in tutte le sette il servizio di polizia e di controllo funziona benissimo e Pietro viene a saperlo chiama il marito gli dice Anania ma come hai potuto pensare di fare questo? come hai potuto pensare di ingannare? all'udire queste parole Anania cadde a terra morto arrivano, lo pigliano e lo portano a seppellire nel frattempo arriva la moglie e Pietro con la tecnica precisa di interrogatorio le dice senti un po' Saffira ma è pertanto che avete venduto quel campo? e lei che era d'accordo col marito dice sì sì per quel prezzo Pietro le disse ma perché vi siete accordati? ecco alla porta i passi di coloro che hanno sepolto tuo marito porteranno via anche te e lei muore e la portano a seppellire secondo voi come sono morti questi due? ve lo dice Girolamo quello che ha tradotto la Bibbia in latino per conto di Papa Damaso nell'epistola 109 versetto 3 parla della durezza di Pietro quando uccide Anania e di fatti qui c'è scritto e tutta la comunità ne ebbe terrore non ci si poteva permettere di pensare diversamente il denaro ai capi tutto altrimenti questa era la comunità dove si praticava il perdono fino a 70 volte 7 questi due hanno sgarrato ammazzati Pietro un assassino e se voi leggete i Vangeli quelli che noi non dobbiamo credere veri come la Pistis Sofia o il Vangelo di Maria troverete scritto che Maria di Magdala si sentiva minacciata da Pietro ne aveva paura perché siccome lei era la compagna di Gesù e sapeva più cose di Pietro aveva paura di Pietro e ne aveva ben motivo perché non era uno che andava per il sottile e il padre della chiesa cominciato con due assassini e bisogna rivederla questa storia qui quindi se cercate Dio non cercatelo lì perché perdete tempo cercatelo dove volete non qui vuoi che passiamo alle domande? va vabbè passiamo alle domande va tanto così con le domande eh ok va bene? ok allora se citate due minuti che arriveranno anche gli altri relatori faremo una domanda per ognuno e andremo a sette a giro a proposito di mentre ci siamo che arrivano gli altri se avete voglia trovate una bella edizione italiana del libro dei prodigi di Giulio Sequente libro dei prodigi di Giulio Sequente autore latino che riprende le storie di Tito Livio eccetera e così almeno chiudiamo col discorso terra opera aliena e visto che l'ufologia sembrerebbe una roba di così insomma stupidi moderni voi troverete un sacco di riferimenti ad avvistamenti avvenuti ben prima di Cristo nel 167, 163, 162, 154, nel 137, nel 91, nel 134, nel 106, nel 104, nel 100, nel 94, nel 93 tutto prima di Cristo, tutti avvistamenti di armi nei cieli, di fiaccole volanti di notti che si incendiano, di giù, di sole che viene oscurato ne trovate veramente un sacco allora in attesa di Semos Managic la signora sarebbe venuta per prima può scegliere uno dei relatori a sua scelta va bene grazie 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 buonasera vorrevo è da un po' che mi chiedo si sono qua sono venuta apposta anche per fare questa domanda in realtà. Magari non ce l'ho molto chiara, però cercherò di spiegarvi quello che voglio dire. Noi attualmente stiamo vivendo una situazione mondiale abbastanza, direi, catastrofica, siamo schiavi sostanzialmente e a quanto pare, sembrerebbe quasi che lo siamo, per via di quanto è stato stabilito nei periodi in cui avete, che voi studiate. Volevo capire se gli Elohim sono ancora tra noi, se è una questione che la popolazione, magari i leader, quelli che governano il mondo, i capi ebraici, stanno mettendo in atto un rispetto del patto, degli accordi che hanno stipulato. Insomma, perché oggi si vive una situazione di schiavitù da tutti i punti di vista e che nesso ha con quello che voi avete studiato? Questa è la mia domanda. Grazie. Il nesso è ovviamente la radice, insomma quello che sta succedendo, allora dicevo prima che noi teoricamente con questo libro non centriamo nulla, cioè non dovremmo centrare nulla, in realtà centriamo perché ne siamo condizionati, nel senso che molto più della metà del mondo è governata da quello che c'è scritto in quel libro lì. Ora dirle, se questi sono ancora qui o se governano attraverso degli intermediari, allora la mia risposta è il giorno che si scoprirà che sono ancora qui e che dirigono tutto e non mi stupirò, perché i sistemi sono quelli. Ok? Una domanda per il relatore, quindi se qualcuno adesso vuole fare una domanda, un altro relatore. Buonasera, una domanda forse un po' stupida in questo senso, ma se noi siamo dei prodotti di quelli lì, degli Elohim, e siamo ettore e diretti a nostra stessa insaputa, se effettivamente quanti ci sono, perché non si fanno vedere, dato che hanno un potere così talmente grande da almeno 2.000 anni, se non forse di più. Forse perché ci temono, forse perché ci disprezzano. Perché? Bisognerebbe essere nella loro testa. Diciamo che in genere, questo è un principio che vale sempre, chi ha veramente il potere tende a rimanere nascosto. Perché si governa molto meglio. M. Rosmanović, cosa pensate sull'ora della piramide di Giza, l'ora reale, non quello che gli archeologi dicono a noi. Gli egittologi definiscono l'età delle piramidi di Giza relativa alla quarta dinastia, che è 4.500 anni fa. Non c'è una singola prova che questo sia vero. L'altopiano di Giza ha subito un'alluvione marina perché ci sono tracce di conchiglie e di sabbia del mare. 12.500 anni fa ci fu l'ultimo diluvio. Quando mi dèi anni fa gli ottomani entrarono, irruppero violentemente nelle piramidi di Giza, vi trovarono sale e conchiglie. E questo significa che le piramidi c'erano già durante l'ultimo diluvio. Quindi sono più antiche di 12.500 anni. Sono uno scienziato. Ho bisogno di argomenti scientifici. Abbiamo fatto la datazione a radiocarbonio per le piramidi bosniache perché questo è il progetto più aperto del mondo. E quello egiziano è il progetto più chiuso del mondo. Volevo dire anche il mio pensiero in questo senso. Uno dei pregiudizi dell'egitologia ufficiale e di riflesso anche di tutti quelli che si interessano delle piramidi è di considerare le piramidi come un blocco unico in che è stato costruito e in cui è iniziata la costruzione in una certa epoca e nell'arco di tempo, che alcuni riferiscono 23 anni perché 23 anni è il periodo in cui ha governato Cheop e visto la datazione che è stata riferita, è stata portata a compimento. E in generale, indipendentemente dalla durata dei 23 anni o meno, tutti gli egittologi, perché gli mette comodo e di riflesso chi se ne occupa, fa una domanda di questo tipo. Cioè, quando sono state costruite? Sempre intendendo la costruzione delle piramidi come un qualche cosa che è iniziata in un'epoca e si è conclusa in un lasso di tempo nella stessa epoca. Questo è contraddetto già dalle fonti elleniche, greche, che ne parlano perché Diodoro Sicolo, che è oltre a Erodoto quello che cita quando e come sono state costruite le piramidi con suo massimo imbarazzo, trova delle date da prove documentarie che correlano una costruzione, e ben inteso uso l'indeterminativo, una costruzione, non la costruzione a due epoche diverse. Lui riferisce che una parte risale a circa mille anni prima della sua epoca che è databile alla centottantesima Olimpiade, quindi è una data collocabile intorno al 1040 avanti Cristo. E questa data, per le corrispondenze dei faraoni che vengono citati sia da Erodoto, il Cheops, di che sappiamo, sia da Chemis, che è il Cheope trasposto da Diodoro Sicolo, corrisponde a un faraone della ventunesima dinastia, ma lo stesso Diodoro Sicolo trova delle correlazioni che risalgono a 3400 anni prima della sua epoca. Quindi ribadiamo di nuovo circa 3500 avanti Cristo, e già qui siamo fuori giri perché la scienza egitologica dice che è molto più avanti, 2005, 2007, 2008. Quindi abbiamo prove documentarie greche che non sono da buttare via. Non abbiamo la massima sicurezza, ma qualche documento ce l'abbiamo che collocano a due epoche diverse. Ma, molto presumibilmente, i locali interni della piramide, quelli costruiti in granito con dei blocchi da 70 tonnellate, sono estremamente più antichi. E in questo concordo con quanto ha detto Semir. Quindi ci sono dei file di riferimento di eziologie diverse che la collocherebbero con una struttura per nulla simile a una piramide, ma presumibilmente a una torre, che è stata inglobata, costruita in una data molto lontana. Alcuni, ma sono date buttate lì, parlano del 15.000 a.C., quindi al di là anche della data di Boval, che lo riferiva intorno al 10.500. Non sappiamo. Non ci sono datazioni a radiocarbonio sul granito. Sicuramente c'è stata poi, in quest'epoca di 3.500 anni a.C., una trasformazione, un parziale inglobalmento di questa struttura a torre in una formazione a zigurat, a gradoni larghi e alti. Questo ce lo dice leggendo molto attentamente il testo di Erodoto. Aveva una struttura di questo tipo, che poi, tipo zigurat, gradoni larghi e alti. E successivamente, nel 1040, ventunesima dinastia, è stata fatta la costruzione definitiva, con la trasformazione a gradoni stretti e le lastre successive, che gli hanno dato l'aspetto assolutamente liscio. Non dimentichiamo che il nome che gli ebrei davano all'Egitto era Mitzraim, che è un plurale, dove la Im è la desinenza del plurale, come nel caso di Elohim, che vuol dire le due torri. Dove fossero queste due torri, non è dato sapere. Alcuni hanno ipotizzato che fossero delle torri di segnalazione, una nella zona di Alessandria, altra nella zona di Siene, dove c'è il lago Nasser adesso, di Aswan, ma sono supposizioni, perché queste due torri potrebbero essere vicine. Potrebbero essere un riferimento antichissimo alla struttura a torre vecchia di migliaia e di migliaia di anni, che ha subito due inglobamenti successivi. La sfinge è un altro grosso problema, sicuramente non aveva in origine il volto umano, era presumibilmente un volto di leone che in una certa epoca è stata riscolpita e gli hanno dato il volto umano. In origine non era quel fossato, era con una struttura diversa, quel fossato hanno trovato dei rivoli di acqua, quindi effettivamente ha subito un'inondazione. Diciamo che il tema del leone seduto rientra, non so se vi ricordate, il gioco del Mehen, come, diciamo, con grosse coinvolgimenti per quello che riguarda l'aldilà, il duati, il mondo dei morti, i due leoni accovacciati erano i custodi, gli achero, erano i custodi del duat. E qui si apre un grosso capitolo, ma di sfinge a Giza, ce n'era una, ce n'era due. Erano di materiali diversi? Una si è deteriorata perché era più fragile? Una c'è, forse è sepolta? Qui le domande non sono facili, sicuramente, ma apre un ventaglio di ipotesi estremamente interessanti. Io non so se questa mia domanda è per il professor Biglino, presumibilmente, o per il dottor Baccarini. Comunque, siccome lei più volte ha detto, il professor Biglino, che il Gan Eden era luogo fisicamente recintato e protetto, questa dovrebbe essere la traduzione. Tanto è vero che quando fu, diciamo, elusa la sorveglianza, furono prelevati i file da Adamo ed Eva, si aumentò questa protezione. Le risultate, se ci sono ancora residui fisici, archeologici, di questo luogo recintato e protetto, che era abbastanza ampio? No, di questo qui, in particolare, non mi risulta. Cioè, che ci siano lì dei reperti, che è un qualcosa che fa pensare, però questo poi non coinciderebbe con le datazioni di Adamo ed Eva, che un Gan Eden, per esempio, potesse essere l'attuale Gübekli Tepe, su cui lì c'è ancora molto da scavare, ma questo potrebbe essere un qualcosa di riconducibile a loro. Poi bisognerà, perché visto il periodo in cui è stato chiaramente abbandonato e sepolto artificialmente, cioè lì, chi l'ha lasciato, l'ha lasciato coprendolo, e poi bisognerebbe analizzare, appunto, le eventuali discordanze, qualora fosse quello di Adamo ed Eva, cosa che quindi farebbe pensare che non fosse quello. Però, di Gan Eden, per esempio, parla anche Omero, quando parla di quello dei Feaci, che aveva le stesse caratteristiche di quello biblico, quindi questi ne dovevano avere, insomma, alcuni sparsi sul pianeta. Per quanto riguarda la situazione indiana, diciamo, è totalmente diversa, perché a differenza di delle tradizioni ebraiche, sumere e quant'altro, ad esempio, nell'induismo, non c'è un atto creativo dell'uomo, non c'è un dio o divinità che creano l'uomo o gli uomini. Il riferimento interessante è nel Baviscia Purana, si chiama che uno dei Purana maggiori, dove viene fatto un distinguo e questo può anche specificare meglio quello che diceva Mauro prima, cioè che ci fossero diverse realtà e diversi tipi di interazioni su tutto il pianeta, perché nel Baviscia Purana si racconta la storia degli indiani e dicono noi esistiamo da sempre, non siamo stati creati nel senso sumero o ebraico, ma raccontano la storia di quelli laggiù, cioè a Occidente, e dicono i Mleccia, cioè gli stranieri, quelli che non appartengono al mondo indiano, raccontano la storia di Adama e Aviavati che sono stati creati da un dio, per cui è curioso e soprattutto, ripeto, giustifica diverse realtà e diversi tipi di interazione in varie zone del pianeta. Sì, allora, probabilmente stasera qualcuno vi vede come i cavalieri dell'Apocalisse, però io credo che siete degli angeli rivelatori, quindi voi girate adesso. Volevo farvi una domanda di carattere generale. Come percepite l'interesse della gente oggi? C'è un risveglio del pensiero? Le persone sono disposte rispetto a qualche anno fa a farsi togliere il velo che hanno davanti agli occhi? Vedete che c'è un maggiore interesse? Oppure praticamente come sarà la reazione da parte degli altri contro di voi? Grazie. Inizio io velocemente. La reazione degli altri verso di noi si può dire che negli ultimi mesi o anni penso di non essere contraddetto è sempre peggio. Cioè i detrattori sono sempre di più. Poi nessuno di noi ha la verità. Nessuno di noi ha la verità. Ognuno, nel suo piccolo, nel suo grande, porta... Il dubbio sicuramente viene instillato e la reazione delle persone è sempre maggiore perché comunque sia leggendo, studiando letteralmente la storia come testi sacri ovviamente si acquisisce una migliore conoscenza di quello che è la nostra storia e il nostro passato. Per cui cadono dei veli di maia usando un parallelismo indiano che ci hanno messo addosso ormai da quasi duemila anni. Per noi è sempre maggiore il numero di persone che ci sono. Molti nemici, però anche molti amici. Molti nemici, molto onore. E poi ho anche pensato di Mauro perché lui è soppantato. La storia dell'umanità per gli ultimi 7.000 anni è come una piramide. Meno dell'1% possiede la maggior parte delle risorse. Il 99% si cerca di raccapezzarsi nella vita quotidiana. 5.000 anni fa e oggi è esattamente la stessa cosa. In cima alla piramide umana c'è una civiltà più avanzata che ha fatto sì che noi generassimo energie negative attraverso la paura la violenza la violenza la gelosia quindi la questione in realtà è come possiamo rimuovere questa sofferenza come possiamo diventare liberi come possiamo sviluppare le nostre capacità spirituali per poter raggiungere un equilibrio tra l'aspetto fisico e l'aspetto spirituale della vita. veniamo educati veniamo educati sono come una spirale più sale e più c'è pressione quindi per mantenerci sotto controllo non si preoccupano se devono fare un'altra guerra dobbiamo liberare noi stessi Allora sì ovviamente i nemici sono parecchi come è normale che sia e voglio dire quando ci si occupa di temi così sensibili e i tentativi di difesa insomma del passato sono continui sono sempre più virulenti però l'aumento dell'interesse delle persone è esponenziale cioè questa cosa qui non si ferma più non c'è niente da fare cioè possono fare quello che vogliono possono passare siccome hanno visto che dal punto di vista dei contenuti del lavoro non ce la fanno quindi passano all'attacco alla persona eccetera hanno già perso si devono rassegnare Una cosa molto bella è che dopo nove ore che siete qui siamo ancora tutti qui insieme noi a parlare e voi ad ascoltare vi siete passati un sabato dalla mattina al pomeriggio ed è la migliore diciamo cosa che noi abbiamo fatto noi abbiamo soddisfatto una cosa grazie a voi devo sottolineare che questo interesse è sempre più crescente è anche un onore e un onere perché molto spesso con l'incremento dell'interesse con l'incremento anche del numero di persone che sono sempre più interessati a certi argomenti deve necessariamente migliorare e mantenersi sempre elevata la qualità del lavoro di ricerca perché molte volte capita che ci sono ricercatori che non hanno la sufficiente capacità per 10.000 ragioni di essere ficcanti di essere precisi e tante volte può succedere che alcuni aspettatori tornino a casa e non sono stato tanto contento il ricercatore non era come pensavo che fosse quindi vuol dire che comunque il fatto di avere un certo seguito che magari uno si è guadagnato bisogna mantenerlo con l'approfondimento e la fedeltà nelle ricerche e direi che in generale il fatto stesso che ci siano dei nemici è in relazione a quanta gente ci segue e alle cose che diciamo più gente c'è più cose che diciamo e possono dare fastidio più aumentano i nemici per esempio io che sono entrato all'arribata relativamente da poco dicevo scherzando a Mauro io tanti nemici non ne ho e lui poco prima mi ha detto aspetta che arrivano professore e qual è l'obiettivo di quelli là nelle apparizioni mariane ci prendono in giro cioè io non l'ho capito e poi se mi può dire qualcosa su ustica allora bisogna evitare appunto nell'ottica della serietà bisogna evitare di fare i tuttologi quindi cerco di evitare di fare il tuttologo l'obiettivo di quelli là è comunque quello ovviamente di controllarci e comunque ci stanno riuscendo anche perché come dicevo prima per avere la voglia di uscire dai recinti bisogna intanto capire che ci sono i recinti e le posso assicurare che appunto mentre aumenta ovviamente in modo esponenziale il numero delle persone interessate vedo che ci sono molte persone che non solo non vogliono ragionare sui recinti ma non vogliono neppure sentirsi dire che ci sono e quindi voglio dire gli ostacoli da superare sono ancora tanti per quanto riguarda Ustica veramente lasciare i peper perché no non faccio il totologo buonasera professore una domanda per lei ho visto un'intervista sua su youtube dove affermava che fra 25 anni potete chiamarmi Mauro Mauro ok mi piace proprio di più va bene non c'è problema dove affermava che fra 25 anni il teletrasporto sarà accessibile e fruibile a tutti ci vuol dire qualcosa in merito qualcosa in più in merito cioè in realtà nel 2004 negli Stati Uniti è già stato registrato un teletrasporto di 100 metri di una persona nel 2004 è stato registrato ufficialmente altra cosa è renderlo di come dire di disponibilità adesso non dico per tutti ma comunque di conoscenza pubblica per questo ipotizzo un 20-25 anni ma nel 2004 c'è già il codice di registrazione di una persona su una strada spostata di 100 metri su internet adesso non ho memoria al codice ovviamente del UA UA eccetera ma c'è l'ho letto tutto grazie buonasera quindi vorrei una domanda per Mauro io vorrei capire nel recinto laboratorio dell'Eden le provette da cui è nato Adamo ed Eva erano già degli Homo Sapiens o dall'uscita di Caino Adamo lì è l'anello mancante per l'evoluzione dell'Homo Sapiens sugli Erectus così ne approfitto per dire una delle tante cose che non ho detto allora l'Adam è un gruppo speciale gli adamiti sono un gruppo speciale diciamo un gruppo particolarmente perfezionato un gruppo che aveva sicuramente una maggior quantità di patrimonio genetico loro la cosa interessante è che nella Bibbia quando ci viene detto in italiano insomma nelle varie lingue che Dio ha fatto l'uomo con la polvere nella Bibbia non c'è detto questo nella Bibbia c'è detto che l'Elohim fece l'Adam a far fece l'uomo a far fece l'Adam non l'uomo fece l'Adam a far non l'Adam be a far con la polvere così come c'è scritto che fece l'Adam be zelem con lo zelem quindi l'Adam a far sembra il nome di un modello tra l'altro questo modello dice lo pose in Gan Eden e questo Gan Eden lo pose mi kedem che viene tradotto con a oriente in realtà in ebraico non è a oriente ma da kedem e kedem in ebraico ne abbiamo parlato a lungo con Massimo parecchi mesi fa ha un significato originario che è oriente ma perché indica ciò che viene prima cioè quindi è come se avessero posto il modello a far prendendolo da un modello che viene prima da una sorta di matrice che hanno da un'altra parte e questo si collegherebbe con quello che diceva Enrico proprio all'inizio della sua presentazione quando nell'universo ci sono 400.000 specie viventi di cui umanoidi scusa di cui molte sarebbero arrivate qui il che fa pensare ad un l'utilizzo di un modello che poi viene adattato a seconda dei punti in cui lo impiantano ok quindi in realtà un discorso è l'homo sapiens di cui parliamo per esempio nel libro resi umani altro discorso che è quello di cui si occupa la Bibbia sono gli adamiti che sono un gruppo speciale dentro il sapiens lo scopo di che cosa? quello degli adamiti era quello di metterlo dentro i loro laboratori per questo era un gruppo particolarmente evoluto tant'è che quando succede quella roba che non si sarebbe dovuta verificare cioè la riproduzione nel senso che non dovevano riprodursi perché il numero era un numero chiuso che doveva stare dentro il laboratorio quando succede con Eva vengono allontanati e vengono allontanati e lì la cosa bella è che gli Elohim dicono adesso la dama è diventato come uno di noi e lì trovate il plurale addirittura nelle bibbie che avete in casa che non è un plurale maestatico proprio gli Elohim dicono adesso la dama è diventato come uno di noi quindi che non abbia accesso all'albero della vita e qui il discorso si fa un pochettino più lungo ma molto interessante ma lo sintetizzo individui che sono in possesso di tecniche per allungare la vita cioè per agire sui telomeri cosa che facciamo noi adesso che stiamo cominciando a fare sono in grado di allungare la vita cioè di tenere le cellule giovani agendo sui telomeri cioè sulle code dei cromosomi questa roba qui però si fa dentro dei laboratori la cosa curiosa è che gli adamiti vengano allontanati perché non abbiano accesso a quelle tecniche se lei legge l'epopea di Gilgamesh quando Gilgamesh chiede la cosiddetta immortalità che in realtà non è l'immortalità ma è la vita lunga per averla deve fare un lungo viaggio per andare nel posto in cui viene dispensata perché non è che la chiede lì dove è la chiede a Dio e Dio gli dà la vita lunga no per averla bisognava andare lì cioè nei posti dove si praticavano quelle tecniche che è il posto da cui gli adamiti vengono allontanati perché se avessero avuto accesso a quelle tecniche sarebbero diventati veramente incontrollabili ok per lavorare per loro loro si sono fatti una specie particolare da mettere dentro i Gan Eden quelli lì gli adamiti sto parlando degli adamiti di fatti erano loro che avevano la vita lunga di 8-900 anni vita lunga che si accorcia quando dal capitolo 6 della Genesi gli Elohim decidono di non avere più rapporti sessuali con gli adamiti quindi non c'è più apporto genetico da parte degli Elohim il patrimonio si diluisce e la vita degli adamiti progressivamente diminuisce allora un piccolo approfondimento Mauro opportunamente ha citato l'epopea di Gilgamesh il luogo dicono gli assiriologi e anche il Giorgio de Santillana autore dello splendido Murino di Amleto dice che il luogo dove Gilgamesh prende la pianta che gli dà la lunga vita è un posto posto in cielo e qui cadiamo su un discorso già fatto in precedenza sul discorso adam afar nella Bibbia nel versetto compare adam afar be adamah cioè l'uomo terrestre fatto dalla terra c'è una ripetizione che apparentemente è inutile perché la Bibbia non è come noi nel nostro linguaggio molto ridondante una volta che c'è un nome e un aggettivo sarebbe inutile metterlo una seconda volta ma guarda caso la tanto vituperata septuaginta cioè la versione greca in questo caso conferma perché parla di antropon kun uomo terra e poi dice ghe mediante la terra o l'argilla quindi c'è un qualche cosa che fa ribadire un qualche cosa di terra inteso come facente parte della terra come elemento dell'intero pianeta cioè sembra che si stia parlando di una dam terrestre e qui bisognerebbe aprire un discorso che non apriamo perché è enorme ma sul discorso che dem se vi ricordate quando ho fatto vedere quei tre decani con le anfore legate tra loro questa parola che in geroglifico è kent vuol dire ciò che sta davanti e ciò che viene prima vi ricordate che avevo parlato che è del tutto simile alla preposizione inglese before ciò che sta davanti a ciò che viene prima di che dem è la stessa cosa vuol dire ciò che sta davanti e adesso arriviamo a spiegare come si arriva al termine oriente e ciò che sta prima non a caso in questo caso la versione latina della Bibbia dice piantò giardino plantaverat giardino e se non mi viene e dice a principio non è una localizzazione geografica è una localizzazione cronologica che si riferiva a una qualche cosa di prima e che poi è stato fatto successivamente d'altro canto appunto il termine che dem è come l'inglese before ciò che sta prima e ciò che sta davanti perché si arriva a oriente perché per il sistema di orientamento degli ebrei come tutte le religioni che sembra un po' strano o quantomeno le culture che si fondavano sul sole erano molto interessati al sole all'alba quindi si mettevano con le spalle a ovest e con il viso verso est e guardavano il sole nascente quindi in quel momento il sole ce l'avevano davanti e in questo caso stavano guardando verso est questo ha determinato come un processo successivo come si arriva da ciò che sta davanti a a ciò che sta prima di al termine oriente e comunque sia ripeto la forma latina dice a principio usando opportunamente la preposizione mi che è da complemento di moto da luogo non è dentro l'oriente e l'oriente non è Non ci sono mai stato ma ho letto tre libri, ho parlato con le persone che hanno visitato questi posti, non ci sono possibilità di accesso ai tunnel ammesso che esistano. Il libro parla di tunnel da Bucegi al Cairo, il secondo fino a Bagdad e il terzo verso il Tibet. È possibile. Ma dicono anche che l'esercito americano e rumeno stia di guardia al sito. Viviamo in un mondo dove tutto è confidenziale, non è tutto per il pubblico, ma la conoscenza appartiene a tutti noi. Le piramidi d'Egitto sono il retaggio culturale del mondo. Non appartengono al Consiglio Superiore dell'antichità egiziano o al governo britannico. Appartengono a tutti noi. Grazie a tutti, abbiamo sforato ampiamente. Quindi chiedo scusa ma dobbiamo chiudere. l'unica cosa è che Francesco Esposito doveva aggiungere una risposta alla precedente. Sulla questione del Ghanè del Michedem e quindi della Dama Farra, ne abbiamo parlato anche oggi con Mauro privatamente. C'è un riferimento anche nei padri della Chiesa, fra i tanti. Clemente Alessandrino, gli stromati, libro secondo, capitolo 8, si parla dell'uomo che viveva in uno stato di natura, quindi come gli animali, ha ricevuto, quindi è stato inoculato nell'uomo il seme divino, secondo il modello dell'uomo preesistente, secondo quello che era la teoria dei Valentiniani, quindi degli gnostici di Valentino. Quindi anche nei padri della Chiesa è presente questa cosa molto interessante che il dottor Barbetta e Mauro hanno detto. Quindi volevo soltanto incorniciare l'ottima risposta che già hanno dato loro. Grazie. Grazie a tutti.